Ci sono delle comunicazioni del Sindaco, prego Sindaco. Grazie Presidente, buongiorno a tutti, buongiorno a segretario, colleghi e assessori, consiglieri comunali, pubblico presente in sala e pubblico che ci ascolta tramite la TV. Volevo comunicare a questo Consiglio comunale un mio provvedimento datato 14 ottobre 2022 avendo ad oggetto revoca decreto sindacale protocollo numero 23.684 del 19 luglio 2022 e conferimente deleghe ai consiglieri comunali. Il Sindaco, non leggo il visto, decreta di revocare il decreto sindacale protocollo 23.684 del 19 luglio 2022 di delegare ai consiglieri di questo Comune di seguito elencati le materie a fianco di ciascuno riportate. Consigliere Pietro Paolo Marciano, delega a lavori pubblici e urbanistica. Consigliere Gennaro Russo, delega a sport e manutenzione degli impianti sportivi. Consigliere Francesco Crispino, delega a cultura e pubblica istruzione. Consigliere Michele Pizza, delega a rapporti con gli enti e le società partecipate. Consigliere Nicola Comite, delega a manutenzione strade, viabilità, cimitero. Consigliere Giuseppe Cammarota, delega a rete urbano ed igiene urbana. Consigliere Mario Pesca, delega a contenzioso. Consigliere Giancarlo Sant'Angelo, delega a manutenzione edifici scolastici ed altri immobili comunali. Consigliere Maurizio Abagnale, delega a mobilità e sicurezza urbana. Consigliere Rosario Bruno, delega a servizi inerenti alla disabilità, rapporti con il centro sociale poliparente e politiche di integrazione. Di precisare che l'attività dei consiglieri delegati sarà caratterizzata unicamente da finalità consultiva e collaborativa con il Sindaco, non potendo comprendere l'assunzione di atti, a rilevanza esterna e l'adozione di atti di natura gestionale diretta. Comunico a questo Consiglio Comunale che con protocollo 32870 del 19 ottobre 2022 alle ore 11.38, il Vice Sindaco e Assessore alle politiche sociali, centro storico e qualità della vita ha protocollato una nota a vendita d'oggetto Dimissioni dalla carica di Vice Sindaco e Assessore con delega alle politiche sociali, centro storico e qualità della vita Leggo quando riportato dalla stessa Io sottoscritto da Renzo Maria Giovanna, Vice Sindaco in carica e Assessore con delega alle politiche sociali, centro storico e qualità della vita Con la presente comunico le mie dimissioni da detta carica Tali dimissioni sono tendenti irrevocabili e per gravi motivi strettamente personali Ringrazio il Sindaco per avermi affidato questo incarico di grande responsabilità che è stato un onore ricoprire Incarico istituzionale che è stato condotto con il massimo impegno, trasparenza e disponibilità con l'unico obiettivo di operare per il bene e lo sviluppo della nostra comunità Ho cercato di collaborare con pieno senso di responsabilità con tutti gli assessori Consiglieri, dipendenti comunali, in particolar modo dei servizi sociali Volontari delle associazioni, ai quali tutti va il mio sentito ringraziamento per l'affattiva disponibilità dimostrata nei miei confronti Ringrazio infine la Giunta, alla quale auguro di proseguire al meglio con gli impegni del programma elettorale e il Consiglio Comunale per il breve percorso condiviso A tutti auguro un buon proseguimento delle attività istituzionali Agropoli, 19 ottobre 2022 Cordialmente, Dottoressa Maria Giovanna De Renzo A riguardo invito questa assise e invito anche i sociali e i media di rispettare la volontà del Vice Sindaco Dottoressa Maria Giovanna De Renzo e di ritenere, credetemi, le scelte dovute a problematiche strettamente personali Gravi Ho parlato con la stessa, ieri sera, ho parlato nei giorni scorsi Continuerò a parlare con la stessa, la incontrerò dopo questo Consiglio Comunale Avevamo esposto, io personalmente, tutti i miei colleghi di Giunta Il massimo spirito collaborativo, il massimo vicinanza La problematica familiare è seria, vi chiedo di rispettare Vi chiedo di non strumentalizzare queste decisioni per quanto possibile Perché l'operato della Dottoressa sia nei 5 anni della precedente amministrazione Perché in questi mesi di attività penso che sia sotto gli occhi di tutti E' un elemento fortemente importante di questa amministrazione E' stato e la perdita è sicuramente forte, ce ne dispiace tanto Ma vi ripeto, avrò un colloquio successivamente a questo Consiglio Comunale con la stessa E eventualmente renderò conto dell'esito di questo colloquio Grazie Scusatemi, era la Dottoressa Serra che diceva che faceva un po' tardi E quindi è giustificata nell'assenza, per ora Passiamo quindi al primo punto, all'ordine del giorno Interrogazione e interpellanza del Consigliere Gerardo Santososso Al Sindaco su pagamento, bolletto, energia elettrica, barri storo, cineteatro De Filippo Prego, Consigliere Santososso Buongiorno a tutti, sono felice di rivedervi Allora voglio fare prima una domanda sempre inerente al cineteatro E vorrei capire se tra le alienazioni che sono state messe in campo Sia dall'amministrazione precedente e sia da quella attuale C'è per caso anche il teatro di Agropoli Con l'annesso cinema e barri storo Questa domanda nasce dal fatto che Il responsabile di Mecanè a cui ha affidato il cinema Mi disse che nel cineteatro il sottoscritto non lo voleva E non mi faceva entrare se andavo nel cineteatro Perciò dico Questo teatro è stato alienato Se l'è comprato Mecanè Fatemi capire Vabbè, questa era la domanda Poi mi rispondete Passiamo all'altra Leggendo l'ordine del giorno Mi sovviene che questo consiglio È basato molto sullo spreco di soldi pubblici Infatti Ragazzi mi siede perché io sono in ospedale Allora Soldi pubblici si intende Il patrimonio monetario Delle pubbliche amministrazioni Presente sul territorio nazionale Cioè Stato, Regioni, Provincia, Comuni E la principale fonte di approvvigionamento È data dalla riscossione delle imposte Si utilizza l'aggettivo pubblico Chiaramente Perché i soldi che derivano dalla comunità Devono ritornare Ad essa Nella forma di servizi E cioè L'istruzione scolastica Il sistema sanitario I trasporti E così via Quindi i guadagni ottenuti con le tasse Non appartengono alla pubblica amministrazione Non sono dunque privati Ma devono essere indirizzati A soddisfare I bisogni di coloro che risiedono nel territorio E questo È assodato Questo circolo vizioso Si chiama Principio di progressività Il principio di progressività È datato dall'articolo 53 della Costituzione Esso recita Che l'imbosta che i cittadini Anche stranieri Sono tenuti a versare È proporzionale all'aumento Della loro possibilità economica In altre parole L'imbosta cresce Con il crescere del reddito La difficoltà Che spesso questo principio Di progressività viene a cadere È dovuta a condotti Di soggetti Che deviano Il denaro Verso altre strade Cioè Alla cattiva gestione Delle risorse Allo spreco In questo caso La pubblica amministrazione Non solo ha speso Molto di più Di quando ha guadagnato Ma soprattutto Ha impiegato male Il denaro pubblico E così facendo Ha danneggiato la popolazione E quindi i servizi Non dati Però Oltre alle imposte dovute La tipologia delle entrate Che costituiscono La finanza dei comuni Sono tra l'altro I proventi Da gestione Del patrimonio stesso Dell'ente Che è una forma Di investimento Mediante la quale Tramite la sottoscrizione Di contratti Che affidano La gestione Del proprio patrimonio A società Associazioni O a privati Con canale Congessori Menzini Allora È il caso Uno degli asemuli È senz'altro L'affidamento In concessione Del servizio Bar ristora Per l'esercizio Di vendita E somministrazione Di alimenti E bevande All'interno Del cineteatro Edoardo Nulla osta Per il bar Come dice La professoressa Marilena Tiso In un In un post Su facebook Dice Bar Nulla osta E sono anche D'accordo Elegante Tutti rispetto Per il gestore Che forse Ha fatto Li trovo Bello ed elegante Ma Dice La Si La Tiso Dov'è la Secretità Di questo luogo Così O sannato In questa città Il bar Deve essere Fruittore Solo Di coloro Che Entrano Per cinema E per Teatro Il bar Dovrebbe essere Dice sempre La Tiso Al servizio Dei soli Fruitori Di spettacoli Cinematografici E teatrali Ma dove si è visto Dice sempre La Tiso Un bar Nella struttura Teatrale L'ha aperto 24 ore Su 24 Ma il problema Non è proprio Questo E ne parleremo Poco più avanti Voglio parlare prima Dell'iter Che si è arrivato A questa concessione Con la deliberazione Nel numero 342 Del 10 12 2021 Che io ho qua Si detta Apposito indirizzo Al responsabile Del servizio Patrimonio Affinché Revochi Il precedente Avviso Pubblico Protocollato Numero 35 258 Del 25 11 2021 Poiché Non è pervenuta Nessuna offerta E si dà Un ulteriore Mandato A funzionare Per la disposizione Di nuovo Avviso Pubblico Con determina Numero 1476 Del 20 12 2021 Si predispone Un ulteriore Bando di gara E si riscontano Una sola Offerta Di una ditta Individuale Quindi Di un privato Dopo tutte le verifiche Sulla documentazione Prodotta Viene riconosciuta Che la stessa Documentazione È completa E si affida Il servizio Alla suddetta Ditta Individuale Quindi Ripeto Ad un privato In data 10.01 2022 E con determina Numero 77 Del 21 Del 21 01 2022 Si aggiudica Alla sempre Ditta Individuale Che ripeto Che è una ditta Gestita Gestita Da un privato Il servizio Va ristoro Per l'importo Di 10.100 euro Al netto Dell'IVA Per cui Il giorno 11.02 2022 Si stipula Il contratto Di gestione Del servizio Così L'iter È terminato Adesso Il problema È un altro Ancora Con Protocollo Numero 8759 Del 2022 Del 17 Marzo 2022 L'allora Funzionario Del servizio Patrimonio Dottore Giuseppe Laporta Chiede L'installazione Voltura Condatore Utenza Elettrica Del barri Storici Cine Teatro Edoardo De Filio Eccola Risposte Non ce ne sono state Con nota 2023 515 Del 2022 Del 18 Luglio Il Sottoscritto Di Dal nuovo Funzionario Aria Patrimonio La Documentazione Inerente All'installazione Voltura Condatore Dense Lette E Nessuna Risposta Vediamo un po' Eccola A un certo punto Il nuovo Funzionario Risponde E dice Richiesta Installazione Voltura Condatore Utenza Elettrica E barri Storici Ne Teatro Edoardo De Filio Facendo seguito Alla nota Eccetera Eccetera Rimasta Senza Riscontro Si sollecita L'installazione Di un vostro Condatore Per la Misurazione Autonoma Dei Consumi Elettrici Trascorsi 20 giorni Da ricevimento E la presente Senza Che si sia Proveduto A quanto Richiesto Si attiverà La procedura Prevista All'articolo 12 Del contratto Di gestione Per la risoluzione Del contratto Il responsabile Gio Sergio Laureano Nessuno ha risposto Consigliere Per favore Si avvii Alla conclusione Mi dovete Far parlare Che devo Fare Me ne Mandare No Non se ne deve Andare Con nota Numero 23 516 Me li toglie La prossima L'interrogazione Do Nel 18 Luglio Il sottoscritto Sollecito Il comando Dei vigili Urbani Di verificare E' stata attuata L'installazione Voltura Contatore Utenza Elettrica Del barri Store Cineteatro La risposta La risposta Dell'ex Comandante E' questa In riferimento A quanto oggetto Si comunica Quando sei La fornitura Di legge elettrica E' un oggetto Indicato Attualmente A carico Del comune Di Agropoli Complimento Oltre La Tari E' l'acqua E allo Stato Non è stata formulata Alcuna istanza Di voltura Da parte Del Responsabile Della ditta Individuale Per ragione Di verità Dice il comandante Il responsabile Della ditta Individuale Sentito Verbalmente Per le vie Breve Nella sua Descritta Qualità Ha evidenziato Che alcune Esigenze Contrattuale Impone Per il primo Anno di gestione La voltura Del contratto Di fornitura E di energia Elettrica Questo Non è vero Poi Risponderò Più avanti Poi Benizio Stiamo qua Visto Se è vero Come è vero Che non esiste Una voltura Del contatore A nome Della ditta Individuale Chi paga O meglio Chi ha pagato Il comune di Agropoli Da febbraio Ottobre Per circa nove mesi L'energia elettrica La taria L'acqua L'articolo Articolo Articolo Un'indagine Tra i bar di Agropoli Aperti Aperti Dalle sette E ne paga Cinquecento euro Pubblici del popolo Credo Credo che questa Prima domanda Vedete la prima domanda Consigliere Quella dell'alienazione Alienazione Assolutamente no No Vabbè Allora questo individuo Si permette di fare il padrone Nell'ambito Della struttura Consigliere Mi ha risposto Però Adesso facciamo parlare Il sindaco Con un cittadino Normale Consigliere Se lei si vede Leso di qualche diritto Mi pare che la cosa Sia abbastanza grave Se lei si vede Leso di qualche diritto Ci sono le autorità Conventi Non è conoscenza Di questa amministrazione Né della mia persona Di comportamenti Di tal genere Vabbè Questo sì E' chiaro Rispondevo All'indeguazione Alcuni elementi Li ha citati Il Consigliere Sondosorso Con avviso pubblico Del 20 dicembre 2021 Fu risposto Un pubblicato Un bando disciplinare Di gara Per appunto L'affidamento In concessione Del servizio Basi storo Dei servizi Delle aree Annesse di proprietà De Cinediato Edoardo De Filippo All'articolo 7 Di questo bando Di gara Era prevista Spessamente A secondo comma Il canone O anno di concessione A base di gara E di euro 2.400 euro Oltre IVA Comprensivo Delle utenze Acqua e luce Con Successivo Provedimento Del gennaio 2022 Il responsabile Del servizio Stipolò Con La ditta Vincitore La gara Un contratto Di gestione Del servizio Del basi storo Signor Funicello Francesco All'articolo 4 È previsto Che il canone Di concessione Stabilito In euro 841 Veicola 67 Mensili Con nota Con nota Con nota protocollo 26 238 del 12 agosto 2022 Il responsabile del servizio finanziario comunicò al consigliere Santosorso Che nel periodo che in effetti a far data dal 29 marzo 2022 Il comune di Agropoli è titolare delle utenze elettriche dell'intera struttura Cinetreato dei Filippo da quella data Dal 29 marzo 2022 al 31 luglio 2022 alla ditta ERA-COM È stato pagato un importo di 926,57 euro a titolo di utenze Nei mesi di agosto e settembre sono state pagate altre utenze 932 euro, 25 euro, 1920 euro, 290 euro e 320 euro Ciò vuol dire che dal 29 marzo 2022 al 30 settembre 2022 L'ente ha sostenuto costi per l'intera struttura Cineteatro di circa 3.000 euro Facendo un raffronto di 840 euro al mese per 9 mesi Lascio a voi il risultato Penso che il risultato a favore della comunità di Agropoli sia più che positiva Grazie Buongiorno consigliere Velocemente che sei soddisfatto o no Solo se sei soddisfatto o no Caro non ho dovuto riparsi Questo bando disciplinare di gara Non esiste nessuna delibera Che lo impone Questo è un bando di gara Non lo dice il bando Lo dice il funzionario Vabbè consigliere però dobbiamo chiudere l'argomento Il funzionario ha scritto il bando Ma una delibera di giunta in dal senso Non esiste Vabbè Che poi lei mi dice Che l'energia elettrica è stata pagata in 6.000 euro in 9 mesi 2.000 euro Questo non lo credono neanche i bambini Ha detto 3.000 euro Ci sono le fattute Va bene Grazie Grazie consigliere Sando Sosso Comunque mi andrò a prendere Le note dovute Va bene Grazie E poi ditemi una cosa No Consigliere Sando Sosso per favore Ma perché un bar privato il comune gli deve pagare l'energia? Per favore E' previsto dal contratto E' previsto dal contratto Consigliere Sando Sosso E allora se è previsto dal contratto Perché non lo paghiamo anche alle altre imprese agropolesi? Passo Sia l'energia elettrica sia l'acqua Punto numero 2 dell'ordine del giorno Interrogazione e interpellanza del consigliere Raffaele Pesce al sindaco Sulla nomina di un nuovo comandante della polizia locale Prego consigliere Pesce Buongiorno innanzitutto saluto i consiglieri, la giunta e il sindaco Prendo atto delle dimissioni del vice sindaco Assessore Bannadarienzo E mi dispiace perché sono fondate su motivi personali Per i quali ho già dimostrato la mia vicinanza alla persona Oltre che al politico Sul rispetto alla strumentalizzazione Che il sindaco invita Dai quali il sindaco invita ad astenerci Non mi sembra il caso di dare lezioni di stile Sul metodo politico e comportamentale in quest'Aula Perché non credo di aver mai strumentalizzato Né mancato di rispetto alle persone che rivestono il ruolo innanzitutto Ma prima alle persone e poi alle cariche rivestite Quindi mi sembra davvero scontato Innanzitutto il rispetto per la persona e la vicinanza Quindi dire non strumentalizziamo Qua siamo in un'assise politica Probabilmente alcune domande ce le dobbiamo anche fare Ed è normale che se quella è la motivazione E la motivazione è a livello personale Non possiamo che esprimere la nostra vicinanza Almeno la mia vicinanza Al vice sindaco che ha fatto questa scelta E che purtroppo lascia questa amministrazione Quindi la mia vicinanza Per quanto invece riguarda L'argomento che ha l'ordine del giorno Ricordo che la mia interrogazione È del 28 settembre 2022 Perché ricordo la data? Perché in quella data Abbiamo appurato soltanto dai social La volontà di nominare un nuovo comandante E quindi non confermare Non rinnovare la fiducia Al comandante uscente Maggior Maurizio Sergio Cauceglia E perché dico questo? Perché noi il giorno precedente Mi sembra 27 Avevamo Il Consiglio Comunale Parlato di sicurezza Con una interrogazione E una mozione Con una lunga discussione E non mi sembra che fosse una discussione Accesa Ma una discussione Nella quale sia maggioranza E opposizione Si erano confrontati Sulle problematiche Che ci sono Sulla sicurezza E in quella sede Erano state anche espresse Delle note di elogio Nei confronti Del Corpo Vigili Urbani Nei confronti Del Comando Compagnia E Comando Stazione Carabinieri Che saluto Presenti Nei confronti Di tutte le forze dell'ordine Presenti sul territorio Per le varie motivazioni Per le quali il territorio Aveva avuto bisogno Del loro sollecito intervento Ed era stato elogiato Addirittura anche Il Maggiore Cauciglia Io non entro nel merito Ovviamente Delle nomine Né sul piano personale Dei funzionari Che da Capaccio Sono venuti A Scavalco Ad Agropoli A esenza dell'articolo 14 Del contratto Collettivo Di lavoro Enti Locali Mi chiedo Perché non sia stato chiesto Per gli ausiliari Nel corso dell'estate Passata Anche ai comuni vicini Che avrebbero potuto Sopperire Visto che Capaccio C'ha 40 agenti Tra Espettivi Ed ausiliari Avrebbero potuto Anche per quel caso Di ausiliari Che sono mancati All'ex comandante Per questa stagione Stica Quindi è stata una scelta Politica Non offrire Il supporto Di ausiliari Mi chiedo perché Non è stato Richiesto Anche per quel caso Come tutti gli anni Passati L'ausilio Dei comuni vicini Ma mi chiedo Pure Ovviamente Non entro Su personale Perché ho avuto Il piacere Di conoscere Il nuovo comandante Al quale Ho Fornito Le mie congratulazioni Ho avuto Però il dispiacere Di conoscerlo Soltanto per le scale Perché il sindaco Non ha ritenuto Di presentare Il nuovo comandante Ai consiglieri comunali Ufficialmente Quindi per le scale Mi sono presentato Sono Raffaele Vesce Sono consigliere comunale Mi congratulo per la nomina Ovviamente io Ho ufficialmente difeso L'ex comandante Perché A mio titolo Non c'era motivo Per la Per la Destituzione Diciamo così In senso lato Ma le faccio i complimenti Spero che comunque Riesca a gestire bene Il corpo Per il miglioramento Sempre della città Perché noi quello vogliamo Questo mi sembra ovvio Ovviamente anche Mi sono congratulato Con il vice comandante Perché Che conosco Ma non c'entra Il fattore personale Con la mia interrogazione Perché sono persone Validissime Nel loro lavoro Nella vita Le conosco Conosco il vice comandante Sul lavoro Non ho avuto L'opportunità Di conoscere Il nuovo comandante Perché opera Nel comune di Capaccio Ma Staremo a vedere Ovviamente Ma è da persone Civili Presentarsi Avrei preferito Ripeto Che mi fosse presentato Da chi lo ha nominato Ufficialmente Perché io non sono Raffaele Pesce Ma sono il consigliere comunale Raffaele Pesce Mi chiedo ancora Il maggiore Cauceglia Mi chiedo Ha raggiunto Gli obiettivi Che gli erano stati posti E che si era posto Nel 2021 E nel 2022 Li ha perseguiti O non li ha perseguiti Che risorse Ha trovato Al primo settembre Nel 2020 Mi è giunta Notizia Che le risorse Trovate su Peg Ammontavano A 5.000 euro Tanto che Per acquistare Le divise Di cui il corpo Era fornito E avevano divise Veramente Una diversa Dall'altra E anche Nelle manifestazioni Era brutto A vedersi Il comandante Cauceglia Ha dovuto Per la sostituzione Le divise Spendere 5.000 euro Nel primo anno E 14.000 nel secondo Quindi ha dovuto Fare un accordo Per arrivare A una spesa Di 19.000 euro Solo per cambiare Le divise Perché non aveva altro Mi sembra Che abbia anche Tagliato le risorse All'agropoli Servizi E con un risparmio Di circa 70.000 euro 20.000 euro Sono in uso Per i turni Del fine settimana Che ancora Stanno facendo I vigili Ha internalizzato Il servizio Delle contravvenzioni Riducendolo Dalle 7 6, 7, 8 persone Che erano impiegate Prima A due persone Ribadisco Non avete fatto In modo Che avesse Agenti ausiliari Nella scorsa estate E quindi Io non vedo Motivazioni Legittime Sempre da parte Del sindaco Che decide Ma non vedo Motivazioni Proprio Fattuali Per la nomina Per la mancata Conferma Del comandante Cauceglia E allora Perché io subito Scrissi Questa richiesta Innanzitutto Era una richiesta Di documentazione Oltre che Un'interrogazione Perché avevo appreso Soltanto Da stile tv Che ci riprende E alla quale Chiedo la cortesia Di mandare la pubblicità Nei momenti di pausa Non nei momenti Nei quali parliamo Noi consigliere di minoranza Fortesemente Grazie Stile tv Mi chiedevo Prendevo atto Della volontà Di cambiare il comandante Dai social E dagli organi di stampa Personalmente Non riscontro Alcuna motivazione Valida Alla sostituzione Dell'ufficiale Dal ruolo Apicale E ricoperta E chiedo Alla signoria Vostra Rinnovare La fiducia Appunto All'ufficiale Chiedo pertanto Che mi sia consegnata L'intera documentazione Relativa alla sostituzione Dell'ufficiale E dalla nomina Del successore Nel predetto ruolo 28 settembre Ad oggi Non ho avuto Una carta Di quelle richieste Ma comunque Ho preso atto Direttamente Dei provvedimenti Emessi Perché sono successivi Al 28 Quindi stile tv Ha dato Ha fornito Delle Notizie Prima che fossero emessi I provvedimenti Di nomina Vogliamo continuare così A dare prima le notizie Ai social E ai giornali E poi fare i provvedimenti Adeguati Non si chiede Ma dipende da chi le dà Le notizie social Sicuramente non le dà Le minoranze Sicuramente non le dà Le minoranze Che non ha potuto leggere Il provvedimento Come? Io non sto dicendo Sto parlando All'amministrazione Un consiglio di minoranza Se non legge il provvedimento Non può sapere Che esiste Il provvedimento No Sicuramente la maggioranza È consapevole Della scelta E ha fornito Non so chi Personalmente La notizia Vorrà argomentare Sulla nomina Il nuovo comandante Sulla prevedibile Nomina Come prevedibile All'epoca Del vice comandante È corso il prossimo Consiglio comunale Utile E quindi Chiedevo Che rimanesse L'ufficiale In servizio E coglievo L'occasione Per esprimere La mia solidarietà Ringraziandolo Per il suo operato Appunto Allo maggiore Grazie consiglio Grazie consiglio Non ho finito Non ho finito L'argomento È sentito Ed è serio Ribadisco Non entrerò mai Nel personale Perché non è mia Abitudine Però Dobbiamo anche Capire alcune cose Innanzitutto Vorrei capire Se questo Atteggiamento Nei confronti Del Del funzionario Possa portare Ulteriore Contenzioso Sia amministrativo Che Della giustizia Ordinaria Di lavoro Nei confronti Dell'ente Dal momento Che mi è giunta voce Che già I sindacati Abbiano Diffidato A L'ente A ritirare Le A ritirare Le A revocare A revocare Sia la nomina Del vicecomandante Che La delibera Di ridistribuzione Delle funzioni Tra i nuovi Vertici Della Della parte Di gestione Amministrativa Comunale Io Ho fatto Già notare Che Ci sono delle cose Che non quadrano Che L'amministrazione Ha scelto Di Portare avanti E sono Innanzitutto Il comandante Non viene investito Soltanto Del Ruolo di vertice Del Corpo di Polizia Ma Al comandante Dottor Maggiore Antonio Rinaldi Viene data L'area Commercio L'area Attività Produttive Su Porto E Demanio Marittimo Ebbene Per quanto Riguarda Il conferimento Di tutte Queste deleghe C'è Ampia Giurisprudenza Amministrativa Tar Salerno Tar Campania Tar Molise Tar Puglia Consiglio Di Stato Per la quale La giurisprudenza Quindi la giurisprudenza Amministrativa Ha chiarito Che il comandante E la polizia Municipale Non Al comandante Non possono essere Attribuiti Funzioni Proprie Della Ordinaria Struttura Amministrativa Che potrebbero Interessare Istituzionalmente La polizia Municipale Sotto L'aspetto Operativo Di controllo E repressione Di violazioni Faccio un caso Di spero Però consigliere Veloce Ma sono dieci minuti Però consigliere E l'argomento Ma non c'è Ma i tempi I tempi vanno rispettati Consigliere Dobbiamo rispettare I tempi Ne possiamo parlare Quando volete Però dobbiamo rispettare I tempi Ma dobbiamo Rispettare I tempi Non vogliamo Parlarne Di questo argomento Mi dica lei Io devo finire È una reazione Molto importante Perché Queste gli atti Io la prego Di rispettare I tempi Già l'ho raddoppiato Il tempo Anche l'ANAC È intervenuta Con un orientamento Del 2015 Per il quale Sustisse Di ipotesi Di conflitto Di interesse Anche potenziale Nel caso in cui Al comandante Responsabile Della polizia locale Indipendentemente Dalla configurazione E la medesima Si è affidata La responsabilità Di uffici Con competenze Gestionali In relazioni Alle quali Compe attività Di vigilanza E controllo Non può essere Controllato Il controllore Ed ancora Per quanto riguarda Il vicecomandante Al quale ho spesso Sempre Le mie congratulazioni Voglio ricordare Che Il regolamento Regionale Di polizia Ed il regolamento Comunale Quindi il regolamento Regionale di polizia 13 febbraio 2015 numero 1 Che richiama La legge 13 giugno 2003 numero 12 Prevede Un ordinamento Gerarchico Anche per un corpo Non militare Di tipo militare Per quanto riguarda La gerarchia E le funzioni Ovvero Si segue La scala Gerarchica Per i compiti Rivestita Dal grado Ricoperto Il nostro Quindi Il nostro Regolamento Comunale All'articolo 18 Richiama appunto La gerarchia E subordinazione Dice L'ordinamento Gerarchico E corpo È determinato Dal grado Ricoperto Dagli appartenenti E a parità Di grado Dall'anzianità Dello stesso Ricordo ancora L'articolo 23 Del nostro Regolamento Comunale Che non è stato Cambiato Ne sostituito E del vigente Il Ultimo Comma Lettera L Il saluto È sempre Obbligatorio Nei confronti Del comandante E del vice Comandante Ovvero Il maggiore Cauceglia Il capitano Cantarella Il capitano L'altro capitano Napoliello Hanno Obbligo Di salutare Un sottotenente Nella qualità Di vice Comandante Gli è stato Attribuito Ora O equiparate Il grado E nominate Il vice Comandante Tra I funzionari Che ricoprono Il grado Appena Inferiore A quello Del comandante Oppure Facciamo ridere Sta parlando In questa sede Chi è la Vestita Una Uniforme E ha portato I gradi Di ufficiale E non può Vedere Una cosa Del genere Perché Facciamo ridere Senza entrare Sulla Professionalità Dei funzionari Ottimi Funzionari Ma abbiamo Un vice Comandante Che porta Una stella Da sottotenente E due capitani Un maggiore Devono salutare Il sottotenente Ma avete fatto Il militare Non lo so Se lo avete fatto Ma informatevi Sui gradi Sulla gerarchia Militare Che è richiamata Nel nostro Regolamento Comunale Che è richiamata Nel regolamento Regionale E facciamo Seguiamo L'iter Che è previsto Per le nomine Oppure Valutiamo Diversamente Il regolamento Che voi avete fatto Perché in questo Consiglio Comunale Io non c'ero Quando avete Avete formulato Questo regolamento Consigliere Per favore Adesso Si può avviare Alla conclusione Io chiedo Ancora Di revocare I provvedimenti Emessi Onde evitare Eccessivi Contenziosi Nei confronti Del comune Con violazione Dei diritti Dell'ex comandante E evitare Queste figure Che andiamo a fare Anche con le altre Forze dell'ordine Nelle Nelle manifestazioni Ufficiali Perché non è consentibile Oppure cambiatelo Questo regolamento Ma dovete avere Il coraggio Di cambiarlo Il regolamento E dopo Ritornare Sui vostri passi Va bene Grazie Prego Sindaco Grazie 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 Presidente L'argomento è importante Che Pure io Non so dove iniziare Da dove rispondere Vedo Iniziamo Iniziamo da una data 28 settembre Appunto la nota Del consigliere Pesce E soltanto In data 3 ottobre 2022 Sottoscritto Provvede La nomina Dei nuovi responsabili Degli uffici Dei servizi Quindi Concordo con lei Non solo lei Come la I social Stamba Abbia Saputo O abbia messo in giro Queste notizie Ma potrei pure altri Non ho messo in giro Appunto Vero Io ho messo in giro No 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 Io non ho detto questo Non ha detto questo Io ho detto Non so quale Facciamo parlare Per favore Però consigliere Consigliere Quindi Nella seduta Del consiglio comunale Del 27 settembre Io Non Ritengo Che Nessuna decisione Era presa Le decisioni E sono state prese Nei giorni Successivi Poi parto Da un concetto La manovra Di riorganizzazione Amministrativa Che è stata adottata Dalla giunta Che è stata adottata Da sottoscritto È di Generale portata Non ha avuto Ad oggetto Solo ed esclusivamente Il comando Di polizia Municipale Quindi Io Vedo Tanta attenzione Nei confronti Di questo Singolo e unico Provvedimento Ma non ne vedo Altrettanta Per quella Che possa essere Una riorganizzazione Che è nelle Prorogative Del sindaco E della giunta Fare Ricordo a me stesso Che durante la campagna elettorale Alcuni miei competitor Su palchi Su interviste Candidamente Annunciavano Che qualora fossero diventati Loro Amministratori Di questa città I primi provvedimenti Che avrebbero adottato Sarebbero state Quella di una riforma Radicale Della macchina Amministrativa La fatta E sottoscritto È venuta La fine del mondo È stato strumentalizzato Per fini politici Un provvedimento Che Nelle competenze Di questa persona Un provvedimento Che nel caso particolare Tutto il rispetto Del comandante Cauceglia Il capitano Il comandante Rinaldi Il sottoscritto Ha avuto modo Di conoscerla Negli anni Nei conoscerlo Negli anni Dal 2007 Al 2013 Quando è stato Revisore dei conti Del comune di Capaccio E ne è potuto Apprezzare le qualità E le capacità Con le stesse Forze a disposizione Vi dico un esempio Con le stesse Forze a disposizione Dell'ex comandante Il corpo Ha le stesse Forze a disposizione Ma Dal primo giorno Che si è insediato Il comandante Gli uffici Della Polizia Municipale Sono Perennemente Aperti a pubblico E non esclusivamente Su due giorni Alla settimana Quindi Un primo passo Un primo segno C'è stato Torno a ripetere La Delibera Del primo ottobre 2022 Di Giunta Riguardava Una Riorganizzazione Amministrativa Che Nell'oggetto Riassumo I punti principali Però Non è stato Attenzionato Questo La nuova Macchina Amministrativa Prevede Di ridimensionamento Da 11 aree Ad 8 Quindi C'è stato Un allimento Perché si pensa In questo modo Di Rendere più Efficace L'azione Amministrativa Penso Che questa Adozione Di questo Provedimento Sia anche Nell'ottica Di quel Cambio di passo Che l'azione Amministrativa Deve avere Che nella Scorsa Statuta Del Consiglio Comunale C'era stato Sollecitato Della minoranza Riguardo Alla questione Che le citava Di eventuali Contenziosi Di questi Provedimenti Io Mi fido Dell'operato Dei miei Uffici Sono sicuro Che gli atti Sono tutti Legittimi E vorrei Io Però Osservare Fare Un'osservazione Per quanto riguarda Visto che è stata Così La nomina Del vice Comandante Preciso Che Sia la Normativa Statale Che quella Regionale Che Ripeto Rispetto Lei mi insegna Avvocato Rispetto Al regolamento Comunale Sono fonti Primari Hanno Un grato Di valenza Superiore Non hanno Prevista La figura Del vice Comandante La figura Del vice Comandante E' previsto Esclusivamente Nel nostro Regolamento Comunale Che lei Ricordava Consigliere Pesce Che era stato Approvato Da questo Consiglio A giugno Del 2021 Su proposta Dell'ex Comandante Caucella L'articolo 11 del nostro Regolamento Prevede Alla Comma 1 Il sindaco Sentito Il comandante Può Individuare Con provvedimento A tempo Rinnovabile E interrogabile Tra gli specialisti Di vigilanza Il vice Comandante Legga l'articolo 18 L'articolo 18 Non ce l'ho Sottomare Non vogliamo leggere Il 18 23 Ce l'ho Io Però Facciamo parlare Consigliere Pesce A lei Nessuno Magari Qualcuno Poteva Non condividere Un suo pensiero Nessuno L'ha interrotta Sì Ma no Nella sua esposizione Nessuno L'ha interrotta Adesso Dovremmo far parlare In maniera tranquilla Anche il sindaco Voglio ripetere Che punti Come dicevo prima Sia la normativa Statale Che regionale Non prevede La nomina Del vice Comandante Quindi Nel diritto Vigila Regola Che ciò Che non è Vietato E' sempre Legittimo Quindi I provvedimenti Sono assolutamente Sono Assolutamente Consigliere Pesce Per favore Lei farà le sue considerazioni Legali Con chi Dovete Faranno Prove Consigliere Pesce Però il sindaco Le sta rispondendo E facciamolo rispondere Mi sembra Che lei Leggerà Tutti gli articoli Che vuole Noi andiamo avanti Con le nostre decisioni E saranno poi I fatti Che Come disse Già lo scorso Consiglio Comunale Saranno i fatti Che dovranno Dare risposta A quelle che sono Le azioni amministrative Che questa amministrazione Vole apposta in campo Grazie Grazie sindaco Prego Consigliere Non sono assolutamente Soddisfatto Perché permane Un vice comandante Con i gradi di sottotenente E un ufficiale superiore Con i gradi di maggior E due capitani E qui E' assurda la situazione L'articolo 11 Lo conosco bene L'ho letto Ma ho letto anche L'articolo 18 Se lo vogliamo leggere Ce l'ho qua Perché non sono abituato A leggerne uno Di articolo Per deformazione Ma leggo tutto Il regolamento Per farmi Un'idea Di quella Che è l'interpretazione Di un regolamento Così come leggo L'articolo 5 Del regolamento regionale Che i dissentivi Di grado Indicano L'ordinazione Dei ruoli E delle funzioni Nella polizia locale Non determinano Lo stato giuridico Ed economico dipendente Ma supportano L'espletamento funzionale Dei servizi Primo comma Quindi c'è il rapporto Gerarchico Anche per quella Che è stata richiamata Che è la regola Regionale Così come quella Che ho prima Enunciato Che è l'articolo 18 del regolamento Nonché l'articolo 23 Prevede il statuto Obbligatorio Se continuo a dire Vogliamo far ridere Perché Consigliere Prego Facciamo ridere Poi lei Concluda Lei può prendere Assolutamente Tutte le iniziative Che vuole Lei è il sindaco Assolutamente Può fare quello Che vuole Però Ultima cosa Visto che ha parlato La mia interrogazione Era soltanto Sul comandante Vicecomandante Era del 28 Perché lo ha preso Ma Non ho parlato Delle altre funzioni Perché a tutti Gli altri funzionari Benché Demanzionati Per ruoli di area Sono state lasciate Le funzioni apicali Mi sembra Che soltanto Al Cuceglia Sia stata tolta L'apicalità O agli altri Sono state tolte Le funzioni apicali Però è stata anche Nominata Una nuova funzione apicale È stata nominata Un'altra Ho detto Se a chi Presiedeva Le funzioni Nelle aree Qualcuno È stata tolta L'area È stata tolta La funzione A nessuno Con principio Quindi E logico Non ne parliamo È stata solo quella La funzione Demanzionati Il consigliere Prego Sindaco Anche Un bravo funzionario Un ingegnere Sica Che è qui dentro È stata ridotta Alla competenza Lo sappiamo bene E siamo solidali Ma non c'entra Che sia stata assolutamente Negata Il vertice Ad un solo funzionario Quindi non dobbiamo Nettere le funzioni Sono situazioni diverse È spesso Il suo pensiero Posso passare Al punto numero 3 Dell'ordine del giorno Ah Sindaco Prego Una precisazione Una precisazione Se vuole leggere L'articolo è qui No 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 Volevo leggere Lei ha fatto I combinati di sposti Gli articoli 18 e 23 Certo Io le leggo Questa nota In virtù del comitato Disposto Gli articoli 9 e 11 Del regolamento Nota di chi? Nota di chi? Nota Una nota di chi? Una nota che mi sono fatto fare Per quanto riguarda Da un comandante Di Natti Da un comandante investito Del ruolo Ah vabbè Vabbè però È contestabile Perché facciamo riferimento Al regolamento Di consiglio L'interpretazione autentica È dal nuovo funzionario Incaricato Del grado Consigliere Pesce però Ma a lei Nessuno le interrompe La nota La nota Interrompere Sistematicamente Mi vuole far parlare Per favore Mi vuole far parlare È sui tempi È sui tempi La nota del funzionario Non l'articolo Leggiamo l'articolo prima E poi leggiamo la nota Facciamo così Vuol far parlare il sindaco o no? Leggiamo l'articolo Ma vuol far rispondere Al sindaco o no? Non è prevista La regola Presidente Non è prevista E infatti Non è prevista Neanche una discussione Successiva All'intervento Del sindaco Consigliere Pesce Consigliere Pesce Leggiamo l'articolo Consigliere Pesce Il sindaco Il sindaco Naturalmente Come spesso Spesso fa Per l'educazione Leggiamo l'articolo Del regolamento Leggiamo l'articolo Del regolamento Con interferazione Non funzionale Non legge Il sindaco Non interviene più Il sindaco Non interviene più Quindi Adesso Dovremmo tornare Di nuovo A rispettare A rispettare I tempi E i modi Passo al punto Numero 3 Passo al numero Numero Al punto Numero 3 Interrogazione Interpellanza Del consigliere Raffaele Pesce Come prima Come prima Avevo concesso Perché L'interrogazione Sua Quella di prima Così come Quella del consigliere Santos Osso In maniera educata Visto che lui È stato educato Per lo meno Nell'esporre Del provvedimento Del provvedimento Ha ragione Il consigliere Prendo atto Va bene Spero che sia Verbalizzato Questo No Però Il regolamento Non è che va cambiato Esclusivamente Sulle indicazioni Che lei ha detto Il regolamento Ha cambiato Nella sua indirezza Perché sono state Riscondate Io non ho contribuito A formarlo Il regolamento Perché non è Bene Signore Le sono rimasti Tre minuti Sto rispondendo Al sindaco Ho intervenuto Sulla questione Come mi sono rimasti Tre minuti Scusate Fammi capire Come mi sono rimasti Tre minuti Stiamo parlando Ora del regolamento Signor presidente Signor presidente È nervoso Presidente Non ho capito Il sindaco Ha interrotto Ha detto Che il regolamento Lo porterà in consiglio Non stiamo parlando Di un altro argomento Quindi non ho Tre minuti Ma Per quanto riguarda L'interrogazione Che è stata depositata Il 29 settembre Io ho già avuto L'opportunità Di parlare con l'assessore E mi ha chiarito Alcune cose Personalmente Quindi sarò Velocissimo Su queste interrogazioni Ma L'interrogazione Fondamentale Era Posta Sempre Perché Abbiamo appreso Come al solito Dai social E dalla stampa Il grave rischio Della perdita Dell'automunanza E io subito Avevo chiesto Di convocare La commissione Sanità Che non è stata convocata Come non vengono Convocate le commissioni Quando chiedo Che siano convocate Per urgenza Come quella Sul bilancio Per il debito Che dopo Andremo a discutere Che la cosa Potrebbe evitare Di portare Di portare I concorsi Ben vengano Medici Non si fa Va bene Grazie Prego Assessore Buongiorno a tutti Allora Consigliere Pesce L'informazione Che lei ha avuto Nonostante io Sia assessore E come E come E' Pervenuta In tempi Negli stessi E uguali tempi Che sono pervenuti A lei Sta di fatto Che come lei Si è subito Mobilitato Anche la nostra Amministrazione Quindi in rappresentanza Non solo Della maggioranza Ma in questo caso Anche dell'opposizione Il nostro sindaco Quindi il sindaco Di questa città Insieme Ai due sindaci Che sono I sindaci Delle città Tra virgolette Territoriali Più importanti Di questo territorio Quindi Capaccio E Santa Maria Si sono Immediatamente Mossi Per poter Attivare Quello che già Lei Aveva Pensato Come giusto Che sia Quindi noi Comunque Lavoriamo In sinergia Io penso Che in questa Sise Non ci sia Né opposizione Né maggioranza Ma ci siamo Noi Rappresentanti Di questa città Che siamo Quelli Che dobbiamo Dare Delle risposte A questo territorio Quindi Detto questo Si si è mobilitati Nell'immediato Per poter Sollecitare La direzione Generale In virtù Di questa Sospensione Che si è saputo Veramente Il giorno 29 Che il giorno 30 L'ambulanza Veniva Sospesa Detto questo La parte politica Ha fatto Il suo percorso Giusto Quello Di scrivere Anni Anni Teniamo a Chiarirlo Alla città Di Agropoli Questo servizio Veniva Effettuato Da medici Che erano Già in Quescenza Quindi Già in Riposo Per pensionamento L'emergenza Covid Come in Tutto il Mondo Quindi Non solo Nella nostra Città Ma anche In Italia E nel mondo Sempre per Carenza di Medici Soprattutto Medici Dell'emergenza Perché L'emergenza Covid Ha visto Mettere in Campo Tutte quelle Figure Professionali Che sono Per lo più I medici Di emergenza E quindi In questo campo La mia specialità Quindi Anestesia E rianimazione Sono stati Richiamati Al lavoro Detto questo Due anni fa È stato fatto Un contratto A colbando Diciamo Una manifestazione Di interesse A cui hanno Potuto Partecipare Tutti i medici In quescenza Con la specialità Prevista Che è quella Di anestesia E rianimazione E hanno Risposto Nella nostra Azienda Io parlo Per quanto riguarda L'Asa Da Salerno Quattro medici In pensione Territoriali Che erano Medici Uno che Lavorava A Sapri Due che Lavoravano A Vallo Della Lucania In pensione E uno A Salerno All'epoca Il direttore Generale Mario Viglier Bolino Ha stipulato Un contratto Con questi Quattro colleghi Medici Che dovevano In prima Istanza Aprire Quello che Oggi è La nostra Terapia Intensiva Subintensiva Covid Del Pio di Agropoli Però I medici Che Ahimè Avevano Un'età Tra virgolette Avanzata Sono medici In pensione Quindi lei capisce L'età che avevano E Sì Sono un po' così Tra virgolette Dico Tirati indietro E quindi Il direttore generale All'epoca Decise Di Utilizzarli Sull'ambulanza Rianimativa Che in quel momento Era sfornita Perché due anni fa C'era stato anche lì Lei non ricorda Probabilmente O ricorda E adesso Ve lo ricordo io C'erano Riassociazioni Cioè associazioni Con Dei medici Rianimatori Anche lì c'era Una difficoltà A reperire Questi medici Tramite associazione E per cui Il direttore generale Per non sospendere Sempre un servizio Importante Territoriale Che è l'ambulanza Rianimativa Ha posto in essere Questi medici In pensione Sulla rianimativa Detto questo Come già tutti sanno L'emergenza covid È terminata A livello mondiale Quindi questi contratti Avevano una scadenza Che era quella Del 30 settembre 2022 Non rinnovabili Perché erano legati A un'emergenza terminata Per cui Il direttore generale Nuovo Per giunta Perché come sapete Si è insediato Da pochissimo tempo Si è trovato Questi contratti In scadenza E altro Non ha potuto fare Che Chiuderli Ok Detto questo Si è verificato Questa problematica Immediata Di sospensione Dell'ambulanza Rianimativa Immediatamente Non si possono Come lei Già detto Reperire Dalla sera Alla mattina Dei medici Rianimatori Se non Quelli già in essere Quindi presenti Nella nostra azienda As Salerno 3 Detto questo Io sono una Rianimatrice In questo momento Sono responsabile Della terapia intensiva Covid E ho consultato Perché non è che Da sola Non si va da nessuna Pasta E come oggi Noi qui siamo Un'amministrazione Siamo una squadra Ho chiesto aiuto Ai miei colleghi Rianimatori Se Temporaneamente In attesa Perché il direttore Generale Già in essere Ci sono contratti Per 160 medici Che usciranno a giorni Sulla gazzetta Ufficiale Si era Proposto Di poter Mantenere Questo servizio In attesa Di trovare Medici Addetti Al servizio E il direttore Generale In virtù Del responsabile Dell'emergenza Territoriale Che è un collega Rianimatore Il dottore Domenico Violante E in accordo Con il nostro Capo dipartimento Dell'emergenza Il dottore Fernando Chiumiento Si è deciso Di far sì Che noi Ci siamo fatti Carico Dell'ambulanza Rianimativa Cioè in questo Momento L'ambulanza Come ha detto Già il consigliere Pesci Non è stata Mai Sospesa Quindi il primo Ottobre Il servizio Continua E continua Ancora oggi E lo stiamo Coprendo I colleghi Io insieme Ai colleghi Della Terapia Intensiva Covid In supporto A qualche Altro Rianimatore Che mi ha dato Una disponibilità Diciamo Sempre dell'azienda Perché il direttore Generale Giustamente Può utilizzare Tutti Gli anestesisti Rianimatori Che già Sono A contratto Di questa azienda Quindi Noi La nostra Battaglia Che giustamente Lei ha detto È politica Amministrativa Dobbiamo essere Attenti al territorio Quindi ci facciamo Portavoce Di quelle che sono Le esigenze Del territorio Io e il sindaco Recentemente Lunedì Siamo stati A un'altra Riunione All'ospedale Di Vallo Della Lucania Dove il direttore Generale Ha incontrato Tutto il distretto Sanitario 70 Perché le Problematiche Sono tante E non sono solo Inerenti a questo Problema Ma ci sono tante Problematiche Inerenti alle guardie Mediche A tanti altri Servizi E il problema Principale Quello che lei Già ha detto È la carenza Di medici Perché il servizio È come se noi Abbiamo un contenitore Ma abbiamo un contenitore Vuoto Cioè Se all'interno di questo È un contenitore È come una fabbrica Abbiamo la fabbrica Abbiamo le macchine Ma non abbiamo Chi le lavora È la stessa È la stessa discorso Quindi Il direttore generale Si è proposto In senso Positivo Nonostante Da poco Tempo È ormai Sulla nostra azienda Ha un quadro Generale Questo a noi Ha fatto molto piacere Insieme al sindaco Abbiamo avuto Un'ottima impressione Anche delle conoscenze Lui è un ingegnere Quindi non solo Delle infrastrutture Perché Sì sì Lui Non solo Ci ha dato Un'immagine chiara Di quelle che sono Le infrastrutture territoriali E quindi anche Di potenziamento E migliorie Di quelle che sono Già in essere Alcune cose Che noi abbiamo Ma soprattutto Le prospettive future Di poter Ha visionato bene Anche il territorio La difficoltà Che noi sappiamo Tra un paese E un altro Poter raggiungere Quindi L'abbiamo visto Molto propositivo Lui è stato Molto onesto Con noi E molto sincero Una persona Molto fattiva Anche nel senso Di dire Io Mi impegno Però vi dico La verità Su quello Che noi possiamo E Non possiamo Fare Questo non toglie Che quello Anche che in questo momento Non possiamo fare Ci impegniamo A far sì Che possa essere Detto questo Penso che Sono stata Più che chiara Grazie La risposta Ambiamente esaustiva Dell'assessore Devo dire la verità Ho preso atto Che Di nuovo Direttore generale Interessato Ha dimostrato Interesse Al territorio Con la riunione Che avete fatto E che il sindaco L'ha anche invitato Se non sbaglio A fare la prossima Quindi ben venga Questa interlocuzione Con il nuovo Direttore generale Speriamo bene Per la sanità Ovviamente a monte C'è il problema Del numero Chiuso Medicina Ma è la carenza Dei medici Io li farei Studiare Nei sei anni Di università E non chiudere E non chiudere L'accesso Ai ragazzi A 18 anni Che uno non è nemmeno Abituato Tanto A qui Ah Oh no E mi Questo va bene È solo dalla discussione Però anche Per distendere Gli animi Prendo atto Della difficoltà Della materia Però vi siete Mobilitati E quindi Ben bene L'invito solo A fare più commissioni E meno discussioni Che poi diventano accese Anche per incomprensioni Su questo pienamente d'accordo E quindi Ringrazio l'assessore Prendo atto Di tutto quello che ha detto Con perizia di causa Grazie consigliere Pesce Passiamo al punto Numero 4 Interrogazione Interpellanza Del consigliere Ilvira Serra Al sindaco Sulla frana In via Belvedere Buongiorno a tutti E colleghi consiglieri Al pubblico Presente Al sindaco Non devono essere Prese come Dei fastidio Di da zanzara Le interrogazioni Perché la gente Vuole sapere In strada Si parla di tante cose E quindi Il consiglio comunale Secondo me È il posto adatto Per far conoscere Tante cose Sulla quale Le persone Si interromano E come diceva Il consigliere Pesce Non è neanche giusto Che alcune cose Siano conosciute Mezzo stampa È giusto Che ne parliamo qui Mi sembra Il luogo adatto Allora Ho ricevuto Da diversi cittadini Delle richieste Per quanto riguarda La frana Di via Belvedere Ricordo a tutti A me stessa Che via Belvedere È un'importante Arteria Che si diparte Verso Trentova Il porto Quindi Da quella zona Non solo c'è Una grossa presenza Abitativa E quindi Un traffico Proprio locale Ma c'è tutto il traffico Poi delle barche Che va verso il porto Purtroppo è stata interessata Da una frana Che ha coperto Quasi metà Della carreggiata Io mi sono recata Presso l'ufficio competente E mi dicevano Signor Sindaco Che ancora Non sono state Avviate Alcun tipo di procedura Per risanarla Quanto prima Quindi io chiedo Come siano le cose E che tempi Devono aspettare I nostri cittadini Affinché La percorrenza Per quella strada Sia sicura Innanzitutto E quanto prima La visibilità Che è quello Che ci interessa Di più della città Si è resa ancora Più fruibile Grazie Grazie Consigliere Serra Il Sindaco ha delegato Il Consigliere Marciano Alla risposta A tutti Allora Per quanto riguarda Il problema Che è Sotto Per effetto Della frana Che si è verificata Via Benvedere L'azione amministrativa Ovviamente è stata Immediata Tanto è vero Che leggo Delle note Che mi sono state Fornite Dal funzionario Dell'ufficio Dei lavori pubblici Nelle quali Se vince Che Nell'immediato Sono state Effettuate Tutte Le azioni Possibili Tanto è vero Perché A terro di questa nota Leggerò Dirò Sì A terro di questa nota Leggerò Che i lavori Inizieranno Quanto prima In ogni modo Faccio un attimo La pronostoria In effetti Che mi è stata Recapitata In riferimento All'azione amministrativa In data 11 ottobre È stata redatta L'apelizia Di sommorgenza Dall'ufficio Lavori pubblici Per la quantificazione Delle somme necessarie All'intervento L'apelizia è stata Inoltrata Unitamente Alla richiesta Di somministrazioni Somme Per l'intervento Al Dipartimento Regionale Della protezione civile Genio Civile di Salerno E al Dipartimento Provinciale di Salerno Nel rispetto Delle procedure Previste dal codice Della protezione civile L'amministrazione comunale Al fine di eliminare Il pericolo Ha ritenuto Di procedere Direttamente Senza attendere Oltre Ed in data odierna È stata affidata All'esecuzione Degli interventi In urgenza Esenzi Dell'articolo 163 Del decreto Legislativo 50 del 2016 Pertanto I lavori Inizieranno Quanto prima Addirittura Già inizio settimana Grazie Consigliere Marciano Prego Consigliere Sedra Sono contenta Come vedete È molto importante Fare anche le interrogazioni Perché l'altra mattina Si aspettavano Questi fondi regionali Del giro civile Affinché il comune Non affrontasse Una spesa Viva Pare che L'ammontare Della spesa Sia intorno A 25 mila euro A questo punto Il comune Se ne prende Tutta la responsabilità Perché tutti quanti Ci rendiamo conto Che La vivibilità Della città Deve stare A cuore Prioritariamente Al consiglio E consiglieri E lo è sicuramente Al sindaco E a tutta quanta L'aggiunta Grazie Ingeniere Diremo Alla nostra gente Che i lavori Inizino Quanto prima Perché il comune Si assume la responsabilità Di farli Spese proprie Grazie Grazie Consigliere Marciano Mi scusi Mi puoi spiegare Perché io non ho capito Allora mi deve dire Che in sostituzione Della provincia E che il sindaco Nei precedenti Consigli comunali Ci aveva comunicato Che era prossimo L'inizio dei lavori Ah parliamo del muro Ok No 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 Via Berlino Va bene No 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 Via Berlino Mentre Berlino La provincia Sì Sì Va bene Grazie Presidente Prego Una riflessione Che non fa parte Della risposta O non mi è possibile Se è veloce Sì Perché è stata Al di sotto Dei cinque minuti Consigliere No è una riflessione Nulla per vedere Con la risposta Che ho dato È stata una risposta Veloce Insomma quindi Abbiamo E' stata esaustiva Perché Quello che la gente Vuole sapere Non il consigliere Il Vira Serra E quando iniziano i lavori Allora Già che voi Non avete potuto Più aspettare Perché giustamente I tempi Tecnici Della regione Sono lunghi I stanziari dei fondi Erano lunghi Certo faceva piacere Che il comune Non spendesse nulla Però purtroppo Lì è pericoloso Bisogna farli Quanto prima Quindi Vedo che Siamo tutti quanti Arrivati alla decisione Che bisogna Che il comune Stanzi i fondi Chiami la ditta E faccia fare i lavori E sono soddisfatta Di questo Sì grazie Prego consigliere Sì Allora Volevo fare un attimo La riflessione Facendo riferimento Alla discussione Che Si è Instaurata Nella Interpellanza Comunale La numero due Mi pare Quella dell'avvocato Del consigliere Raffaele Pesce In effetti Ci rendiamo conto Ovviamente Che ci sono Tutta una serie Di problematiche Che accadono Nell'immediato Cioè Praticamente Non c'è Nel polintempo Alcune volte Di fare Delle riflessioni Per poter Prendere Delle decisioni Allora Mi fa piacere Certamente Fa piacere A tutti Che la minoranza Coglie queste opportunità E che suggerisce Delle eventuali Soluzioni Che ovviamente Quando Sono in linea Con quello Che è La Politica Con quella Che è Lo sviluppo Con quelli che sono Gli obiettivi Dell'amministrazione Fa piacere Che Cogliamo Queste opportunità E che Si possano Ovviamente Sposare E lavorare In sinergia Perché Giustamente Come diceva L'assessore L'ampasona In questa assise Non parliamo Di minoranza Di maggioranza Ma parliamo Semplicemente Di consiglieri comunali Che sono rappresentati Dal sindaco Chiedo però Solamente una cosa In effetti Allora Innanzitutto In alcuni casi Di lasciare Anche un poco di tempo Il tempo strettamente necessario Il tempo tecnico Logistico Anche alla maggioranza Per avere Appunto L'opportunità La possibilità Di poter esaminare Discutere E quindi eventualmente Trovare delle soluzioni opportune Anche alla maggioranza Ci fa piacere Certamente Che le problematiche Alcune di esse Vengono sollevate Dalla minoranza E che certamente A noi Farà molto piacere Allora Condividere Così come Ad esempio Allora Pensiamo di condividere Abbiamo condiviso Ad esempio La interpellanza Comunale Che è stata fatta Da Raffaele Pesce Per quanto riguarda Il sito archeologico Che oggi Approveremo E così come Allora Senz'altro Ci saranno Tanti altri argomenti Che saranno condivisi E che approveremo Senza ombre di dubbio L'unica cosa però A me farebbe piacere Di evitare Che ci siano Queste discussioni Così accese Mi farebbe piacere Che ci fosse Un dialogo Più equilibrato Grazie Grazie consigliere Andiamo avanti Con il prossimo punto All'ordine del giorno Il numero 5 Abbiamo Interrogazione Interpellanza Del consigliere Raffaele Pesce Al sindaco Al consigliere Delegato Alla cultura Sull'antiquarium Comunale Prego Consigliere Pesce Come Consigliere Comunale Come rappresentante Del movimento Civico Liberi e forti Io ho dimostrato Anche in corso Della campagna Elettorale L'attenzione Per tutto Quello che Nostra storia E tutto Quello che Invesse Anche il turismo Archeologico Ma d'altra parte Anche voi Mi siete Dimostrati Subito Aperti Alla mia Mozione Quella del Sauvo Che appena Chiamato In causa Pierino Marciano Consigliere Marciano Quindi Benvenga Trovare Dei punti Di discussione Di distensione Su problematiche Che non sono Né di Opposizione Né di Minoranza Né di Maggioranza Ma che sono Del paese Sono della Città Quindi Questo è il senso Della mia Interrogazione Che riguarda L'antiquarium Comunale Perché Perché se si va sul sito del Ministero della Cultura E ancora attiva la pagina del nostro antiquarium Come se fosse aperto e accessibile Sappiamo che per i lavori nel palazzo della Ex-Pretura Diciamo così Palazzo delle Arti L'antiquarium è chiuso da tempo Io Dato che Mi preoccupo di solito Della gestione dei reperti Conosco anche la La difficoltà per un ente Di essere Diciamo Depositario Di reperti Dato che non abbiamo custodi Non abbiamo personale Mi sono preoccupato Di chiedere Di chiedere Un accesso Innanzitutto L'inventario L'inventario Dei beni Dei reperti Che sono depositati Presso la struttura Che è chiusa L'inventario Dei reperti Che non sono soltanto nostri Mi risulta Ma sono anche La sovrintendenza E sono stati dati Incomodati Al comune Della sovrintendenza E del parco archeologico Credo Credo che sia oggi lente Sia soltanto la sovrintendenza Oggi Non so se su questo Sbaglio o meno Credo che ormai Da quando è diventato Parco archeologico Velia Pestum La responsabilità Sui reperti Sia della sovrintendenza Però poi dopo Alla fine Non cambia Cambia poco E ho chiesto Di poter accedere Nei locali Dell'antiquarium Accompagnato Da personale Dell'ufficio preposto Da funzionari Di polizia giudiziaria Della polizia locale E da Archeologi di fiducia Tra l'altro C'è Un 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 Struttore di vigilanza Della nostra polizia Che è laureato In archeologia Fabio Astuzio Quindi ci può dare Anche una mano Senza Scomodare altri Per verificare Lo stato Dei luoghi E dei reperti Quindi Mi aspettavo Un'attesa Di fissazione Del sovralluogo Da comunicarmi Cosa che non è stata fatta Né Mi è stato fornito L'elenco inventario Dei reperti Che credo Sia stato Ufficialmente È stato fatto E lo so Che è stato fatto Non so se sia ancora Reperibile Ma prima Dell'apertura Dell'antiquarium Quindi magari C'è soltanto Il registro Non l'allocazione Ora Dei reperti Più importanti Che sono stati messi Nell'antiquarium Però credo che Rispetto a tutti Gli altri reperti Che sono nelle cassette Credo ancora È stata fatta Dall'archeologa Da Arcuri La mia Famiglia Arcuri Quindi E questo è la Il tenore della mia Interrogazione È questa Prendere atto Di come stanno le cose Anche con riferimento Ai lavori A che punto Stanno i lavori E in che condizioni Era antiguato Andarlo a verificare Con i nostri poteri Ispettivi Da consiglieri comunali Semplicemente questo La mia richiesta È del 5 ottobre Quindi sono passati Comunque 15 giorni Ma non ho avuto Una risposta Grazie Grazie consigliere Prego Risponde il sindaco Grazie presidente Ne ricordate che L'amministrazione comunale Tutta È sempre intesa Nel portare avanti Un'azione di valorizzazione Del palazzo civico Delle arti Stesso È oggetto Di vari interventi Che anche proseguiranno Nei prossimi mesi Nel loro insieme Poi ci sono anche altri Lavori che Che riguarderanno Le aree circostanti Ricordo appunto La riferimentazione Di Via Pisacane Eccetera Poi ci sono stati Fatti Anche altri Interventi Su degli immobili Di valore culturale Che sono insiti Nel nostro territorio Per quanto riguarda Quelli del palazzo civico Quelli In corso Che sono in via Di ultimazione Hanno riguardato Il secondo piano E Si attende La consegna Degli arredi In modo che Così si possono Definire Ultimati i lavori E da far presente Che questi lavori Hanno comportato L'implementazione Degli spazi Dedicati alla biblioteca Comunale La stessa Ha visto il patrimonio Librario Incrementarsi Attraverso piccoli Finanziamenti Avuti anche Della precedente Amministrazione Il primo piano A breve Avrà Ad oggetto La realizzazione Di un percorso Didattico Turistico Ecomuseale Denominato Edusender Pescato E mostro del mare Che fa parte Del progetto FEAMP 2014-2020 Fragli Cedro Mare Blu Per quanto riguarda Le richieste Di documenti Consigli di Pesce Io chiedo scusa Per esitato Ma la stessa E a disposizione Se vuole Gli uffici Anche subito Dopo il Consiglio Comunale Le verrà consegnati Per quanto riguarda Gli accessi Dovremmo chiedere Alla direzione Dei lavori La possibilità Di poter Accedere E quindi Eventualmente Di fare Questo sovraluoco Quindi se lei Li tiene opportuno Mi attiverò Per far sì Che ci vengano Di lasciate Queste autorizzazioni Attraverso L'accompagnamento Appunto Dei funzionari Di cui lei citava Nella sua Integrazione Voglio pure Premettere Che Come archeologo Di fiducia Quasi sicuramente Verrà L'amministrazione Si è parlata Dell'opera Della dottoressa Laura del Vem Che è già stata Curatrice Della mossa Quindi Il consigliere Per il modo Che gli uffici Le consegnano L'inventare E poi Concorderemo Una visita Per quanto riguarda Il sovraluoco Grazie Sindaco Prego Consigliere Pesce Risposta Esaustiva Io ho indirizzato Anche a funzionare Responsabile Lavori Pubblici Responsabile Del patrimonio Proprio per questo Perché Presupponevo Comunque L'autorizzazione Della parte Della direzione Lavori Grazie Grazie Consigliere Pesce Proseguiamo Quindi Col punto Numero 6 Interrogazione Interpellanza Del consigliere Raffaele Pesce E degli altri 4 consiglieri Di minoranza Al sindaco E all'assessore Al turismo Sul progetto Borgo Di Babbo Natale Qui c'era Una prima Interrogazione Da parte Del consigliere Pesce Che poi È stata Integrata Dagli altri Consiglieri Quindi Cedo per prima La parola Al consigliere Pesce Prego Consigliere Anche Per questa Interrogazione Va fatto Un chiarimento Preliminare Noi tutti Siamo a favore Della ripresa turistica Della città Del paese Vogliamo soltanto Che siano evitate Spese Per la comunità E per il comune In un momento In un momento Critico E di 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 crisi Che coinvolge Strati sociali Che non avevano Nemmeno conosciuto Mai la crisi Quindi bisogna Stare attenti E se c'è Qualche euro Da poter spendere Bisogna Spenderlo Per i servizi Sociali Per lo stato Sociale E per i Bisognosi Ovviamente Siamo attenti A che L'andamento Sia rivolto Alla buona Amministrazione L'andamento Dell'amministrazione Quindi Abbiamo Deciso Di sensibilizzare L'amministrazione La maggioranza Su Dei dubbi Che noi Abbiamo Riscontrato Stato leggendo Una proposta Che poi Avete fatto Proprio Come giunta Che è quella Del borgo Di Babbo Natale Ma non Criticandolo A prescindere Entrando nel merito Di quella Che è la proposta Con riferimento A Introiti Previsti E a spese Che sono tutte A carico Del comune E quindi Io Con Una Interrogazione Fatta subito Fatta Il 5 ottobre Innanzitutto Chiedevo Predimentalmente A mio avviso Dicevo Che andrebbero Rinanciate Le nostre tradizioni E non altre Assolutamente Non radicate Nella nostra cultura E nel territorio occidentale Perché bisogna essere Originali Non imitare Trentino Non imitare La Finlandia La Norvegia Questa è una mia idea Però La tengo per me Perché poi La si può pensare Diversamente Come opportunità Turistica È normale Però Non vedo Il motivo Per cui Il progetto Dicevo Turistico Non debba Essere gestito Direttamente Dall'assessorato Al turismo Onde Evitare Equivoci Nella organizzazione E gestione Degli eventi Molti dei quali A pagamento Che poi vedremo Io non avevo Ancora Potuto Non avevo Ancora La documentazione Relativa Leggevo pure Che la postazione Nella casa Di Babbo Natale Sarà ancora Una volta Il castello Angioino Aragonese E stanno Già montando Le casette Non so se Il funzionario Abbia già Firmato Il contratto Ma stanno Da giorni Già montando Le casette Discendendone Non solo L'impossibilità Dell'utilizzo Del maniero Per eventi Culturali Nel periodo Natalizio Ma pure Il differimento Dei lavori Di ristrutturazione Presentati Come imminenti Poi dopo Questo Lo vedremo Nella Nell'argomento Numero 14 Magari E gradito Un chiarimento Formale Vabbè Questa era la prima Alla quale Poi Ci siamo Riuniti Come minoranza Come gruppi Di minoranza E abbiamo Lavorato Sui documenti Allegati Alla Sottostante La delibera Dai quali Innanzitutto Per nostro avviso Non sono esaustivi Questi documenti Perché se si legge Una paginetta Oltre a pubblicizzazione Che si fa Della cooperativa Ben vengano Le cooperative Ben venga La prologo Ma qua Stanno entrando Nel merito Di una proposta Ci siamo resi conto Che La proposta Della cooperativa OPVS Cooperativa Impresa sociale Si è basata Su una documentazione Assolutamente carente E non esaustiva In primis Per quanto riguarda La valutazione Dei costi A sostenersi L'edizione 2021-2022 Ha avuto Una significativa Presenza Con 15.000 Utenti Questo lo traiamo Dagli atti Della cooperativa Lo dicono loro Noi stiamo Prendendo atto Tale presenza È stata portatrice Di un introito Di circa 75.000 euro Considerato Soltanto Il ticket Di euro 5 A persona Quindi 5 per 15.000 Sono 75.000 euro Perché ci fidiamo Che ci sono state 15.000 persone E non di più Noi siamo abituati A fidarci Non è stato Considerato L'introito Del servizio Fotografico Che è stato Espletato Nella documentazione Non c'è traccia Presunto Dall'euro 5 a euro 10 a foto Pertanto Con un incasso Da euro 25.000 A 50.000 Perché se su 15.000 Persone Ci sono 5.000 Bambini Ci sono fatte La fotografia Stiamo parlando E la fotografia È stata fatta Pagare Dai 5 ai 10 euro Io non lo so Questo non lo so Perché non c'è scritto Stiamo parlando Di una media Di incasso Di 37.500 euro Che si aggiunge A il 75.000 L'edizione L'edizione Del 2022 2023 Prevede L'installazione Di una pista Di ghiaccio In questo momento Ad alto consumo Energetico In un momento Di crisi Energetica Con una previsione Di incasso Considerato Il ticket Di euro 7 Questo è scritto Nella documentazione Ogni mezz'ora E di euro 10 Ogni ora Quindi un incasso Di euro 60.000 Per 7.500 Fruitori Che sono la metà Dei 15.000 Nei 40 giorni Quindi 50% Di 15.000 Nei 40 giorni Fa 60.000 euro Certo Questo non è un dato Esatto Però Si presume Il numero Delle casette Da locare Ad un prezzo Di euro 800 Come da proposta Per 15 casette Da un incasso Di euro 12.000 Però non è indicato Il numero di casette L'anno scorso Erano 15 Quest'anno Non c'è scritto Quante casette sono E quindi Bisogna Mortificare Per 800 Come incasso Da tutto quanto emerso Considerate Le voci riportate Quindi Che ho prena detto La somma Degli incassi Ammontate euro 184.500 In difetto Perché noi Ci siamo rifatti A quei numeri Che abbiamo detto Ma ci potranno Essere ovviamente Visto che Si fa riferimento A una grande Manifestazione Sicuramente ci saranno Più avventori Ci saranno Oltre 15.000 Persone Quindi l'incasso Sarà superiore Di 184.500 Euro Considerato Che il nuovo Progetto Valuta Molto Approssimativamente Invece Una spesa Di 89.000 Euro Più IVA Ed addirittura Sostiene Di spendere 10.000 Euro Solo per Tipografia E stampa 10.000 Euro Per tipografia E stampa Lo stesso Progetto Prevede Che il comune Di Agopoli Non solo fornisca Il suolo pubblico Gratuitamente Ma anche L'energia elettrica Per tutta la superficie Interessata Inclusa la pista Di pattinaggio Che ha un consumo Notevolissimo Quindi tutto gratis Il progetto Non accenna Infatti Ad alcuna valutazione Del costo energetico Mentre il consumo Giornaliero Della sola pista Di ghiaccio È di circa Euro 200 Al giorno Del tutto Residuale Risulta Mero accenno Ai pannelli Fotovoltaici Installati dove Quando In quale numero Che percentuale Va a sopperire L'installazione Dei pannelli Fotovoltaici Non è dato Saperlo Perché non c'è scritto Nulla C'è scritto solo Che saranno posti Dei pannelli Fotovoltaici Questo è il modo Di progettare Le cose Che voi Validate In giunta Ebbene Il progetto Il comune Quindi perde Il ricavo Del ticket Ordinario Di accesso Al castello Che è di 2 euro Ha dato qualcosa Da dire Assessore C'è scritto Sul programma Il ticket Escluso Il ticket Escluso Facciamo parlare Assessore Facciamo parlare Il consigliere Pesce Lo so Torniamo al discorso Di prima Dopo non la farò Inderlumbre L'anno scorso Prima di candidarsi Ha avuto il pagamento Per le casette Quindi dovrebbe Atenersi Alla discussione Dovrebbe evitare Di entrare Di intromettersi Nella discussione Perché è rivolta Al sindaco No È rivolta al sindaco Deve rispondere Sì Poi risponderà Lei Nel merito Perché se non sa Che la delibera Ha fatto proprio Il progetto E nel progetto C'è scritto Il ticket Escluso Per il comune Probabilmente Non ha inteso Che significa Votare una delibera Che dà atto Di un progetto Ok Poi interviene dopo Va bene Consigliere Continui per favore Il progetto Prevede L'utilizzo Di una Comunque Non si può Continuare a fare Così un assessore Fa così con le mani Mentre parlo Presidente Questo è il consiglio Comunale Se lei sta a dire Devi invitare l'assessore A avere un comportamento Consolo Continuiamo Per favore Perché noi stiamo parlando I soldi e la comunità Continuiamo E io ho detto Che sono a favore Del progetto Continuiamo Quindi Eh no Non si può Ma non si può Continuare a sapere Un assessore Probabilmente Adore non è stato mai Consigliere A questo atteggiamento Nei confronti dei consiglieri Poi magari Alla prossima interrogazione Mi dirà Come sta gestendo Il centrovisile Di Trentova E chi Fai gli scontrini La sera Poi mi dirà questo Lo sta gestendo lei Poi mi dirà questo Quindi eviti Prego Consigliere Per favore Continuiamo Eviti Perché sono stato Nell'ufficio commercio Ieri dove hanno detto Che c'era la CIA Non c'è nessuna CIA sanitaria Quindi chiudiamo Il discorso qui Lo sa anche il comandante De Vici Nuovo Consigliere Per favore Grazie Il comune Perde il ricavo Del ticket ordinario Per l'accesso Al castello Di euro 2 Che per il 50% È riscosso Dall'ente Normalmente Come sa No lo sappiamo Non è 2 euro Non è un euro Ma non è un euro Alla cooperativa Di gestione È considerata Una presenza Di 15.000 visitatori È valutabile In una perdita Di euro 7.500 euro Che sono previsti In bilancio comunale Noi li prevediamo Poca cosa 7.500 euro Ma per le famiglie Povere Credo non sia poca cosa Distribuire questi 7.500 euro Il progetto prevede L'utilizzo Di una navetta Fornita dal comune Per l'intera durata Dell'evento Di 40 giorni Con un'ulteriore spesa Di euro 10.000 Perché dobbiamo considerare Un costo giornaliero Di circa 250 euro Al giorno Per la navetta Questa è la media Tra i 200 e i 300 euro 250 euro Sono 10.000 euro Più ulteriore Addebitate Alla comunità Il progetto Prevede poi L'utilizzo Non solo Della protezione Civile comunale Ma dei ragazzi Del servizio civile Universale Sottratti ad altre attività Allora Se mi chiedo Se ci sono degli introiti Perché Corniamo Gratuitamente E togliamo Da altri servizi Se li paga la cooperativa I dipendenti No Non utilizziamo I ragazzi Del servizio sociale Ma magari Li utilizziamo Per andare A trovare Gli anziani Disabili Anche con riferimento Alle notizie Dell'ultime ore Anche con riferimento Alle notizie Dell'ultime ore Visto che i servizi Sociali Stanno avendo Un brutto momento E poi Le chiederò Dopo Alla fine del consiglio Se a sua Caro sindaco Se a notizie Relative All'indagine Che coinvolge Il piano di zona E se è coinvolto Anche questo Seregrato sociale E questi Uffici comunali E servizio sociale Perché Non si connega Consigliere Per favore Si avvive Verso la commosione Ma non mi può fermare Siete in cinque Ipoteticamente Potete parlare in cinque Se l'è già sporato Di cinque minuti E giustamente Mi chiedono Gli altri consiglieri Sforare Su ogni argomento Restiamo Più di un'ora Il comune C'è la guardia di finanza Poi ci deluciderete voi Perché è venuta La guardia di finanza Io resto un garantista Ma dobbiamo fare chiarezza Il progetto prevede poi L'utilizzo Non solo Vabbè Per tutto quanto Premesso e considerato I consiglieri di minoranza Tutti Sollecitano Il sindaco proponente La giunta A revocare Valutare la deliberazione Di giunta 290 Del 16 9 2022 Valutare la fattibilità Della gestione Diretta Dell'evento Considerate Costi e ricavi Non siamo contro L'evento Stiamo dicendo altro Investire I ricavi A scopo sociale Considerato Il momento Di crisi economica Vissuto dai cittadini Agropolesi Invitano Altri Sì Il funzionario Incaricato Che oggi non c'è A valutare In considerazione Tutto quanto Sopra evidenziato E l'interesse Dell'ente Tutto quanto Di propria competenza Stanno già montando Sopra Agropolesi Non so se c'è un contratto Al momento E non so Se il funzionario Al patrimonio Abbia dato L'autorizzazione Il nuovo funzionario A patrimonio Abbia dato L'autorizzazione Vorrei capire Se oggi C'è la possibilità Anche di visitarlo Il castello Visto che è un cantiere Quindi stiamo perdendo I ticket Non solo per i 40 giorni Ma stiamo già perdendo Il ticket D'ingresso al castello Chiariamole queste cose Io ho un gruppo di amici Non so se possono visitare Il castello O meno In questi giorni Visto che è già Un cantiere E qual è l'autorizzazione Del funzionario A patrimonio C'è C'è Il funzionario Capozzo L'ha firmato Il contratto Con loro O si attengono Solo alla delibera Esaustiva Del procedimento Amministrativo Alla delibera Questo lo sto chiedendo Oggi Non c'è scritto Sulla interrogazione Perché non avevamo Contezza E quindi Questo è firmato Da tutti I 5 consiglieri Ovviamente Vabbè appunto Prego Ci sta qualche Prego Consigliere La porta Grazie Signor Presidente Signor Sindaco Assessori Greci Consiglieri Pubblico In aula Forza dell'ordine Un saluto Agli amici Che ci seguono Da casa Purtroppo Siamo sempre Alle solite Devo Aprire così Ma prima di Aprire sull'argomento Voglio dare A nome del mio gruppo Destinazione Agropoli La nostra vicinanza L'amica Dottoressa Vanna D'Arenzo Siamo alle solite Caro Sindaco Noi che siamo Stati presenti Già nelle passate Amministrazioni Replichiamo Gli stessi errori Errori che Con lei Sottoscritta Sempre condiviso Errori di Progettualità Ecco che cosa Manca in questa Amministrazione E dalle passate Amministrazioni Non si fa tesoro Di quegli errori Un progetto Che la mia persona Ha dovuto richiedere Senza dell'articolo 43 Del 267 Del 2000 L'accesso Agli atti Un progetto Non redatto Dagli uffici comunali Ma soltanto A seguito Di una manifestazione Di interessi Si chiede Chi è interessato Ad eseguire Il progetto Come titolo Il borgo Di Babbo Natale Ma alla base Se vengono fuori Poi ecco Le osservazioni Della parte Della minoranza Che ricorda Noi tutti Sempre nello spirito Propositivo E collaborativo Per il bene Della città Per il bene Di far crescere Il turismo In questa città E dare quella forza Che come nota a tutti Il momento di crisi Ci porta Ad affrontare E allora Quando si vede Un giovane Assessore Che non ha avuto L'esperienza Consiliare Arrabbiarsi Io lo capisco Assessore Avicella La capisco Perché il ruolo È importante È un ruolo Pesante Perché due teleche Come il commercio E il turismo Come il sindaco All'insediamento Del consiglio Del consiglio comunale Sulla sua Proclamazione E nomina Ha detto Ritorna Nella città Di Agropoli L'assessorata Al turismo E al commercio E allora Il consiglio Che possiamo dare Noi che siamo Della vecchia guardia Noi che siamo Del passato Che abbiamo Vissuto Tante situazioni Che Ci hanno portato Per quanto riguarda A me E alcuni Mi amici Non accettare Più Un percorso Con gli amici Che vedo In maggioranza Oggi Allora Se noi parliamo Di progetto E la minoranza Deve Ecipire Con le ipotesi Di quel fumetto Perché quel progetto Che il consigliere Pesce Tiene sicuramente Che ho avuto Io modo Di ripetere Con il funzionario Capozzolo Che mi dispiace Moltissimo Della sua assenza Signor sindaco La prego Quando ci sono Degli argomenti Dove Sicuramente Il supporto Dell'ufficio Ecco Qui abbiamo I fumetti Il supporto Dell'ufficio È fondamentale Proprio perché Sicuramente L'operato Che ha dato modo Di portare Alla manifestazione Di interesse E alla valutazione E se È vero Come dice Il consigliere Pesce Che hanno dato Già seguito L'inizio Dei lavori È ancora più grave Perché avevamo avuto Ambie rassicurazioni Da parte Del dottor Capozzolo Che la questione Veniva Discussa Veniva partecipata Perché qui Stiamo dando Un contributo Di partecipazione Signor sindaco E cari consiglieri Ed è gravi assessori E allora vedere Questa proposta E poi Vederci Ridere O arrabbiarsi Ma lei lo puoi chiamare Progetto Questo Ok Allora se questo è un progetto Siamo messi male E siamo messi male Al punto tale Che vengono fuori I sospetti Perché poi Si danno i numeri All'otto Allora caro assessore I numeri all'otto Li devi accettare Perché se è la base Non ci sta un progetto Redatto Dall'ente Perché si è ben chiaro Perché noi possiamo Discutere Su qualcosa Che il comune Decide di mettere in campo E poi Rigeriamo Le manifestazioni Le offerte Qui parliamo Di ipotesi Però Ci sono i pareri Poi mi risponderà Ci sono i pareri Di tutto quello Che viene Riportato E la congruità Chi mi dà La congruità Sull'ipotesi Che sono fondate Su quel cosa Su quale analisi Le insegno Che quando Ci sta un progetto E ci sono Dei numeri Riportati a corpo Non è detto Che il corpo E sia fantasioso Il corpo Deriva da un'analisi Del prezzo Che si fa Da un'indagine Di mercato E l'indagine Di mercato Viene richiesta A più soggetti A più operatori economici Allora Il progetto Deve avere questo Non mi stene Racconto Cari consiglieri Comunali Che poi Pubblicizziamo Ad Agropoli Il borgo Di Babbo Natale Green Siamo stati bravissimi A mettere in grado Il progetto Il signor Sindaco L'ha fatto lei Quale progetto Lei sta ricevendo Una proposta E se oggi La cosa grave Ha dato inizio Di lavori È una proposta Deve essere valutata Ci devono essere Gli addendimenti Parliamo di fotovoltaico Green Quale fotovoltaico Nel periodo Più buio Dell'anno Dicembre Vogliamo Manifestare Che mettiamo Ad effetto Il fotovoltaico Consigliere Pizzo E sarà La soluzione Del risparmio Energetico Ci vogliamo Prendere in giro Questa è la nostra Osservazione Sempre Collaborativa E propositiva Mi riservo Di rispondere Dopo che ho ascoltato Il signor Sindaco E l'assessore al turismo Grazie C'è qualche altro intervento Prego Dottoressa Serra Allora La mia domanda È precisa Al sindaco Non all'assessore Non se ne deve volere Però Diciamo che Ha meno esperienza È più giovane Quindi ha l'impulso Di voler fare le cose Però le cose Vanno fatte Con una certa cautela Soprattutto quando Si tratta Di soldi Della comunità E di progetti Che vedono Interessata La comunità Tutta quanta Allora Signor Sindaco La prima domanda Che io le faccio Ma le faccio A me stessa La faccio anche A me stessa Perché il comune Non è in grado Di gestire Improprio Avendo tutti Gli strumenti Un evento Che invece Potrebbe diventare Un incremento Per attività Lavorative Sicure E certe Sul territorio Reinvestendo Questi danari Che vengono Da un progetto Cioè Secondo me Noi Perché lei È un sindaco Nuovo Quindi Può iniziare Una nuova storia Di determinati Di determinati atteggiamenti Cioè Perché noi Diamo in carico A delle cooperative A delle associazioni In fondo Si tratta Soltanto Di dare Un incremento Un incremento Economico Del lavoro Per un breve Periodo Di tempo A dei soggetti Che sono anche Molto bravi Ma i quali Dovrebbero Aspirare Non ad un lavoro Momentaneo Della piccola Progettualità Ma un lavoro Serio Continuativo Fatto Di reinvestimento Dei soldi Per un progetto Lavorativo Concreto Allora Quello che io Giudico E critico E non farei più Oggi Nel 2022 2023 È quello Di affidare Momentaneamente Perché l'utilizzo A volte Non è questo Il caso Della politica Per accontentare In quel momento Un'associazione Un'altra associazione Una cooperativa Che invece Dovrebbero Fare altri Studi culturali Ed altre proposte Ma non possono Proporre Un lavoro Che è momentaneo Ma veramente Noi per queste Associazioni E queste cooperative Vogliamo Un lavoro Del tutto Momentaneo E non contenti Di questo Noi mettiamo A utilizzo Di questi progetti I ragazzi Del servizio civile Che nascono Con altra Progettualità Con altri incarichi Che devono fare Esperienza Lavorativa Del loro settore Allora Sindaco Sì All'inizio Del cambiamento Se è questo Che vogliamo Tutti quanti Metta a frutto Le esperienze Passate Anche gli errori Che sono stati fatti Investendo In un nuovo modo Di capire Il lavoro Per i giovani E per chi fa parte Promesso L'obiettivo Raggiudicato Su questo Da la gente Allora io Lo invito Veramente Come hanno Fatti i miei colleghi Mai Questa venga Chiamata Un'opposizione Non costruttiva Facciamo i progetti Ecco Che siano Di costruzione Del futuro Questo è l'invito Che faccio Al sindaco Che faccio Anche Agli assessori Sindaco Che sono Sempre Sotto la sua guida È la sua Amministrazione Grazie Grazie Consigliere Serra Ci sta qualche altro Intervento Da parte Della minoranza No Se mi consenti Ma conmina Orore Perché me lo Ho dedicato Per una cosa Condipendendo Sempre Al borgo Del centro storico Borgo di Natale Con delibera 300 L'avete istituito Beh È di indirizzo Credo L'avete istituito Comitato del borgo Se possiamo Prendere Atto Di quello Che è Effettiva La vera volontà Che significa Comitato del borgo Se è una consulta Di quartiere Chi ne farà parte Perché La delibera È del 28 Va bene Ok È un altro argomento È un altro argomento Però È importante Che sul borgo Condividi Dato che È istituzione Comitato del borgo Premesso che non è un borgo È il centro storico Di Agropoli Quindi valutiamo anche L'italiano Quando facciamo Le deliberazioni Non è un borgo Il centro storico Di Agropoli Voi forse lo conoscete meno È un altro problema Non è un borgo È il centro storico Di Agropoli Con la sua dignità Risponde Sì Prima Il sindaco Prego sindaco Consigliere Pesce Per cortesia Può spegnere Il microfono Accolgo L'invito Del Consigliere Serda Accolato Però Consigliere Se loro ascolteranno Poi la relazione Che aveva Morda di dire L'assessore Avicello Accolato Delegato Di esporre L'argomento Vedete che Rispetto al passato Ci sta Un notevole Cambiamento Poi A cuore Il lavoro Dei giovani È nella Mente Di questo Sindaco Di questa Amministrazione Però Mi permette Di dire Ha elencato Delle belle Intenzioni Delle belle parole Però con il concreto I progetti Non ne vedo Nemmeno Quali sarebbero Le soluzioni Di affidare A giovani Dei lavori Continui E costanti E remunerativi La cooperativa Al quale È una cooperativa Formata da giovani Hanno All'interno È uno statuto Che ha Come tutte le cooperative Senza finalità di lucro Dà la possibilità A questi giovani Di poter Avendo Avere Da parte Della cooperativa Stessa Per i servizi Che danno All'ente Una remunerazione Quindi Anche questo È nell'ottica Del Diciamo Del garantire Delle risorse Per quanto riguarda I giovani Grazie Signor Sindaco Mi posso consentire Presidente Proprio veramente Rapidissima Io non occupo mai Molto spazio In cose inutili Allora Signor Sindaco La visione Della politica È quella Di utilizzare Quello che si Trae Da un progetto Per delle realizzazioni Che possono avere Una visione politica A lungo termine E quindi È questo Quello che serve La visione politica A lungo termine Di realizzazione Di lavoro Ne possiamo parlare In qualsiasi momento Lei voglia Di progetti Non è questo Il momento Di progetti Che possono realizzare Lavoro In una Stuttura Come questa In un comune In un territorio Come questo Che offre Occasioni Basta Saperle vedere La progettualità Consiste in questo Nel poter Vedere Nel futuro Politico Possibili Le occasioni Di lavoro Ma noi possiamo Ragionare In qualsiasi momento Lei voglia Perché ci sono Le idee Come se ci sono Per una realizzazione Di lavoro Non metto in dubbio Che questi Siano giovani Che vogliono lavorare Per l'amor del cielo Hanno fatto Una manifestazione Di interesse Ma questo Darà lavoro A dieci giovani Per un periodo limitato Noi vogliamo Non lo sappiamo Noi vogliamo Il lavoro Per un'ampia platea A cui siano ammessi Tanti giovani E con un'occasione Che non finisca In pochi mesi O in 40 giorni Era questo Che volevo dire Poi se lei Vuole parlare Di progetti Ci vedremo In qualsiasi momento E io le chiarirò Che cosa intendo Per progetti Lavori In un territorio Come questo Che dà impulsi Di ogni tipo Di ogni tipo Uscendo proprio Dalle risorse E dalle capacità Di questa terra Che ne ha tante Davvero tante Grazie Dottoressa Vuole intervenire Un attimo Vuole intervenire Un attimo Il consigliere Sando Suosso Veloce Velocissimo Sindaco Lei ha parlato Di giovani E sono d'accordo Su tutto quello Che ha detto Il sindaco Ma qua Nella proposta C'è scritto Personale Solo 15.000 E sotto C'è scritto Il sostegno Della protezione civile Dei volontari Del servizio civile Universale Gratuitamente Dite voi Chi lavora Il sostegno Della protezione civile O i giovani Fatemi capire Leggi La posizione È stata votata La sospensione È il ticket L'ingresso Del castello Angelino Ok Grazie Consigliere Sando Suosso Quindi Do la parola All'assessore Apicella Grazie 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 Presidente Grazie a tutti Allora Volevo fare un intervento Veramente veloce Nonostante L'interrogazione Sia molto Sia molto lunga Innanzitutto Volevo chiarire Perché già è stato ribadito Più volte Che se io sono qui Sono stato scelto dal sindaco È proprio perché lui reputa Che io abbia delle capacità Rispetto alle deleghe Che mi sono state date Quindi il fatto di non essere Stato consigliere Non vedo Che cosa possa Che cosa Ma io non posso Consiglio Consigliere Allora lei non deve Diciamo interpretare Sempre a modo suo le cose Io stavo contestando Dei numeri Che a mio avviso Non escono da nessuna parte Consigliere per favore Facciamo parlare L'assessore Consigliere Per cortesia Anche Per rompere Chi parla Però Per favore Per favore Quindi Però Manteniamo un'educazione In consiglio Per favore Allora Lei mi insegna Che C'è una delibera Che si può fare Successiva Che va ad abolire La precedente Proprio perché sono stato accusato Di non avere programmazione Nella nostra amministrazione Proprio perché Abbiamo invece programmazione Questi Sono i tempi Che Ovviamente Devono essere utilizzati Per l'organizzazione Di un evento Noi siamo partiti Il 29 7 Il 29 luglio Per programmare al Natale Certamente Fin quando Non sarà reso ufficiale Il calendario Ci saranno delle modifiche E' chiaro che noi Andiamo a ragionare Sulla modifica Eventuale Di una delibera E' questo io Quello che volevo rispondere Voglio rispondere Soltanto Su quello che lei Diciamo In prima istanza Mi ha Recapitato Come interrogazione Allora Innanzitutto Non c'è la possibilità Materiale Da parte dell'ente Di poter organizzare La manifestazione Perché Noi abbiamo Carenza di personale Anche per Per gli uffici Figuriamoci se c'è La possibilità Da parte di un ente Di organizzare Una manifestazione Così Il preannuncio Verrà fatta Per il carnevale Che si tratta Di una manifestazione Di due giorni E quindi In questo caso L'organizzazione Del comune Può sostituire L'organizzazione Da parte Di un'associazione Quindi Non so Se lei ha Modo Consigli Da darmi Per quanto riguarda L'organizzazione Da parte dell'ente Nella fattispecie Del comune di Agropoli Per organizzare L'evento Se lei mi dice Come si può fare Noi abbiamo Reputato questa cosa Tecnicamente E materialmente Impossibile Naturalmente Lei ha risposto Per quanto riguarda Il rilancio Delle tradizioni Le ricordo Che noi abbiamo Puntato Molto Nella nostra campagna Elettorale Sul rilancio Delle tradizioni Che saranno fatte E sicuramente Torneranno Quindi Le tradizioni Sono A mio avviso Un qualcosa di importante Su cui investire Nella fattispecie Si tratta di una manifestazione Ricordo che È stata proposta Ed inventata Tra virgolette Da altri soggetti Quindi Tornando al discorso Del comune Il comune Moralmente Non potrebbe Acquisire Un'idea Di un gruppo Di cittadini Soprattutto di un gruppo Di giovani Quindi da questo punto Di vista Il perché Il comune Non possa organizzare Una cosa del genere Credo di averlo spiegato Per quanto riguarda La postazione Nel castello Perché Qui bisogna fare una differenza Perché stiamo parlando ancora Della casa di Babbo Natale E diciamo Non si è vista la differenza Che stavolta Il progetto Si è allargato Al borgo Si è allargato Al borgo A tutto il borgo E quindi va ad ingolbare Quelli che sono I doppi progetti Il doppio progetto Che c'era l'anno scorso Che erano M'illumino di Natale Come ricordava Il consigliere Pesci Non so perché Non doveva intervenire Una cosa che Cioè voglio dire Di cui Che mi fa piacere Aver fatto Quindi organizzare Una manifestazione Per il comune di Agropoli Come presidente Dell'associazione Sbandieratori E in più Poi c'era La casa di Babbo Natale Quindi erano due cose diverse In questo Ma questa Allora A questa proposta A questo progetto Si sono succedute Riunioni Sopralluoghi Dove questo progetto Verrà Ovviamente Perché questo è un progetto Presentato dal proponente Ma chiaramente Che avrà delle modifiche Successive All'incontro con i funzionari E soprattutto Certo Ma per quanto Lei Diciamo Si riferisce ad alto Si riferisce al ticket Che non c'entra Stanno montando la casa All'interno del castello E gli ho chiesto Se è accessibile In questi giorni O no Ai ruitori È accessibile Ma è accessibile oggi C'è un cantiere aperto E è accessibile La risposta Certo È accessibile Infatti Se lei va Adesso può entrare Se lei adesso può entrare Va bene Sappiamo anche questo Infatti Il cantiere aperto È accessibile Ma il cantiere aperto Quello hanno già finito Continui Assessore Amicella No no Ma io sono Allora Io sono Io sono D'accordo Cioè A colloquiare E anche ad uscire da questa Da questa assise Con una modifica Però Cioè diciamo Dobbiamo basarci Su degli elementi certi Io prima facevo così Con le mani Perché i numeri Che lei ha proposto Cioè che voi avete Eh Prospettato Sono dei numeri Che non hanno Cioè non hanno Riscontro E non sono per i lievi Sono scritti qui E mi propone La OPQS Sono scritti Sulla proposta Sì ma non si tiene Non si tiene conto Di determinati Cioè di altre Gli altri fattori Importanti Ma io mi tengo conto Quello che È protocollato Al comune Non mi posso Non posso Sapere Chi c'è Io mi devo Ripare Le carte Che sono Depositate Lei non può Dire Che abbiamo Di Ma siamo qui Siamo qui Siamo qui anche Per una precisazione No perché Se no Il messaggio Che esce fuori È diverso Perché le cifre Che lei cita Non sono veritiere Soprattutto Non sono dei guadagni Perché sta dicendo Ha utilizzato Altro rispetto A quello Che è nella proposta Caro segretario Che è il balizzi Che sta dicendo Ma io ho detto Che Ha utilizzato Numero Non presi Da questa proposta Che è Appondamento Della delita Certo Io lo posso Anche Ma può procedere A quello che vuole Ma glielo posso Ma lei non è Il deposito Io stavo Permettendo Il dibattito Perché Lei deve accettare Quando è Nello sbaglio Lei deve accettare Quando è Nello sbaglio Perché lì Si sta parlando Di ingressi Dove ci sono Anche degli ingressi Gratuiti E lei ha conteggiato Sul totale Degli ingressi Cosa che non è veritiera Se ci sono 15.000 ingressi Ci sono Nelle categorie Che non pagano E lo scriviamo Sul progetto No È scritto È scritto È scritto Consigliere Pesce Per favore Consigliere Pesce Consigliere Pesce Consigliere Pesce Per favore Facciamo Terminare L'assessore E cerchiamo Di non intervenire Più Quando parla Qualcuno Ma non si può dire Che ha pregiato Chiunque Io sono qua Consigliere Pesce Lo può dire dopo Nel frattempo L'assessore E chiunque No 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 Io voglio prestare Il fianco Se c'è la possibilità Di contestare Si contesta dopo Voglio prestare il fianco Su un'altra cosa Ad esempio Che lei dice Che la pista Sul ghiaccio Ha grandissimi consumi Quando non ha bisogno Di elettricità Per essere Per essere alimentato In quanto È una pista ecologica Con ghiaccio sintetico Cioè Questo anche Ma perché Lei non l'ha chiesto A me Invece di venire A fare l'interrogazione Conigliere Conigliere Pesce Conigliere Pesce Che devo dire a lei Ci sono le commissioni Ci sono le commissioni Ma che è convocata Come la vostra Conigliere La commissione Per chiarezza Io l'ho depositata La mia istanza L'ho depositata Il 5 ottobre La volevamo Spogare La commissione E per darci Le delucidazioni Conigliere Pesce Per favore Devo dire a lei Se come una cosa Non deve essere Un progetto Qua ci sono dei re Conoscono E degli avvocati Che sanno Vabbè Prego Sindaco Abbiamo precisato Sui diversi Agromenti precedenti Che L'interrogazione Veniva vista Come modalità Di 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 Modalità Anche per quanto riguarda L'amministrazione Stessa Di portare A conoscenza Anche del popolo Di quelli che sono Le idee Le progettività E' anche l'occasione In questo momento Di fare Delle Etifiche Diciamo Diciamo Dei Diconoscimenti O delle Precisazioni Ulteriori Rispetto a Quello che Sono Il progetto Quindi L'intenzione Dell'assessore Da Pesce Era soltanto Quello Di far capire Che Quei numeri Potranno Essere oggetto Di modifica Ma dei numeri Che sono ipotetici Nel senso che A causa Anche del maltempo Delle cose Potranno Subire enormi Variazioni Diciamo Gli ingressi La possibilità Di Suffrire Di Suffrire Potrebbe Dessere Anche Però Se fa finire L'assessore La Pesce L'estavo Delle Perfetto Il mio intervento Era per questo Perché Gli anni L'ho capito E lo accetto Quindi Qua ci conosciamo Ci stichiamo Perché Perché Diciamo Siamo A fare Delle Precisazioni Da parte Della Amministrazione Stessa Rispetto Che Non c'è L'interlocutore Per cambiare La proposta Noi Possiamo Cambiare Cosa Se la proposta Ci viene Da una Cooperativa Che Ha fatto La proposta E ha partecipato Questi numeri Certo Non li possiamo Cambiare Noi Ne voi Che avete Recepito La proposta O sbaglio Quindi Dovremmo Richiamare L'interlocutore Ragionarci Sulla proposta E rivederla A disposizione Cosa che abbiamo Già fatto Ma noi Non lo sappiamo Scusate È incredibile È incredibile Ma L'assessore Sta finendo La sua esposizione Noi dobbiamo Passo passo L'assessore Sta finendo La sua esposizione Lo faccia Finire Per cortesire Da consigliere Lo facciano Finire E poi dopo Lo hanno diritto Le ho già detto Che non bisogna Prendere in riferimento Quella delibere In quanto Dopo la delibere Ci sono stati Degli incontri Dei colloqui Con i funzionari E quindi Il mio interesse È quello Che il comune Spenda Il meno possibile Per questa manifestazione Anzi A differenza del passato Perché lo voglio dire A differenza del passato Ci siano degli introidi Da parte del comune E noi abbiamo messo insieme Una serie di iniziative Per poter fare ciò Se non abbiamo E lo abbiamo Perché se fossimo partiti Come al solito A presentare il Natale L'8 dicembre È chiaro Che ci sarebbe stata Una problematica Noi siamo partiti Apposta a luglio Dove Come ha detto Il consigliere La Porta Giustamente Abbiamo fatto Una manifestazione Di interesse Alla quale Hanno partecipato Una serie di Di associazioni Di cooperative Di soggetti Che hanno presentato I loro progetti Una manifestazione chiara Limpida A cui Hanno potuto Partecipare tutti E potete consultare Attraverso il protocollo Tutte le associazioni Che hanno Protocollato Detto questo Ripeto Il risparmio Rispetto agli anni scorsi Innanzitutto La reintroduzione Del ticket Che quest'anno Sarà in vigore Quindi Io se lo sto dicendo Perché così sarà In primis Ricordando sempre Che tra il comune E la Prologovic C'è una convenzione Che scade A gennaio 2023 Poi Il risparmio Da parte del comune Rispetto ai 25.000 euro Che l'anno scorso Sono stati Elargiti Per Il progetto Mi Illumino Di Natale E' chiaro che quest'anno Non verranno più Elargiti Quindi Tutti i costi E tutta l'organizzazione Per i mercatini E per il resto Che l'anno scorso Hanno gravato Sulle casse dell'ente Quest'anno Non ci saranno E quindi questo A mio avviso Rispetto all'anno scorso È un risparmio Le ho chiarito La situazione Per quanto riguarda La pista sul ghiaccio Che io Conosco benissimo In quanto Proprio Questo mi sto Un po' Rispetto All' All'organizzazione Di una pista sul ghiaccio L'anno scorso Perché c'erano molti costi A livello energetico Qui si parla invece Di una pista ecologica Anche di Voglio dire Molto ridotta La quale Come energia Non consumerà Non consumerà Praticamente nulla Se non L'energia prodotta Dai faretti Che la dovranno illuminare Poi con la posizione Dei pannelli Fotovoltaici Che ci sarà L'1% di risparmio O il 2% di risparmio Sarà comunque Utilizzato Lo stesso iter Utilizzato per l'anno scorso Quindi non ci sono Quest'anno ulteriori A gravi Rispetto Alle posizioni Che sono state prese Negli scorsi anni Io non so se Devo rispondere Punto per punto Se mi date la possibilità Oppure c'è qualche punto Focale Che devo Devo mettere Non posso Anche questo Non parliamo Non lo voglio ascoltare Quello che ci vuole spiegare Perché a monte Lei omette Proprio quelli che sono I criteri fondamentali Di un affidamento Di un servizio Di un evento Cioè fa proprio confusione Il soggetto che è stato scelto Lei dice che ci stavano altri soggetti A me risulta che era pervenuta In un'unica istanza Se sono altri soggetti Con quale modalità di valutazione Lei ha valutato Quel progetto E gli altri progetti Qui siamo veramente Nella gestione Allora perché ci vuole Il funzionario Che gestisce L'ufficio Turismo Perché è lui Il deputato A fare questo Perché vedo che lei Di giuno Siamo proprio fuori Di ogni regola Ma no perché Chiedo scusa Ma io la devo interrompere Perché Allora O parliamo con i termini esatti Oppure no Allora perché È finito il calendario Io lo so Io trovo una grande difficoltà A parlare con i termini esatti No no Allora Lei mi deve rispondere A questa domanda Dalla quale ha tratto Questa Questa riflessione È terminato Il programma Degli eventi natalizi Che lei può dire Questa è stata esclusa Questa no Ancora non è stata esclusa Nessuno La prego Signor sindaco di Agropoli La prego Qui siamo proprio Alle copiche Che cosa significa Il calendario Qua stiamo parlando Del progetto Di Babbo Natale Nel centro storico Della città di Agropoli Lei ha detto Alcune sono state escluse Chi è stato escluse Per favore Consigliere Laporta Però Il Presidente del Consiglio Per favore Lei No è per favore Ma non venga Io so benissimo Quello che dico Il figuraccio Non mi sono abituato a fare Non ne farò Eh no Consigliere Perché già doveva Perché se qua stiamo parlando Che sono iniziati i lavori Dov'è il piano di sicurezza Dei lavori Se si fa male Un operaio O un cittadino Che si trova Nell'area Di quel cantiere Dov'è il piano di sicurezza Questa è la discussione Che dobbiamo fare Che lei è il digiuno Ma di che cosa parla? Ha fatto due domande diverse Quale delle due A cui devo rispondere? Allora L'evento Quante persone Sono in carico Alla cooperativa Che gli avete affidato Il servizio Che svolgono Le attività In sicurezza E sono operai Dipendenti Assicurati Ma anche se posso Lei lo sa Che sta affidando Un servizio A un soggetto Che preliminarmente Ci sono degli Addirittori Normativi E io Ricorrerò A tutti gli enti Sovracomunali Affinché Vigilano Sull'evento Ma questo non è il primo anno Che si fa questo evento Se non sbaglio Se si è sbagliato Per X anni Oggi Noi stiamo dando Mi sembra che non è successo Mai niente Nessuno mai ha Guardate Qua siamo veramente Il secondo anno Allora Però ritorniamo un attimo Cosa Presidente Però Lei però Non deve sfidare Non deve sfidare tutti Consigliere la Pola Cosa? Non deve sfidare tutti Perché come Fidare Giustamente Diceva il Consigliere Pesce Di evitare Determinale cose Io lo dico anche a lei Perché poi Allora Bisogna seguire Perlomeno Una certa educazione Almeno tra di noi E non mi sembra E non mi sembra Se lei parla di evitazione Nell'argomento del Vice Comandante Doveva fare entrare Il Vice Presidente del Consiglio E non Presidente lei Lei parla di cosa? Di che cosa parla? Io sono tranquillissimo con me stesso Io sono tranquillissimo con me stesso Con me stesso Con me stesso E perciò Ho raddoppiato E allora E dalle inesattezze Che ha detto il Consigliere Pesce Scusami Ma ci sta Ci può essere Nessuno è intervenuto Chiedo scusa Chiedo scusa Chiedo scusa Per l'indemnere No 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 Altre cose Sì altre cose Detto questo Prego Prego Consigliere La Porta Ci dica Se è soddisfatto O no Mi scusi C'è ragione Ah si scusa Mi scuso Mi scuso Perché ne ho detto Non ne ho detto Non dovevo Non dovevo Non sono soddisfatto Dica se è soddisfatto o no È convinto l'argomento Non sono soddisfatto Stiamo calmissi Non sono soddisfatto Le ipotesi Ci stanno Dei dati certi I 25.000 euro Che lei rappresenta Che lo scorso anno Sono stati spesi Gli rappresentava Una nota veloce Il costo della navetta Il costo dell'energia Il mancato ingasso Sui ticket Lei è deputato A controllare Gli ingassi Del ticket Del castello Il sottoscritto Si è recato Presso la ragioneria Dell'ente E ha dovuto Osservare Consigliere Pizzo Ha dovuto Osservare Che i ticket Che è un commercialista Sa bene Che la tracciabilità È fondamentale E quando vengono fuori I numeri all'otto Dai giornali Che si parlano 3, 4, 5 500.000 euro Di ipotesi Di ingasso Da parte Del soggetto Che è stato individuato Dall'ente Ve le dovete tenere Perché Alla base Manca un progetto Quel progetto Che controlla Tutte le fasi Dell'evento Assessore Apicelli Lei è in grande difficoltà E non può confrontarsi Perché Lei parla Dell'evento Del calendario Di quello che è stata La sua esperienza Passata Qui è un'altra cosa Qui parliamo Di danaro pubblico Di servizi Che vengono gestiti Non dalla politica Dai funzionari E quando lei decide Da un indirizzo Ai funzionari Parliamo di risorse Di risorse pubbliche Di tutti noi E allora Deve stare attento Appunto Per superficialità A trattare l'argomento Grazie La superficialità Non è una mia caratteristica No, non ho finito Volevo concludere solo Perché Per rispetto Anche del Naturalmente Dal prossimo punto Facciamo il primo intervento Risposta Perché poi Non è più Possibile Continuare Altrimenti Concludo dicendo Come ho già detto prima Che comunque L'argomento È oggetto E sarà oggetto Di modifiche Perché È mio Interesse Che l'ente Innanzitutto Non spenda Un euro Ma soprattutto Che cerchi di Ma questa è una cosa Cioè che noi abbiamo fatto Anche con altre manifestazioni Cioè questa è una cosa Voglio dire Che non bisognerebbe Neanche sottolineare Cioè Chi Amministratore Vuole sperperare Soldi pubblici Cioè Chi è che si prefissa Di sperperare soldi pubblici E soprattutto Perché lo dovrebbe fare Quindi questa è Questa è la domanda Che mi fa Prego Prego consigliere Sulla buona fede Sulla volontà Di aver ricevuto La carica Di L'incarico Di assessore Non ci sono dubbi Che ce la stai mettendo Tutta per fare le cose Però ci sta un modo Per fare le cose Che Non è quello Che ci stiamo dicendo Oggi Solo questo Credo che Il mio collega Massimo La porta Voleva dire questo Qua nessuno Vole offendere Paghiamo gli animi Ma io mi rifaccio La delibera Che approva Il progetto Titolo Borgo I Babbo Natale Come da manifestazioni Interesse Assunta A protocollo Di questo ente Numero X Della OPS Cooperativa Sociale Teso a realizzare Una serie di iniziative E quindi E il progetto E la delibera Oggi Sono l'unica Certezza In realtà Ora Per cambiare Come dicevo prima Col sindaco Che ci siamo detti Ovviamente Non è che possiamo Cambiarla Voi Giunta Ma ci deve essere La cooperativa Che sia giudicata Ci sono In effetti Interlocuzioni E quindi Se ci sono Queste interlocuzioni La nostra Interrogazione Sulla quale Stiamo discutendo Non era affatto Infondata Se anche voi Vi siete resi conto Che ci sono Degli argomenti Da poter Limare Addirittura Da arrivare A ritirare La delibera E rifarla Nuova Benvenga Ma Quindi era fondata La nostra interrogazione Studiata Soltanto su atti Che noi abbiamo letto Insieme E sui dati Che loro hanno fornito Come proposta Non ce li siamo inventati Quindi Chiudiamo la discussione Su questo Perché se no Facciamo anche una brutta figura Però noi ci rifacciamo A quella che è Grazie consigliere L'ultima cosa L'ultima cosa Noi dicevamo appunto Di revocarla Questa delibera Perché a nostro avviso La sentava Proprio L'illegittimità Perché c'erano delle Non era una proposta Esaustiva L'abbiamo detto A primo rigo Quindi se anche per voi E' così Prendiamo atto E siamo Soddisfatti Aver presentato Questa interrogazione Congiunta Di tutti i consiglieri Ne faremo altro Sempre nell'interesse Del paese Non per screditare Lo pagato Della maggioranza Ma nell'interesse Del paese Questo è poco Ma sicuro Poi Se ne ritiene Di poter cambiare Le cose Oppure che Il consigliere Debba Quotidianamente Chiamarla Per dire Come stanno le cose Non attenersi A quello che è stato Deliberato E' un metodo Che purtroppo Non può andare avanti Così Si deve discutere Nelle sedi opportune E va gestita La buona amministrazione Con la differenzazione Come le leggi Vuole Tra i poteri Di gestione E i poteri Di indirizzo politico Perché se no Non andiamo a nessuna parte Il funzionario Fa il funzionario L'assessore Fa l'assessore E il consigliere Svolge attività Di indirizzo E controllo Questa è La buona amministrazione Nel 2022 Dovrebbe essere così Grazie consigliere Vuole intervenire il sindaco Sì volevo fare una precisazione Appunto Perché il mio intervento Prima era quello Inteso a plagare gli animi E a dare modo All'assessore Di continuare La sua esposizione Per precisare Che appunto Ci sono delle Interlocuzioni Con i soggetti Permanenti in costo E che ci saranno Sicuramente Delle modifiche Riguardo al progetto Per quanto riguarda Volevo fare una precisazione Riguardo all'intervento Del consiglio della porta Circa gli scondini Ticket di ingresso Al castello Non è vero Che non c'è Tracciabilità Gli ingressi sono rilasciati Con ticket tracciabili E dopo ci sta Una corrispondenza Tra i responsabili C'è controfirmato Dalla consegna Della quota Corrispondente Al comune E consegnata Con verbali Firmati Sia dai responsabili Del servizio finanziario Sia dai responsabili Del servizio turista Signor Sindaco Stavo mettendo Che la consegna Che viene fatta Al soggetto privato È incontante Lei deve Incazzare Tutta la somma E fare Il mandato Di pagamento Al soggetto Assegnatario Nel momento Che preleva Le somme Ne trattiene Il 50% Il comune Che lo versa Regolarmente Nelle casse comunali L'altro 50% Non vi è La tracciabilità La prego Perché siamo Sulle cose basilari Ok grazie Passiamo al prossimo punto All'ordine Buongiorno Presidente E' di breve No no E' una cosa Veloce 30 secondi Consigliere Santosurso No 15 Presidente Io E' una cosa Che voglio rivolgere A lei Io ho fatto Il Presidente Del Consiglio Per 5 anni Beh forse Penso che si renderà Conto Che L'istituzione Del Presidente Del Consiglio Nell'ambito Del Consiglio Comunale E' primario Angers Di fronte al sindaco Lei Non vuole intervenire Sugli argomenti Del Consiglio Comunale E soprattutto Non si deve arrabbiare In quel momento Io mi arrabbio E non sono nervoso Per nessun motivo Io mi arrabbio Solo quando vedo Che manca L'educazione Soprattutto In un posto Come questo Non sono nervoso E non sono Arrabbiato Caro consigliere C'era qualcun altro Che si arrabbiava In passato Io lo sto cercando Di fare in maniera Diversa Siete arrabbiato No Io rispondo Dove è giusto Dove è giusto Che debba rispondere Io rispondo Caro consigliere Consigliere Il potere Il potere Il potere Che se succede Una distra E' l'unico Che può chiamare Le forze dell'ordine E' lei Neanche il sindaco Nell'ambito Del Consiglio Comunale Quindi Lei è un'istituzione Faccia un'istituzione Vabbè Andiamo avanti Grazie Sindaco Posso Un consiglio soltanto Dato per le interlocuzioni Che ci saranno Affindi bene Sto parlando No ma non ce ne saranno Più interruzioni Scusami 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 Noi siamo a favore Di quello che si farà Vabbè Mettiamola così Grazie Consiglio Acquisite agli atti Il bilancio sociale Della OPVS Perché mi risulta Il 2021 E' di circa 6.000 euro 2021 quindi Al 31 gennaio 6.000 euro 2021 Il bilancio sociale E' di 6.000 euro Ovviamente Babbo Natale E' finito Dopo l'epifania Ma penso Il 31 gennaio Un bilancio sociale Di 6.000 euro Mette tu Però l'acquisiremo Dato che non è agli atti Non ne ho contezza Ufficiale Non ho una copia Conforme Vi dico solo Di acquisirlo Per prendere atto Di quello che sono state Gli introiti Alla OPVS Nella scorsa edizione Ufficializzati Grazie Va bene Passo al prossimo Punto All'ordine del giorno Punto numero 7 Interrogazione Interpellanza Del consigliere Ilvira Serra Sindaco Sull'apertura Del micronito Prego Consigliere Serra Grazie Presidente Mi date L'opportunità Mai come oggi Perché vedete Che non ho ancora Salutato L'assessore D'Arienzo Perché dobbiamo Guardarci Attorno In quest'Aula Consigliare Sono rimaste Soltanto due donne Assessore Solo due donne Questo dice Quanto sia La difficoltà Delle donne A partecipare Alla vita sociale Anche alla vita Politica Perché l'attività Delle donne Hanno un costo La famiglia L'accudimento Di familiari Che non hanno Altro modo Per essere aiutati Quindi Fasce deboli E allora Quando accade Una cosa Di questo tipo Come Purtroppo Ricordo I Gravi problemi Familiari Dell'assessore L'accudimento Viene prima Di tutte le altre cose E allora Come vogliamo Che le donne Partecipano Alla vita sociale Come devono fare Le donne A cercare O a tenere Un lavoro Perché L'avete visto Anche durante Il covid Chi ha perso Il lavoro Sono soprattutto Le donne E allora Questa società Vuole veramente Signor sindaco Che le donne Prendano parte Alla vita associativa Anche a quella Politica Io credo Non tanto Perché Se dobbiamo Mostrare Quello che è presente Qui In cui Sono così poche Le presenze femminili E c'è una maggioranza Maschile Dobbiamo dire Che forse a queste donne Non è stata l'opportunità Di dedicarsi Ad altre funzioni Che non fossero quelle Dell'accudimento Delle proprie famiglie L'accudimento Delle proprie famiglie È fatto anche Da sapere Dove si mettono I propri bambini La mattina Quando una donna Vuole andare a lavorare Dove lo mette Un figlio piccolo Chi baderà a lui Se ha i soldi Mette una babysitter Privata Con tutto quello Che può essere La babysitter Privata Che non ha le competenze È un esborso di danaro Che le famiglie Non abbienti Non si possono permettere Allora io ho salutato Con interesse L'attivazione del micronido Perché non è La quantità Delle famiglie Che ne hanno fatto richiesta Che non sono più di 20 Ma può essere Tracciare una strada Iniziare a dire Che se si vuole Che le donne Facciano parte appieno Del tessuto sociale Anche della politica Se lo vogliono Se lo vogliono Bisognerebbe metterle Nelle condizioni Di poterlo fare E allora ecco Abbiamo un progetto Un progetto Che stiamo ancora in attesa Che venga messo in atto Allora io Proprio stamattina Non so se ho completato Il discorso prima Dell'assessore D'Arienzo Che ha fatto Un ottimo lavoro E alla quale Avrei consigliato Di rimanere Ma si vede Che proprio Non può E quindi La salutiamo Per il lavoro svolto E per le capacità Dimostrate Questo da donna a donna Le fa onore Perché io so Quanto costa Ad una donna Impegnarsi Anche in altre attività Allora io dico Questo Questo micronido Dobbiamo forzare Perché gli adempimenti Siano messi in atto Quanto prima possibile Perché le famiglie Stanno aspettando Le donne Per cominciare un lavoro Per chiedere un lavoro Stanno aspettando Di collocare Uno di quei piccoli bambini Nel micronido Quindi la politica Ha un'estrema Funzione sociale Anche culturale Evolutiva Oltre che educativa Il piano di zona Stamattina Compare Su articoli di giornale Allora vorrei Che si attivasse Invece Per fare il bando Per fare gli avvisi Affinché questo comune Possa aprire il micronido Ho chiesto al funzionario Responsabile So che a giorni Dovrebbero iniziare I lavori Per quanto riguarda I bagni Del micronido Però non vorremmo Trovarci nella condizione Che il comune Abbia affettuato i lavori E invece il piano di zona Non ci abbiamo dato Ancora I servizi O se lo ha fatto Al contrario Potremmo trovarci Con il piano di zona Che è approvato E la scuola Non è ancora pronta A ricevere Queste famiglie E questi bambini Allora questo consesso Deve attivarsi tutto Affinché Si vada Nell'ufficio preposto Si chiamino le ditte Si avvii Quanto prima Il procedimento Affinché La scuola Riapre Mi è arrivata Una risposta In cui si dice Che il piano di zona Aveva previsto L'apertura Nei primi giorni Di novembre Guardate Se non si fanno i lavori Saranno superati Questi primi giorni Di novembre Ma sappiate Che questo ritardo Gravano sulle famiglie Allora stiamo attenti Stiamo attenti A che l'esecuzione Dei lavori Sia quanto mai Celere Perché Su questo consiglio comunale Chi si occupa Dell'argomento Gravano La voglia di lavorare Il bisogno Delle famiglie Il bisogno Dei neonati E dei bambini Certo Ad avere una scolarizzazione Uno spazio gioco Delle menze Ricordiamoci sempre Che in questo comune Ci sono famiglie Non abbietti Che hanno bisogno Del micronido Che la nostra società Gli poi Gli deve dare Grazie Grazie consigliere Serra Prego sindaco Grazie presidente E nel Condividere L'opinione Suolta Da consigliere Serra Circa la L'importanza Della presenza Delle donne Nel mondo Della politica Io la condivido Al pieno Perché Sono sicuro E certo Che Del loro importante Apporto Che potrebbero dare In un consenso Politico Come quello Del consiglio comunale Ma in tanti altri Così come Egregiamente dimostrano Potenzialmente Sia in ambito Familiare Ma in tutti i settori In cui le donne Hanno Modo di potersi Esprimere Quindi da parte mia C'è grande solidarietà A questo Algomento E grande Voglia Diciamo Convenzione Per tutte le attività Che il mondo femminile E tenute Quindi le Deppicolta Che stessi hanno Nel Diciamo Nel dedicarsi Ad altre attività Oltre all'ambito Familiare E quando riguarda L'argomento Oggetto di Interrogazione Già con un comunicato Stamma Di qualche giorno fa Decisammo Che il ritardo Nell'assegnazione Nell'inizio Del servizio Non dipende Dal lente comunale Ma da Un bando Che deve Aspettare Il piano di zona E che Lo stesso È stato Più poco Sovecitato Così Che la Sera L'ha sottoscritto Ma Anche ufficialmente Con note PEC Del responsabile Del servizio Una nota PEC Del 12 ottobre 2022 E una nota PEC Del 18 ottobre 2022 Quindi siamo In attesa Che venga Espletata Questo Bando Per quanto riguarda Invece I lavori Ne posso garantire Che i bagni Già sono Ultimati E che Stamattina Iniziamo I lavori I ultimi lavori Con determina L'ufficio Lavori pubblici Di separazione Definitiva Dele duale Tra La scuola Dell'infanzia E migliorito Quindi Per quanto riguarda La tempestività Dei lavori Gli stessi Saranno Sicuramente Ultimati Per fine Mese Quindi In tempo Per garantire L'apertura Che poi Non dipenderà Da noi Ma Garantire L'apertura Gli inizio Inizio Di novembre Cosa Che Ricordo Anche Negli anni Passati È avvenuta Di questi Veri Grazie Sindaco Sono soddisfatta Con la risposta Non la toglie Che noi Vi staremo Col fiamo Sul collo Perché Se ci dovessero Essere Dei ritardi Non avremo Paura A dirli In qualsiasi Consesso A venirveli Pure A fare Le dimostranze Pure direttamente Nel nostro Ufficio Non vorrei venire Con le mamme Ma io Mi presenterò A nome loro Grazie Grazie Consigliere Serra Passiamo al prossimo punto L'ordine del giorno Interrogazione Interpellanza Del consigliere Elvira Serra Al sindaco Sul vendilato Progetto Di un'arena In località Trentova Prego Consigliere Serra Grazie Presidente Di nuovo Saluto il sindaco L'assessore Arramo E premetto Che non sono Contraria Ad un'arena Per eventi Perché E' chiaro Che può essere Un progetto Utile Per la città Noi siamo Contrati A che Questa Si realizzi A Trentova Perché innanzitutto Crediamo Che esistano Altre aree Più vicine A svincoli Stradali E poi Che hanno Un minore Impatto Sull'ecosistema Ambientale Di questa Area Protetta Perché Dico Ventilata Perché Mi pare Che non ci sia Un progetto Ben definito E allora E' sempre Bene Dare una Comunicazione Cittadini Quando si parla Di un argomento In città Perché è capitato Altre volte Che c'è stato Un distacco Tra la giunta Il consiglio E la città Quindi la città Vuole sapere Che cosa accade Perché Quello che accade Non deve passare Sulle proprie teste Che cosa vuol dire Il cittadino Ha il dovere Già che Trentova È patrimonio Di questo comune Ed è patrimonio Di questo comune Quando fu acquisito Dall'ex sindaco Franco Alfieri Mi pare Forse il 2015 Proprio il 15 novembre 2015 Qualcuno mi correggerà Se sbaglio E lui disse Che acquisiva Il patrimonio Del comune di Agropoli L'area Trentova Oasi Oasi naturalistica E che Da quel momento Sarebbe stata Protesta E non sarebbe stato Tattato Neanche un filo d'erba Riporto Tutte le parole Dette dall'allora sindaco Ne ha dette Anche altre Ma fino ad oggi Mi pare Che non ci siano Stati problemi Perché l'evento Peggiore È che i cittadini Si trovano A subire Un progetto Di uno dei posti Più belli Della sua città Questo luogo Ha già Un peso Antropico Importante Perché è visitato Ma forse Da persone Di tutto il mondo Proprio per la sua bellezza Ed è già sfruttato Turisticamente Al massimo Perché ha un turismo Per famiglie Che noi non dobbiamo Dimenticare Perché il turismo Per famiglie Riempie questo paese Quindi Lì c'è già Secondo me La maggiore Espressione Antropica Che può tollerare Quella Oasi Protetta Perché è proprio Da qui che dobbiamo Partire Qual è la vocazione Di quel territorio Qual è la vocazione Di quell'area Allora ricordiamoci Che cosa Vuol dire Oasi L'oasi È un posto Naturalistico Dove viene protetta La flora E la fauna Per sua definizione E non l'abbiamo noi Questa definizione L'evento invece Turistico Di massa È un'altra cosa E già Definirlo di massa Perché se si pensa Ad un evento Dove Possono arrivare 20.000 persone Noi dobbiamo Immaginare Che il peso Antropico Che dovrebbe Tollerare Quell'area Non è compatibile Proprio con il termine Oasi Oasi Allora Perché noi partiamo Dal concetto Che non siamo Contrari Ad un'arena Ma non in quel luogo Perché può essere Quanto vuoi Ecocompatibile La struttura E può anche Essere autorizzato Dal parco Ma quando La procedura È accettata Dal parco Perché ho visto Delle fotografie In cui si dice Che il parco Sarebbe favorevole Allora Sarebbe favorevole A che cosa Alla presentazione Di una normativa Che non ha irregolarità Ma in questo Però non rientra Non rientra L'uso E l'abuso Di un'area protetta Allora noi dobbiamo Innanzitutto Fare educazione ambientale E la dobbiamo fare Ogni giorno L'educazione ambientale Quando si muove Una componente Di un ambiente Quella è Una malattia Di quell'ambiente Voglio fare Un esempio Molto semplice Ma ne potreste fare Voi altri mille Anche la questura Ne potrebbe fare Altri mille Esiste un insetto Piccolo come l'ape Che conoscete tutti Pensate che la morte Di una piccola ape Determinerebbe L'inizio E della fine del mondo Allora Che cosa voglio dire Con questo Che un equilibrio Così delicato Come un'area Naturalistica In cui Dei suoni Un calpestiglio Diciamoci la verità Anche l'utilizzo Di spiagge Che la mattina dopo Dove essere Fluite da famiglie E quindi Non è che tu Puoi Non consentire A giovinarsi Di raggiungere la spiaggia La mattina dopo Il bambino Trovare Una siringa Sulla spiaggia E farsi male Quello vuol dire Avere inquinato Quel luogo Allora Parliamo di una zona A protezione Unesco Dove ci sono Degli animali Soprattutto volatili Che potrebbero Essere infastiditi E non Edificare più In quella zona Allora Questo comporterebbe Un danno Al patrimonio Di questo comune Quindi io dico Quando partiamo Con grande entusiasmo L'entusiasmo Giovanile È sempre Una bella cosa Però noi Guardate Di battaglie Di Trentova Ne sono state Fatte tante Perché ogni tanto Sapete che cosa Si dice Ma questo è Del comune Ma che ci facciamo Lì Bene Lì Non ci dobbiamo Fare niente Perché l'amministratore Oculato La protegge Quella zona Evita che sia inquinata Ne mantiene La bellezza Perché già Trent'anni fa Ci volevano fare Prima un villaggio Toglistico Poi un campo Da golf Allora Sindaco Il calpestio Di 6.000 persone Su un territorio Consuma o non consuma La flora della fauna Allora Pensiamo a Trento Ma con un altro progetto Dove si investa Ancora di più In flora mediterranea Attività all'aperto Fatte continue In maniera gratuita E molteplici Non è proprio Quella l'area Allora Il sindaco Mi può rispondere Dottoressa Ma tu hai un posto Diverso dove farlo Sì Tanto è vero Che la mia richiesta È indirizzata Anche al capo Della polizia urbana Perché? Perché un'arena Deve avere le vie di fuga Se accade qualcosa Ma veramente Si può mandare Migliaia e migliaia Di macchine In una zona stradale Già gravata Da una sua Diciamo Da un traffico veicolare Già così disastrato Visto che abbiamo Da una parte Una strada Che sta crollando Verso il mare No? Allora Non sarebbe il caso Di trovare un'area Dove gli svincoli stradali Sono vicini Io ho pensato Alla zona mercatale Ad esempio Oppure dove abbiamo già Dove abbiamo già Il campo sportivo Io sono stata All'arena Pestum Allora L'arena Pestum Che tu mi citavi Ci siamo visti Da vicino L'altra mattina È un'arena Dove il calpestio Non interessa a nessuno Il fatto di mettere 15 bagni chimici Uno in fila All'altro Non interessa a nessuno Perché è un'area totalmente recintata Dove già è consumato il terreno È terreno Ma Trentova Tu capisci Che ogni volta Che un piede Si posa lì sopra Può schiacciare Un patrimonio Vegetale Che è il patrimonio Dell'UNESCO Allora Noi l'abbiamo protetta Con altre battaglie Abbiamo fatto quello Che si doveva Le persone sono preoccupate Noi non vogliamo essere Noi ad iniziare Una battaglia Per Trentova No L'abbiamo fatto in passato Ma la potremmo riprendere Perché Trentova Come altre aree Che sono del patrimonio Di questo comune Vanno tutelate Difese Risparmiate Non esiste affare Che si possa fare In zone come queste L'unico affare Che bisogna Fare Nella zona di Trentova È rispettarla E consegnarla Sindaco Ai nostri figli Migliorata Se non così com'è Questa è la preghiera Che io faccio a voi Perché Trentova È un posto Che amiamo Ma di amore puro Che è stata Che è palcosciente Nella nostra storia A me poco meno importa Quello che dice Il direttore del parco E anche il presidente Ateriremo anche Contro di loro Con le associazioni Se faranno qualcosa Che non va affatto Perché più di dire Sì è presentato Un bel progetto Il progetto È ecosostenibile Però mi devi dire La fattibilità dei luoghi Questo gli chiederemo Vabbè Io sono sicura Che tu non vuoi questo E non arriveremo a questo Ma Trentova È un'area protetta E tu Come tutti noi La dobbiamo proteggere In tutte le sue componenti Grazie Mi ringrazio Risponde L'assessore Apicella Prego Prima di rispondere Volevo ringraziarvi Dottore Perché voi mi vedete Sempre come un giovane Purtroppo non è più così Diciamo che Vi ringrazio Vi ringrazio veramente Allora Le spiego subito Perché tutto nasce Da un posto Che dalla pagina Roberto Antonio Notali Passi È apparso Diciamo successivamente A una nostra visita Al parco Dove noi Vi dico Che non siamo Tanto sproveduti Perché prima Di presentarci al parco Altrimenti ci avrebbero Veramente deriso Siamo arrivati Con un progetto Che è stato fatto Da professionisti A titolo gratuito E soprattutto Che valutasse La pattibilità Da parte Diciamo Della realizzazione Di un'eventuale arena Il nostro La nostra volontà La mia volontà Ancora Stiamo ancora in fase Per favore Per favore Ma chiedo scusa Abbiamo la possibilità Di fare un progetto preventivo Possiamo sviluppare Un'idea O anche l'idea La dobbiamo condividere La dobbiamo protocollare L'amministrazione Definitivo Definitivo Quello che dice Io sto cercando di farlo capire Allora Dobbiamo far parlare L'assessore Vabbè Vabbè Allora Chiamiamole idea Scusate Io accolgo con molto piacere Il fatto che abbia detto Che è un'idea Va bene Per favore La vedremo Un progetto Con professionisti Mario 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 va bene Ma dato che l'assessore Ha parlato Io sono intervenuto solo Perché ha detto Un progetto Fatto da Allora Possiamo sapere Chi sono i professionisti Fanno un progetto Facciamo parlare l'assessore E' chiaro 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 Come voi Ben sapete Che se lui Ha un'idea Quest'idea Ma inizia La prende Si confronta Con dei professionisti Perché è chiaro Non è lui Chi è l'autore Quando ho questo Contronto Porterà Con il centro Di questo Contronto Comunale E di tutti Anche perché abbiamo Parlato di un incontro Informale Ma non stiamo Mazzuccando Io il primo Vi ho chiamato Non è una Grazie Grazie Però devi dire La verità Chi ho chiamato Io Tu sei il presidente Della commissione Non c'è una mia interrogazione Perché tu mi hai detto Non c'è nessun progetto Vabbè Anche per Varie ipotesi C'era l'ipotesi Trentova Che io porterò Comunque avanti Se è fattibile Ma questo non vuol dire Che è un progetto Già pronto Tanto è vero Che io E me lo possono Consigliare E me lo possono Confermare I consiglieri Nella scorsa Riunione di maggioranza Abbiamo deciso Di portarla All'ordine del giorno Proprio per iniziare A confrontarci Su questa cosa E chiaramente Essendo un'idea Potrebbe essere Rivoluzionata Anche completamente Quindi si trattava Soltanto di un'idea Dottoressa Che è quello Che le volevo dire Della 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 organizzazione Della realizzazione Di questa arena Che però comunque Sarà compatibile Rispetto a tutte le cose Che lei Lei ha descritto Nelle Diciamo Nell'istanza Cioè Non so se Lei cosa vuole sapere Visto che mi ha chiesto Molte cose Perché Voglio dire È chiaro che Tutto il contorno Dopo la La nascita Dell'arena Sarà Tutto rivoluzionato In bene Ma no Ma no Non devi toccare niente No ma perché Aspetta Ti ho detto Allora Se ti fermi Sull'idea Che ci sono altri progetti Il termine rivoluzione Il termine rivoluzione Non è sempre un termine negativo Su come fare Progettualità Siamo d'accordo Ma no Ma quando tu dici Tu dici Allora Che avete incontrato Addirittura in caldo L'assessore all'ambiente E i tecnici Avete incontrato I tecnici del parco Per discutere Della progettualità Preliminare Per realizzare Un'arena Spettacoli Nella zona Trentova Tu mi permetti Che io ti devo dire La differenza Che c'è Tra una Area Di quel tipo Che si chiama Oasi Che non è compatibile Ora mi dici Che saranno valutate Altre cose Sai come mi hanno risposto Al parco Mi hanno risposto Che non c'è Alcun progetto Che loro Se dovessero Ricevere un progetto Lo valuteranno Se è possibile Farlo là Questo è Quindi dare per scondato Sai che cosa vuol dire Che a volte E no Perché tu dici Abbiamo dato un incontro preliminare Siamo andati con i tecnici Per discutere Una progettazione preliminare Per realizzare Allora Senni a me Senni a me Prima di dare le notizie Non le mettiamo sui social Segui l'indicazione Dei consiglieri Che ti hanno detto Come si fa La progettualità Di un progetto Che si vuole portare Non lo sanno Che sono esperti Allora Giselle Ma io se voglio fare un progetto Come già fa L'iter è quello L'iter è quello Non può scriversi Perché in genere Nella città Una preoccupazione Una paura Ma non c'è una preoccupazione Che sta degenerando voi Ma non c'è una preoccupazione Vuole intervenire un attimo Il sindaco Vuole intervenire un attimo Il sindaco Ma c'è così Va bene Giusto Giusto a precisazione Giusto a precisazione Di quanto Anche in questo commento La discussione Sta degenerata Chiedo io Scusa forse Del post Che abbiamo fatto Però E voler pubblicizzare L'azione Amministrativa Del dire Che attraverso L'assessore al commercio E gli eventi Al turismo E in quell'occasione Siccome riguardava Una zona Direttoressa Le ricordava a me Ma noi l'abbiamo ben a mente Che quella è un'osee naturalistica L'abbiamo ben precisato Nel nostro programma elettorale Che ogni nostra azione Sarà quello della tutela Però Mi deve pure consentire Dottoressa Da togliere Verranno utilizzati Gli spazi Che attualmente Sono messi Eventualmente Verranno utilizzati Gli spazi Che eventualmente Verranno Sono messi a riposo Durante il periodo estivo Questa è l'idea Progettuale Che noi abbiamo Il nostro primo Indellocutore Giustamente Trattandosi Di un'area Che rientra Nel parco nazionale Del Cireno È stato Il direttore del parco Per il quale abbiamo Appunto Pospettato L'idea progettuale Di questa realizzazione Questa idea progettuale Il direttore del parco Ha risposto Con essere Possibile Però Fermo l'estante Che è l'ogge Che noi dobbiamo Presentare i progetti I quali Saranno esaminati In BMSG Dai stessi funzionari Dirigenti Del parco stesso Quindi Ribadisco Non c'è Nessuna Intenzione Di deturpare L'oasi Naturalistica Tantrova Tresino E Eventualmente L'ipotesi Di Utilizzazione Nel periodo estivo Di una modalità Diversa E che non In contrapposizione A quelli Che è già Sfruttato Perché I percorsi Trekking Rimarranno I percorsi Ippici Rimarranno Tutte quelle Che sono le attività Già oggi Presenti Nel centroviso Di Tantrova Rimarranno Quindi Al momento in cui Avremo Il progetto pronto Vede apportato All'esame Che è la commissione Pertinente E quindi Avremo modo Poi di discutere Grazie Grazie Due secondi Sindaco Ma per essere Sempre collaborativo Presidente Noi abbiamo L'ufficio urbanistica L'ufficio lavori pubblici Prima di andare In un ente Sovraccomunale Noi abbiamo Uno strumento Di pianificazione Dove Conosciamo Bene Il nostro territorio Zona SIC Allora Deve munirsi Dei pareri Dei suoi funzionari Di quelle figure Consapevoli Che quella è una zona SIC Allora Se ne è consapevole Lo sa bene Che il parere Del parco Non è l'unico parere In quell'area Che noi dobbiamo avere Ingegnere Marciano E allora Prima di avventurarsi Per fare Tutte queste cose Cerchiamo di costruire In casa E tutto E poi Pubblicizziamo Che può essere Un'idea Giustamente L'amministrazione Ha la facoltà Di mettere in piedi Qualsiasi progettualità Ma seguiamo Un percorso Sfruttiamo Le nostre figure Avicali Grazie Posso dire una cosa Prego Consigliere Abagnala Come ultimo intervento Solo per non fare Confusione Per chiaro Quello che ha detto Solo tecnicamente Per non Per non Creare confusione A chi ci ascolta E chi in aula Nel Lo sappiamo benissimo Quella è un'area Vettorico Oltre all'area SIC È Aria sottoposta A tutti i libri Non ultimo Quello Della Unidificabilità Assoluta Quindi Dobbiamo rassicurare La popola Forza E la sovrintendenza Oltre il parco Oltre il SIC E oltre l'area Archeologica Quindi dobbiamo Assicurare La consigliera Prima cosa La cittadina A passare Questo messaggio Si è ben chiaro Una volta Che è passato Questo messaggio Dove nessuno Può edificare Nessuno può intervenire Ci sono degli Interventi Che si possono fare Come in tutti i parti Nazionali Come in Toscana Come in Veneto In Europa E non mi dilungo Dove sono consentiti Attraverso L'acquisizione Quell'idea Che diceva L'assessore Una serie Di strutture Ricettive Tra virgolette Per sviluppare L'area Sotto l'aspetto Turistico E quant'altro Che devono avere Tutti i pareri Di questi enti E' chiaro Che anche Sotto l'aspetto Antropologico Ci saranno Delle competenze Specifiche Perché come diceva Giustamente L'assessore Il consigliere La porta All'area SIC Dove ci saranno Delle relazioni Specifiche In base All'intervento Che devi fare Di agronomi Di tutta una serie Di professionisti Dove verranno Vagliati i progetti Se sono compatibili Con quel tipo Di attività In quell'area E' chiaro Che verranno Rilasciati Detto questo Io mi associo Grazie del contributo Allora Presidente Se no Creiamo confusione Davvero Grazie del contributo Se chiudi Per favore Se chiudi il microfono Allora Secondo il consiglio Allora Io non sto parlando Della realizzazione Perché lì Non si può fare niente Ma è in dubbio Questo Ma il mantenimento Passa anche Dal carico Antropologico C'è là 6.000 20.000 persone Non ci vanno a stare Perché scassano Per forza Allora Di che vogliamo parlare Che fa costruire Quest'arena Con dei materiali Ma chi lo mette in dubbio Che saranno Ecocombatibili Ma non è questo Che ci interessa Allora Io ero molto contenta Che il sindaco Avesse detto E anche l'assessore E' un'idea Invece Più si va avanti Mi pare che questo Sta diventando Un progetto organico A questo progetto organico Onestamente Io dico no Perché ci sono altre aree Allora La dobbiamo finire Di mettere mano Su qualcuno Patrimonio comunale Perché il mondo Qui ce l'ha mai fa No Ma mantenuto Il buon padre di famiglia Lo mantiene Grazie Questo fa Perché abbiamo messo Mani in altre aree Perché non andiamo A rimettere a posto Quelle Che ci ha detto Da fare turismo Grazie consigliere Allora Andiamo a parlare Presidente L'argomento è fondamentale Io credo E anche la cittadinanza Visto che questo è l'unico modo Per discutere delle cose Ebbene ne parliamo Così ci schiariamo Tutti quanti Ce le chiariamo A vicenda le idee Per questo Consigliere Pesce Ti consente di intervenire Un minuto Consigliere Allora No Perché l'argomento È fondamentale No E le ricordo Che è un argomento Allora Consigliere Pesce No no Invece no È un argomento Di consiglio comunale La gestione del territorio Non di giunta Non di giunta Ci ho provato A fare questo Ci ho provato A fare questo Ma È un argomento Di consiglio comunale Non è di giunta Non siamo stati capaci Di mantenere Una discussione Equilibrata Penso che Beh Allora Dottoressa Serra Dottoressa Serra Questo intervento Un'interrogazione Di solito Dovrebbe durare al massimo Tra i 13 e i 15 Stiamo parlando di 30 ore Arriva a 50 minuti Normalmente Ognuno Quindi vuol dire Che io faccio discutere Nel momento in cui Poi noto Che ci sono Atteggiamenti Che vanno Al di fuori Al di fuori Io per forza Devo Devo Fermare la discussione Perché se ci fosse stato Da parte di tutti In primissimia Un rispetto Tra le istituzioni Tra di noi Forse non c'erano Tutti questi problemi E forse la discussione Sarebbe durata anche di meno Ma non siamo venuti A fare durare di meno Quindi andiamo Gli argomenti importanti Si deve parlare qua Sono argomenti di consiglio comunale Sono argomenti che possono essere Tranquillamente Sviluppati Tramite le commissioni Mi leva la parola E infatti Vado avanti Vado avanti Punto numero 9 All'ordine del giorno Interrogazione Interpellanza Del consigliere Raffaele Pesce Al sindaco Preliminalmente Di credito Sarim SRL Finalmente invito La maggioranza di Giulla Quando si parla di argomenti Che sono riservati Al consiglio comunale Come la gestione Del patrimonio comunale Come la gestione Dei beni Anche dei maniali Si discuta prima Con i consiglieri comunali Sia di maggioranza Che di minoranza Questo è il mio invito Che rivolgo sempre Come nel caso Della ipotizzata Arena di Trentova Che è diventata Da un progetto Fatto da Tecnici Non sappiamo quali È diventata Idea Nello stesso consiglio comunale Prendo atto Che è una idea E non è un progetto Fatto da tecnici Amici Come è stato detto Gratuitamente Benvenga la gratuitità Ma io vorrei sapere Chi sono questi tecnici Visto che stiamo parlando Di un progetto Mostrato Al direttore del patto Al presidente del patto Qua non siamo a casa nostra Io devo sapere chi Quel progetto Chi l'ha fatto Quel progetto È stato esaminato Dal direttore del patto Ma stiamo scherzando Mi si dice L'ha fatto proprio Per i professionisti Nostri amici In consiglio comunale E io poi devo rifarmi All'idea Ma diamoci una calmata Veramente E rispettiamo i ruoli Per quanto riguarda Questo tipo di La mia richiesta Che ho fatto In data 11 ottobre Ho appreso Sempre Sempre Dai social E dalla stampa Una richiesta Numero di protocollo 31.488 Del 6.10.2022 Rivolta al comune Di Agropoli Con la quale La Sarim S.R.L. Chiede il pagamento Di euro 1.945.762.34 Per pagamento Delle fatture emesse Per i canoni Mensili Il presidente Della commissione Bilancio Avevo chiesto Vorrà convocare D'urgenza La commissione Per discutere Sull'argomento Invitando il sindaco A convocare A convocare Il consiglio D'urgenza Ponendo All'ordine Del giorno La situazione Debitoria E lo stesso Rapporto Sarim S.R.L. Comune di Agropoli Unione dei Comuni O meglio Sarim Unione dei Comuni Comune di Agropoli Non hanno inteso Convocare Il consiglio Generale L'Unione dei Comuni Che non si Riunisce Da dicembre 2021 E c'è il segretario Che è il segretario Generale Anche Dell'Unione Quindi L'ennesimo invito Che faccio All'Unione dei Comuni Dal momento Che Questa richiesta È stata fatta Anche nella qualità Di consigliere Unione Unione Ed è stata Protocollata A protocollo Generale L'Unione dei Comuni Non ho avuto Risposta Io non ho avuto Ad oggi Una risposta Dall'Unione Dei Comuni Di cui Sono stato Nella quale Sono stato indicato Anche da voi Maggioranza Come consigliere E nella quale Non riesco Ad espletare Il mio ruolo Di consigliere Perché non viene Più unito Il consiglio Unionale Da dieci mesi Quindi La situazione Ovviamente Quello che mi preoccupa Di più Io mi rendo conto Che ci possono essere Nel tempo Delle Delle necessità Che impediscono Al Comune Di versare Quanto Incassato Dalla Dalla Tassa Pari Nei confronti Dell'Unione Dei Comuni Perché è stata fatta Questa scelta Nel 2010 Di Diversare All'Unione Dei Comuni Il rapporto Con Le società Che si interessano Poi Della Raccolta Dei rifiuti E nel caso Specifico 2018 Dalla Sarim SRL Con Una Spesa Prevista Adesso Non ho le carte Avanti In medio 17 milioni E mezzo Poi Diventati 16 milioni Circa Con Ribasso Quindi 4 milioni Circa All'anno Nei 4 anni Diciamo Allora io mi chiedo Il Comune Sta versando Effettivamente Quanto riscosso Sta riscuotendo Perché c'è questo Credito Avantato Dalla Sarim Che addirittura Chiede a noi Direttamente Non all'Unione Dei Comuni Avrebbe avuto chiedere All'Unione Dei Comuni All'Unione Dei Comuni A noi Tra l'altro Però dato che c'è Questo giro Nel quale Siamo incappati Ormai A 2010 Credo per problemi Di patto di stabilità Di bilancio Ma questa scelta È soltanto la nostra Nell'ambito unionale Non degli altri comuni Perché gli altri Comuni 11 comuni Che fanno parte Dell'Unione Non hanno L'Unione Come intermediario Diciamo così Nei confronti Della Sarim Ma hanno un rapporto Diretto Comuni Sarim Soltanto il Comune D'Agropo C'è questo passaggio Quindi noi Discuotiamo Dai cittadini Versiamo Alla Sarim Noi non riusciamo Noi non riusciamo a capire Il ritardo Di chi è Del Comune Che non paga La Unione Dell'Unione Quindi che mantiene Le somme E non paga La Sarim O del Comune Che non paga L'Unione E quindi L'Unione Si trova In condizioni Di non poter Pagare La Sarim Ma mi preoccupa La possibilità Che si ricada Nella logica Già che abbiamo Vissuto con la Iere Nella quale Ci sono operai Che hanno addirittura Perso Il TFR Con quella situazione Gestita malissimo La preoccupazione È quella che Gli operai Inizino ad avere Sempre con un ritardo Maggiore Gli stipendi Questa volta È stata una settimana Soltanto per fortuna Che una settimana Per un operaio Comunque incide Sull'andamento familiare Perché siamo tutti In una situazione Di crisi Sicuramente Gli operai Della Sarim Non se la passano bene Come tutte le famiglie italiane Quindi dobbiamo essere attenti A che non accadano Questi diseguiti Del pagamento Sollecitare la Sarim Ma se la Sarim Manda effettivamente Due milioni di euro È una SRL Non è in opera Pia È chiaro Svolge la sua attività Ha divinto L'appalto Con un'unica Mi sembra Soltanto la Sarim Ha presentato L'offerta C'è un baio Non conosciamo Il contratto Perché pare A giorni fa Non era stato ancora Firmato Non è stato ancora firmato Dal funzionario Incaricato Che io credo Oggi Doveva Avrebbe dovuto Essere presente Dato che gli argomenti Riguardano sempre Il suo ufficio Non è presente Quindi Non può fornirci Dei chiarimenti In merito Nella duplice veste Di unione dei comuni E di comunevo Perché per questo Il problema È È da affrontare Veramente Se dobbiamo Continuare Perseverare Nel demandare Questo servizio All'unione dei comuni Con un controllo Che da chi Deve essere fatto Io spero Che adesso Lo faccia Direttamente Il comune Col nuovo funzionario Al patrimonio All'ecologia A questo punto Il controllo Sull'attempimento Del rapporto Che Nel contratto nuovo Che leggeremo E nel capitolato Perché non si capisce Che il controllore È controllato Ma proprio come persone Che rivestono cariche Nella duplice veste C'è un problema Che noi dobbiamo Far capire ai cittadini Che il cittadino Pensa che l'interlocutore È comune Invece l'interlocutore L'unione dei comuni Sulla materia E chi controlla Controllerà L'ingegnere Sica Spero Dopo la nomina Che ha avuto Alla Parlo del buon andamento No? Sono già abitato Com'è? Sono già abitato A posto Benvenuti A posto C'è un problema E quindi Questa è la mia richiesta Io vi invito Vi invito Sempre No voglio Chiudo Chiudo A che Le problematiche Di interesse Di consiglio Vengano discusse Anche Con proposte Anche informali Degli assessori Nelle commissioni Che così Evitiamo Tutti i disguidi Che ci possono essere In consiglio comunale Sono argomenti Di consiglio Abbiamo Diritto E dovere Di discuterle Prima Tra consiglieri Di maggioranza E di minoranza Non ci troviamo Non ci troviamo Va bene E la vita È politica Ci troviamo Benvenga E l'assessore È rafforzato In questo modo Se si discute prima E non veniamo a sapere le cose Dai social Come in tutte Perché io credo Che ci sia una cattiva gestione Dei social Quello ufficiale In primis Che addirittura Pubblicizza Pubblicizza Il consiglio comunale Per la quarta volta E non mette gli argomenti All'ordine del giorno Sul sito Città di Agropoli Ma scusate Questo è il modo Diciamo C'è il consiglio comunale Sito ufficiale Città di Agropoli Poi sui vostri No sito Pagina Poi sulle pagine vostre Fate quello che volete Potete scrivere pure Che c'è il progetto Depositato Al parco E non c'è Va bene Ma sul sito Città di Agropoli Non si può scrivere C'è il consiglio comunale Convocato Ci deve essere La delibera Convocazione L'ordine del giorno I cittadini Devono sapere Di che si parla E l'ennesima Esortazione Che vi faccio A mettere in condizione Ai consigli di maggioranza E di minoranza Di essere operativi E ai cittadini Di essere parte attiva Nella politica comunale Vogliamo continuare così Dobbiamo ricevere Le notizie Dai social Dai giornali Io credo Che sia vostro Discapito Tutto questo Assolutamente Che ci date Modo Di portare Centinaia di argomenti Nell'anno In consiglio comunale Che si potrebbero Discutere in altre serie Grazie consigliere Però c'è un controsenso Nella sua interlocuzione Perché lei Prima sollecitava La convocazione A commissione Bilancio Però nello stesso tempo Comunque insisteva Nel portarla Comunque all'augmento Come interlocuzione Quindi Quindi c'è un controsenso Nel senso Che se lei Insiste Facciamo le commissioni Però io comunque Gli argomenti A chiarimento Si ritira No Dopo il chiarimento In commissione La ritiro Volevo precisare Che la sua La sua istanza La sua istanza È percorrata appunto L'11 ottobre Di richiesta Di convocazione Della commissione Siccome l'assessore Di riferimento A bilancio Sono io Ho pregato Al presidente Siccome ci sono anche Dei tempi tecnici Per la Convocazione Della commissione Siccome In data 11 In data In data In data 13 E 14 Però facciamo parlare Il sito Se lei mi fa finire Io non l'ho interrotto Se lei mi fa finire Noi dobbiamo far parlare Le persone Per favore In data 13 E 14 Ottobre Sottoscritto Assieme all'assessore Picero Si è recato Verso la Fiera Internazionale Del Turismo Di Rimini Per Propagandare L'attività turistica Della città di Agropoli Quindi Ero assente La convocazione Della commissione Non poteva essere fatta Per i Il 13 E 14 Poi Vengo a sapere Che Il giorno successivo Il venerdì C'è comunque La conferenza Dei capi gruppo Si discute Di questo argomento E viene portato All'ordine Comunque Del consiglio Comunale Quindi La commissione A questo punto Le spiegazioni Che avete dovuto Date in commissione Le darò Direttamente In questa assise Di note Indirizzata Sottoscritto Consigliere Ne arrivano Centinaia al giorno Quella è una nota Indirizzata Sottoscritto Del 6 ottobre Impropriamente Lei ha osservato Ha sottoscritto Perché Oltre ha sottoscritto Indirizzata anche Alle sigle sindacali Della Salim Doveva essere indirizzata Alla Unione dei comuni Di questo morte Ecelente Perché È il soggetto Pubblico Che ha il contatto Con la Salim E la Salim È il soggetto Esegutore Del servizio Di raccolto E spazzamento E così via E per quanto riguarda I miliardi Attraverso i suoi operai Espeta questo servizio Quindi Nei comuni Degli operai È la Salim Che è tenuta Appagata Nell'appagamento Degli stipendi Il comune Di Aglopoli Periodicamente Corrisponte Quando dovuto All'unione Dei comuni E le dirò Che nel corso Dell'anno 2022 Sono stati Disposti Alla Salim Ad oggi 2.900.000 Circa Di questi 2.900.000 1.605 Sono relative Alle mensilità Da gennaio A maggio 2022 E 1.300 A maggio 1.300.000 Chiedo scusa Circa Sono stati poi Espetati Fino a maggio Del 2022 Perché riguardavano Delle mensilità Arretrate Dell'annualità precedente Il ritardo Di pagamento Delle mensilità Di circa 4-5 mesi È un ritardo Che è stato Sempre questo Nel corso Di tutta la durata Del contratto Per quanto riguarda Invece Faccio presente Visto che lei L'ha L'ha Menzionato Che Ad oggi Per il servizio Tati 2022 Lei ha Ingrassato 956.000 Euro Nonostante Abbia Ingrassato 956.000 Ha pagato 2 milioni 1.605.000 Di competenze Dell'anno 2022 Per quanto riguarda Ricordo che Il servizio Tati E i fini Contabili Prevede L'obbligo Che L'emissione Dei ruoli Deve essere Pari A quello Che è il costo Del servizio Stesso Quindi Non c'è Diciamo Possibilità Di distrarre Somme Che possono Essere Eventualmente Utilizzate Da parte Dell'ente Beneficiare Di queste Somme Per 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 Altri Utilizi Spero Di aver Risposto Alla Sua Integrazione Signor Sindaco Rispondo Io In Scusa No Ma non c'è Replica Si deve dire Soltanto Se Eh no Non c'è Se ne dobbiamo andare felici e contenti Nessuno se ne va felici e contento Il sindaco Quando parla Consigliere la porta No 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 Mi dispiace E mi dispiace Mi dispiace Consigliere Pesce Se è soddisfatto o no Prego Non sono soddisfatto Prego consigliere No 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 Ma se io non faccio intervenire loro Consigliere Pesca Avrà dopo modo per dire Perché non ha convocato la commissione Adesso io mi aspetto che il consigliere Pesce Mi dice se è soddisfatto o no Allora Per consigliere Pesca Per consigliere Pesca Consigliere No No Ora no Ora no Ora no Ora no Per cortesia ora no Consigliere Pesce Consigliere Pesce La parola La do Mario 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 Consigliere 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 Pesca Consigliere Pesca Consigliere Consigliere Pesce Consigliere Pesce Allora Consigliere Pesce Per favore No 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 Allora Allora Per favore Per favore Per favore Non posso essere soddisfatto Perché si è parlato di debiti pregressi E l'assessore a bilancio Era l'attuale sindaco Per i 5 anni presi Precedenti Quindi dovrebbe essere Esaustivo In una risposta La vogliamo parlare Al prossimo consiglio Ne porteremo una Poi Per rispondere All'amico Mario Che si inverbora Il Consigliere Pesce Questo protocollo Dell'11 ottobre 2022 L'ha Indirizzato Al Presidente Delle Commissioni Invitanti Se gli uffici Come ci siamo detti Nell'Unione Capitoli Non diramano Le richieste Noi sappiamo Che ci sono due giorni Per convocare Il Consigliere Pizz ha convocato La sua commissione Domani mattina Senza interpellarci Prima alle 10 Due giorni fa Va bene? In nove giorni La commissione si convoca Lei è tornato da Rimini No Poi magari facciamo altre interrogazioni Parliamo su Rimini Chi c'era Chi non c'era Nel viaggio a Rimini E questo è un altro discorso Grazie consigliere Pesce Passiamo al punto numero 10 Consigliere Pesca Passiamo al punto numero 10 Interrogazione D'interpellanza del consigliere Raffaele Pesce Al sindaco Su Chiari No mi scusi Del consigliere Gerardo Santo Suosso Al sindaco Sul recupero Crediti Nei comprometti Di Asga SRL Soggetto gestore Del cineteatro De Filippo Prego consigliere Santo Suosso Grazie Presidente Calmate un poco Non le consento però Non le consento Santo Suosso Proprio da lei Non lo consento Se poi lo devo dire Lo dico tranquillamente Proprio da lei Non lo consento Quindi Mantenga Mantenga Per favore Un giusto Comportamento In aula Ho detto Che si è calmato Ci fanno complimenti Che ci fanno Che cosa Allora La cupa di crediti Dev'andata Dall'amministrazione Comunale Nei comprometti L'ASGA Che sarebbe L'ex gestore Del cinema Teatro Edoardo De Filippo Allora Dopo tre anni Tre anni Di combattimento Per far pagare L'ASGA Ha ottenuto Una prensola Di delibera In cui si dà Conferimento Un'incarica Ad un legale Io sono andato Dal legale Ma Oberato di lavoro Ancora deve aprire La pratica E la delibere È la numero 194 Del 22 7 2022 Ora Andiamo avanti Dopo vari passaggi Di funzionari Che si trovano Passati Il cosiddetto Il cosiddetto Problema Partiamo Un poco Da lontano Il contratto Per la concessione In uso È stato Stipulato Il 29 02 2016 All'esito Di una procedura D'evidenza pubblica Svoltasi Con procedura Aperta Con il criterio Dell'offerta Economicamente Più vantaggiosa Per la durata Di anni 5 Il canone Previsto È stato Nel tempo Di euro 30.000 Nel rispetto Delle previsioni Di cui All'articolo 6 Del citato Contrato L'ufficio Ragioneria Del Comune Di Agropoli Ha comunicato Che Da verifiche Condabili Effettuate Sarebbe emersa Una situazione Debitoria Al 31 12 2020 2020 2020 Di euro 107.400 Siamo sempre Su soldi pubblici E Vi sarebbero Evidenze Circa il mandato Di pagamento Del canone Per intero Per numero 3 annualità E in quota Parta Per un quarto Allora La ragioneria Mi ha dato Mi ha dato Questo foglio In cui dice Che l'anno 2017 Deve ingassare 20.000 euro Nell'anno 2018 Deve ingassare 27.400 euro Nell'anno Nell'anno 2019 Deve ingassare 30.000 euro Per un totale Nell'anno 2020 30.000 euro Per un totale 17.400 euro Cioè 2017 Sono la bellezza Sono passati 5 anni Il responsabile Finanziario Dottor Giffone Valeriano Scrive Da verifica Contabile Avete un debito Di 107.000 euro E la preghiamo Di regolarizzare La vostra posizione Contabile Entro 15 giorni Da ricevimento Della presente Che è stata Spedita Il 26.04.2021 Trascorso in vani I 15 giorni Da ricevimento Si è liberata Da parte Difici competenti La prosiglia dura E conseguenziale Per il ricopro Di quanto Dove Poi C'è Giuseppe La porta Scrive Di nuovo Questione Ricopro Sopro Megane Ecc Ecc E qua Dice una cosa Molto importante Dice Che con nota Il presponsore Dell'area economica Finanziata Del Comune di Agrolo Richiedeva Il pagamento Dei carni Dovuti Pare ad euro 107.000 Dato atto Che successivamente L'ASGA Si presentava Di corso Dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale Della Campania Sezione di Salerno Per l'allunamento Dell'atto Adducendo Che non vi era Alcuna morosità Al loro carico Della Costituzione Nel predetto giudizio Del Comune di Agropoli A mezzo Dell'Avvocato Luigi Acerbo Che con ordinanza Numero 1157 2021 Calcolata Gli anni 2021 Il TAR Ha rigettato L'istanza Di tutela cautelare Presentata Dalla ASGA Attualmente Che nel periodo Ecc Ecc Poi Cambia il funzionario Sergio Laureano L'altro funzionario Sollecita Richieste di incarico Per recupero Somme Cane In gestione Ecc Che dice La stessa cosa Che dice Il funzionario La porta Ora dico io Certamente Ad ogni azione Corrisponde A una reazione Uguale E contraria Questo dice La dinamica Attraverso I social Attraverso I media Attraverso I giornali Sul cineteatro Dice L'ASGA Solo false notizie Gli ex gestori All'attacco Del comune Tirano fuori Atti E documenti Vorremmo sapere Che sono Stati e documenti Se ci sono E dice Anna Maria Parente Legale Rappresentante Della SGA Basta Speculazioni Le notizie Notizie Impondate Legittima La possibilità Di intraprendere Contenziosi O altro Ma più corretto Se deve dire La verità Soprattutto Quando ci va Di mezzo L'immagine E la reputazione Di persone Fisiche E giuridiche Che vivono Della credibilità Del valore E delle competenze Che hanno costruito Negli anni Perché il comune Di Acropoli Non tira fuori Atti E documenti Con cui Si richiedono Prestazioni Professionali Alla ASGA SRL Da andare A compensare In quota Parte col canone E il primo Perché Perché Tace di tutte Le somme Corrisposte Perché 30 mesi Più tardi Chiede per intero Il canone 30 mesi Più tardi A questo momento Alcuna somma Ad oggi Non è dovuta E al contrario Siamo noi Essere creditori Del rente Per il danno L'immagine Ora Che devo fare Fa che non sarei Proprio io A difendere La ASGA E perché Aggiungo io Il funzionario Non ha applicato L'articolo 35 In adambienze Risoluzioni Del contratto In caso Di accertate E ripetute Gravi In adambi Medici Da parte Del concessionario Di una Qualsiasi Delle obbligazioni Contenute Nel contratto Può dichiarare Decaduta La concessione Perché Il funzionario Non ha applicato L'articolo 35 Perché Il funzionario Ha fatto in modo Che il concessionario Arrivasse Alla fine Del contratto E poi Caro Dottor Muta Ripasse Quali sono Questi documenti Atti che il comune Deve tirare fuori Se ci sono O fin Grazie Consigliere Sando Sosso Prego Sindaco Grazie Presidente Consigliere Sando Sosso Io non sono a conoscenza Di questi atti Che Su un organo Di stamba La signora La patente Ha menzionato Io personalmente Non sono a conoscenza Anche perché La pratica È stata affidata A un legale È stata La giustizia A fare questo corso La pratica È stata affidata A un legale Dopo che Questa amministrazione Con La noto Del 16 luglio 2022 Che lei citava Del Responsabile Allora Del responsabile Di lato patrimonio Ciò messa Sergio Laureana Faceva All'attenzione Del sottoscritto Quindi la giunta Con una delibera Di pochi giorni Successivi Affidò All'avvocato Luigi Acerbo Il mandato Di procedere Al recupero Al recupero Al recupero Delle somme Vandate Dall'ente comunale Nei confronti Della SGA SSL L'avvocato Acerbo Mi ha Rilasciato Una breve nota Nel quale Mi precisa Che in questo Frangente Come sua abitudine Professionale Sta cercando Di definire Via transattiva E sta giudiziare L'avvertenza Che sia Giustamente Ovviamente Conveniente Per il comune Quindi l'avvocato Molto probabilmente Sarà A conoscenza Di possibilità Che si possa Divenire Una transazione Della vicenda Inoltre Precisa Di Che in base Alla Alla Sentenza Dettare La SGA Si era resa Disponibile A mettere Subito a disposizione Del comune Una somma E quindi sta Facendo Il recupero Di questa somma Già messa A disposizione Della SGA E Qualora Precisa In fine Che in ricordante Mese di ottobre Non si adevenisse A questa Definizione Utile All'ente Provederà Alla notifica Degli atti giudiziari Abbiamo fiducia Nell'opera Dell'avvocato Acerbo Quindi A quale abbiamo Affidato L'incato Quindi Aspettiamo L'esito Di questi atti Di che ci vorrà Relazionato Io stesso Chiederò E poi eventualmente Relazionerò In una prossima Commissione Bilancio Conclude La nota Che l'avvocato Cerbo Si rende anche Disponibile A un'eventuale Relazione In consiglio comunale Grazie Posso Presidente Si prego Allora Caro sindaco Evidentemente L'avvocato Acerbo Ha detto Una cosa A te E un'altra A me A me Ha detto Che la pratica Non l'ha neanche aperta Lei Ha detto Che L'ASGA Ha messo a disposizione Una somma Volevo capire Quale somma Ha messo Dove A me non mi risulta Negli atti Non c'è niente Quale Somma Ha messo A parole O a fatti E L'avvocato A me Ha detto Che la pratica Non l'ha neanche aperta Perché ho berato Di lavoro A lei Ha detto Un'altra cosa Quindi Purtroppo Ma è che l'ha consegnata stamattina Come? Mi ha consegnato questa nota stamattina Ah Stamattina Vi ha consegnato Dopo che ha parlato con me Vi ha consegnato la nota All'inizio Era anche in confio comunale L'avvocato Acerbo È molto strana Almeno Caro 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 sindaco Vabbè Speriamo Vorrei Vorrei assicurare questo Che Un'americana Allora Parlare Con la parola Luce Certo E portare In questo Un'americana Una risposta certa Di quello che è stata Bene Però Questi atti E questi documenti Che parla L'ASGA Esistono O non esistono Io non ne sono a conoscenza Ma pare Che il funzionario Precedente Ne sia a conoscenza E che abbia firmato Anche delle carte In tal senso Va bene Grazie Consigliere Sando Suosso Va bene Le troveremo Passiamo al punto numero 11 Dell'ordine del giorno Mozione del consigliere Raffaele Pesce Per sito Archeologico Del Stauco Prego Consigliere Pesce Io ne ho ampiamente parlato Nel corso dell'ultimo consiglio Quindi Sarò Molto breve Anche perché Ho potuto constatare Che l'ufficio Preseduto Dal Qui presente Architetto Cerminara Ha dato Un'informale Parere favorevole Diciamo Perché non ha bisogno Di ulteriori Approfondimenti La mozione Così come ce l'avevamo detto In consiglio comunale Credo che Poi la pratica Se avrete abbondati Tutti Di votarla Questa mozione Che soltanto Ricordo A me stesso È un invito Al ministero Per Rimodulare Il vincolo Archeologico Su un'area Già individuata Tutta come Archeologica Con campagna Di scavi Molto residuale Rispetto a tutta L'area Che ha acquisito Il comune È un'area Privata Ma già vincolata Con tutti I vincoli Possibili E immaginabili Ne parlo anche L'architetto Ma non Abbagnare A furia Per chiamarci Ci chiamiamo Con nome E qui Io esorto Poi Nel caso Venga votata A seguire L'iter Al ministero Ma penso Che il sindaco Abbia a cuore La questione Sarà Dato che il rappresentante Nei confronti Degli altri E' sempre Il sindaco L'appresentante Degare Io Lo invito A seguire La cosa Che a cuore Non solo Di questa minoranza Non solo Il Consiglio Ma di tutti I cittadini Perché Di quell'area Che oggi Non si parla Dall'80 Quando ho fatto Un ultimo scavo È stata lasciata così Molto di noi Agropolesi Non sono nemmeno A conoscenza Che là c'è un sito Del terzo secolo Ma addirittura Risalenti Al sesto Gret E addirittura Ancora Tracce Molto Più risalenti Nel tempo Mi diceva Un archeologo Quindi Potrebbe essere Quello Un volano Alternativo Anche di sviluppo Turistico Sopra Sì Quella Più E quindi Indagare Tutta l'area Non solo Quella archeologica Se ci sono Ancora Reperti Non scoperti In altre zone Perché ci saranno Sicuramente E quindi Vi invito A fare la vostra Anche se È firmata Solo da me Questa mozione Già l'altra volta Avete dato la disponibilità A farlo Quindi io Vi ringrazio Ma è Agropoli Ha ringraziato Per l'interesse Dimostrato Per un argomento Del genere Che non entra In un consiglio comunale Da tempo Immemorabile E quindi Non ho null'altro Da aggiungere Se non Alla mozione Già Vuole Solo un attimo Rispondere Il consigliere Marciano Delegato dal sindaco Sì In effetti Solo Nella buona sostanza La dichiarazione Di voto Perché abbiamo Già avuto modo Di parlare Con Il consigliere Pesce Abbiamo avuto modo Di parlare Con l'architetto Cerminale Pertanto La volta scorsa Era stata Ritirata Questa mozione Solamente Per ulteriori Accertamenti Verifiche E così via Sotto il procedo Di carattere Tecnico Ovviamente Come ho già Detto prima Ribadisco Che quando Ci sono Degli argomenti In linea Con l'amministrazione Che sono Ovviamente Appannaggio Appannaggio Del popolo Di Agropoli Siamo sempre Disponibili A dialogare Con la minoranza Senza nessuna Riserva E ramentare Il voto Comunque Per annuncio Sarà favoribile Grazie Grazie Quindi posso Procedere Se non ci sono Altri interventi Con la votazione Chi è favorevole Votiamo anche Quindi L'immediata Eseguibilità Chi è favorevole Anche qui Abbiamo Come sopra Ok Grazie Passiamo Al prossimo Punto All'ordine del giorno Mozione Del consigliere Massimo Laporta Proposta Distruzione Di una commissione Di indagini Per un controllo Politico Amministrativo Per effettuare Accertamenti Sulla farmacia Comunale Prego Consigliere Laporta Grazie Grazie presidente Cari consiglieri Mi rivolgo a voi Perché la mozione È rivolta Al consiglio Comunale Ed è una mozione Importante Per la nostra città Perché parliamo Della farmacia Comunale Un argomento Che questo consiglio Comunale Ha trattato Già negli anni Passati Alla scadenza Del decennale Della convenzione Sottoscritta Nel 2001 Dal compianto Professor Paolo Serra Con tutta una Progettualità Che ancora oggi È attuale Che era lungo Il professore E aveva visto bene Nel Aderire al progetto Della gestione Delle farmacie Comunali Fu affidata Fine 2001 La farmacia Comunale Della città Di Agropoli Ai sensi Del articolo 30 Del 267 Del 2000 Che dà la possibilità Agli enti locali Di poter assegnare Ai consorsi Alle aziende speciali O in economia In questo caso Noi ci siamo affidati Al consorsio La gestione Della farmacia Comunale Il decennio È stato Un decennio Dove Chi vi parla Già nel 2007 Ponevo la domanda Agli amici amministratori Non che al sindaco Alfieri Di questa farmacia Di una posizione Ibrida Che contrattualmente Poi nell'atto Di convenzione Ho avuto modo Di riscontrare Che vi era Un accordo Che Il riparto Degli utili Era al 50% Al net Degli investimenti Fatti Per l'avviamento Dell'esercizio commerciale Ebbene Digelita Nel corso Del decennio Alfieri In coda E alla scadenza Della convenzione Che scadeva A fine 2012 Nel settembre Del 2013 Abbiamo Dato Delibere L'indirizzo Per affidare Il servizio Alla nostra Azienda Speciale Agropoli Cilento Servizio Lei prevedeva La legge L'articolo 30 Come vi ho riportato Precedentemente Del 267 Che erano Tutte le condizioni Ebbene Alla Delibere L'indirizzo Dato seguito Successivamente Un'ulteriore Delibera Datata 30 Settembre 2014 Vi ricordo Cari consiglieri Che in quel periodo Non ero consigliere Comunale Ero assessore E il consiglio Affidò il servizio All'agropoli Cilento Servizi Una serie di trattative Dove io non partecipavo L'ex sindaco Coppola Era assessore al bilancio Seguiva i rapporti Con le società E gli enti sovraccomunali E ci rassicurava Che il tutto Doveva essere In via di definizione Proprio perché Con la scadenza Della convenzione Vi era questo rapporto Che si stava Per innescare Di lite In quanto Vi era una richiesta Da parte Del consorzio farmaceutico Di una somma Importante Per l'avviamento Nel 2017 Ci siamo insediati Io e L'attuale sindaco Della città di Agropoli Con il gruppo Agropoli Oltre E' stata una Delle nostre priorità Ricordo il sindaco Mutali Passi Di capire E da assessore Al bilancio Ha seguito Una Trattativa Che Passati Cinque anni Non siamo riusciti A definire Una trattativa Dove Inspiegabilmente Oggi Una volta che Mi ero fidato Dell'allora Assessore Mutali Passi E oggi Sindaco Della città Mi fidavo Delle notizie Che mi dava Oggi ho avuto modo Di studiare Un po' La documentazione Signor sindaco Mutali Passi E ho dovuto fare Un lavoraccio Perché prendere In esame I bilanci Che mette a disposizione L'attuale sito Del Consorzio Farmaceutico 2014 15 16 17 18 19 20 21 Mi porta A capire Tante cose E allora La domanda Che le faccio Per far capire Agli amici consiglieri Se la mia mozione Sia una mozione Da portare avanti Perché prima Già mi ha Anticipato L'amico consigliere Mario Pesca Dice ma come vuoi fare Una commissione di indagini Qui non vogliamo Sparare a nessuno Caro consigliere Qui vogliamo Sollecitare Un qualcosa Che da 20 anni Questa città Subisce in silenzio E lo dico perché Avremo modo poi Di confrontarci Lei è l'assessore È il consigliere Delegata al Contenzioso Ne vedremo delle belle Perché Per quelli che erano I sogni nel cassetto Di noi Ecco Consigliere Assessori Che prendevamo notizie Di chi era delegato A rappresentarci Oggi scopro Delle situazioni Veramente Assurde Al di là Di una gestione Che non posso Entrare nel merito Perché non è Una nostra società Né partecipata Né controllata Noi Noi partecipiamo A questa gestione Come precedentemente Vi ho illustrato Involuzione a una norma Ma i comuni soci Di questo consorzio Farmacia Sono Comune di Capaccio Comune di Salerno Comune di Cava di Pedrelli E Comune di Erboli Attualmente Loro La fanno Da padroni Cioè Decidono Con L'assemblea Dei sindaci L'indirizzo E approvano I bilanci Insieme A Un collegio Dei revisori Dove Abbiamo la fortuna Di avere Una nostra Concittadina Ebbene Signor sindaco Visto che Tante notte Abbiamo discusso Di questa Farmacia Comunale Le dico Che sicuramente Saranno i consiglieri A decidere A me aspetto Da lei Un intervento In cui Rassicura I consiglieri Comunale Che questa Commissione Di indagini Del consigliere Vesta Noi non vogliamo Mettere il cortello Nella ferita Noi vogliamo Uscire Da questa condizione Ed è una condizione Difficile Perché leggere L'ultima nota Illustrativa Del bilancio Delositato Il 5 di agosto È veramente Da mettersi le mani Nei capelli Perché Vedere che noi Dopo 20 anni Abbiamo preso Zero utili Qui rischiamo Di Dargli Qualche cosa Di soldi Come sempre È solito Poi che accade Per un ente Subire gli attacchi Esterni E ci ritroviamo In bilancio Signor sindaco Due poste Importante Una posta Di 140 mila euro Che è l'avviamento Che ci richiederà Come crediti Posti in bilancio Del consorzio E L'eventuale Ristoro Alla concessione Che poi Vi chiederò Se è stata rinnovata Perché a me Tutta che non vi è In penitenza Di scadenza Già Da parecchi anni Ma questo silenzio Soltanto Giustito Nelle modalità Che lei Conosce bene 1 milione 142 mila euro Se vogliamo Avere La farmacia Indietro Queste sono Le poste In bilancio Che sommano Circa 9 milioni Di crediti Che il consorzio Riporta in bilancio E poi presenta Un bilancio Di utili Pari A 654 euro Mi ricordo Soltanto Che ci sono 18 farmacie Che vengono gestite Noi non abbiamo Avuto il piacere Di avere Un accreditamento Di una somma Seppur poi In un'ultima fase Nella comparazione Tra le farmacie Di chi è inutile E chi è in perdita Viene fuori Che nell'ultimo Conviene La città di Agropoli La nostra farmacia Ha due utili Uno nel 2020 Pari A circa 92 mila euro E 2021 Pari A 88 mila euro Poi ricadono Nel calderone Di tutte le farmacie E magicamente Esce Che l'utile Del consorzio E' pari A 654 euro Con crediti Versi i comuni Per circa 9 milioni E mezzo E allora la domanda Che faccio al Consiglio Comunale Come Non stimolare L'argomento Con questa commissione Allora Il consigliere Pesca Mi ha anticipato Come sempre Ma lo possiamo fare Con la commissione Sanità Però qual è Ma no Ma non si offenda Poi mi risponde Il consigliere Pesca Perché dopo Mi può rispondere Il consigliere Pesca Conviene che Facciamo finire E poi interviene Interviene Non si prendono qui Caro consigliere Pesca Attenzione Attenzione Io posso avere Un argomento Contento Massimo la volta E scontrati Ma io non accetto Di fuggire Lei ha detto Una fuggire enorme A questo Consiglio Comunale Dicendo che Io ho detto a lei E non è vero Che vuole fare La commissione inglese Non è sicuramente vero Io ho detto Non tanto una cosa Passando da lei Che cosa è vero Ho detto solo E' inutile Noi per ogni cosa Che va alla commissione Non va bene Ma discutiamo Della commissione Consigliare Questo che ho detto Non dico io Che voglio fare Ribadisco Parola per parola Che mi hai detto Ma forse Non ti ho mai detto Che tu vogliono fare La commissione inglese Le mie parole Non fanno mai Che possa essere fatte Tutti in un'unità Cosa del genere Quindi Se parti Con che tu fosti Di bugia E' chiaro che L'abbiamo A conclusione diversa Allora Io non ho detto Nessuna bugia E ti ribadisco Le parole Che hai detto Una bugia Che ho detto Che vogliono fare La commissione Non te l'ho mai detto Non te l'ho mai detto E te l'ho ribadisco Ho detto Che è inutile fare La commissione Per ogni cosa Quando c'è Già una commissione Passando Passando Ma che vuoi fare La commissione Consigliere Va bene Consigliere Pesca Facciamo terminare Il consigliere La porta Scusami Va bene Io non ho detto Nessuna bugia Ti ho detto Quella di questa volontà Lo vedremo Fra pochi minuti Lo vedremo Fra pochi minuti Consigliere Pesca Le voglio ricordare Che lei è anche Consigliere dell'Unione Nominato come Consigliere Raffaele Pesce E poi Si arrabbia E non la sento Mi ha anticipato Che questa mozione Era inutile Perché la si poteva Discutere In commissione Specifica Quale commissione Dobbiamo discuterla? Nella commissione Beh E allora Io sai perché Ho fatto la mozione Perché innanzitutto Ci deve essere L'ampia partecipazione Di tutta L'assessore comunale Si sieda Gentilmente Poi mi risponde Senza nessun problema Perché il confronto Con lei Mi piace Ed è sempre costruttivo Ed è importante Che i cittadini Capiscono Le nostre idee E le cifre Pertanto Io sto invitando Il consiglio A stimolare Un argomento Che il sottoscritto Per prima Seppur ne ho parlato Forse ho fatto Degli errori Io mi prendo Sempre la mia Quota a parte Di errori Ma il sindaco Di questa città Che dopo voglio ascoltare Deve dire Anche la sua Perché sa bene Qual è la mia posizione Qual era la sua E oggi la voglio risentire Poi il consiglio È sovrano Io mi rimetto a voi E vi ribadisco Al cuore una volta Che questa emozione Come precedentemente Ribadiva Il consigliere Pesce Ma anche l'assessore L'ambasone È un contributo A venire fuori Dalla situazione Di anni passati Di errori Che ha fatto Anche il sottoscritto Pussando zitta E usando la mano Come fate voi E allora Se oggi Siamo In condizioni Di poter risolvere Un problema Non ci dobbiamo Arrabbiare Pesca Sul dettaglio Dell'interpretazione Capito Perché poi Avremo modo Avremo modo Di vedere Il suo operato Perché È molto arrabbiato Sulle nostre posizioni Consigliere Pesca Si è arrabbiato Su tante altre posizioni Consigliere Pesca O pure scapperà Noi vedremo Consigliere Ma può intervenire Appena finisce Il consigliere La porta Facciamo terminare Un attimo La porta Se no non finiamo mai Ci sono problemi Da parte mia C'è un confronto Bello Una dialettica A me piace Allora detto questo Non ho l'altro Di aggiungere Mi rimetto a voi Fate una valutazione Di coscienza Perché qui Non si vuole indagare Per bandare nulla A nessuno Qui si vuole Stimulare E far capire Al consorzio farmaceutico Che dopo 20 anni Dopo 20 anni Questa città Non merita Altro Grazie Grazie consigliere Allora vuole parlare Il consigliere Pesca? Eh ok Allora sindaco Prego Intervengo perché Sono stato chiamato In causa Ma come Precisava il consigliere La porta La mozione è rivolta A voi consigliere Comuna Sono stato chiamato In causa Perché Non perdo occasione In ogni Seduta consigliare Di percorso Dei cinque anni Di amministrazione passata In cui io sono stato Assessore a bilancio E penso Con tutte le mie Pec Le mie Negligenze Di aver dato Il mio contributo In quell'amministrazione Sicuramente Avrò Ammangato Come io Avrò ammangato Nei cinque anni Lei consigliere La porta L'ha ammangato Forse negli anni Precedenti E lo riconosce E lo riconosco Puri Questo è un argomento Di cui noi Non potremmo parlare Ne accennare La volta scorsa Ne parleremo In commissione Il bilancio Quando porterò All'approvazione Il prossimo bilancio Di previsione Quindi io invito L'assese A votare contro La mozione Possiamo intervenire Il rivolto Il consigliere Ho giusto A chiarimento Una cosa Il rivolto Il consigliere Quindi Certo Non capisco Perché si invita A votare contro Stiamo solo Verificando Quella che è la situazione Ovviamente Voi ognuno L'avete A modo suo Mi chiedo All'epoca Non ci fu la possibilità Di entrare Nel consorzio La forza politica Che fece Non ci fu Furono Predisposte Delle richieste Formali Per entrare Nel consorzio Quando fu demandato Al consorzio La gestione Della farmacia Con tutte le conseguenze Che noi vediamo Perché è una farmacia Che ha reddito zero Per il comune Mi sembra veramente strano Poi In sede di commissione Spero In quella proposta Dal consigliere La porta O comunque In commissione Il lancio Associato con quella Sanità Si possono fare Insieme Potremmo discutere Ma dato l'argomento Specifico Risalente negli anni Che tutti Non conosciamo Tutti Se c'è una preclusione Un altro discorso Spero che La farmacia Meno venga gestita In modo adeguato Con la soddisfazione Degli utenti Questo sì Ma non Mi risulta Che sia proprio Il massimo La gestione Ne parliamo pure Ne parliamo pure L'altra volta Mi sembra Che non è proprio Il massimo Andrebbe comunque Sollecitato Una diresta A gestione Ora Mi preoccupa Questi numeri Che ha dato La porta Noi dobbiamo Sopperire Al pagamento Come se la ricomprassimo Noi la farmacia Nel caso In cui Compriamo una farmacia Bella e buona Così Vabbè Quindi ovviamente Io esprimo già Il mio voto positivo Alla proposta Di la porta Grazie consigliere C'era un altro intervento Il consigliere Marciano Allora Ovviamente È solamente Una dichiarazione Di voto È un argomento Piuttosto complesso Ovviamente Insomma Quindi Non è assolutamente Un argomento Che Di cui si può parlare O prendere le decisioni Mi sembra In questa seduta Sicuramente L'attuale sindaco Allora Assessore Avrà Fatto bene Tutti i conti Del caso Ovviamente Nel passato E quindi A quali conti Sì Che conti Non lo so Non lo so Insomma Non lo so Dico Eventualmente Eventualmente Avrà fatto Tutte le parole Di coesione Considerazione E così per di seguito Per cui Ritengo Che di questo argomento Se ne debba Parlare In una seduta Successiva Dopo che L'attuale sindaco Allora Assessore Al bilancio Abbia Se non ha fatto I conti Abbia svolto Tutte le attività Contabili In maniera tale Che potrà Portare In consiglio comunale Con la massima Chiarezza E trasparenza Quella che è La storia Di vent'anni Che si è Susseguita Appunto Fino ad oggi Dal proposito Preannuncio Ovviamente Il voto Grazie Grazie Prego Consigliere Pesca Allora Detto quando Sovra Vedo come La situazione Di prima E' chiaro Che portare Quest'argomento La farmacia Comunale In un discorso Comunale È fondamentale Perché è giusto Che praticamente L'intera città Travete noi Possa sapere Come va E come è gestita La farmacia La farmacia Comunale Credo che Nel scluso Che c'è stato Di tutti questi anni Io non l'ho vissuto I vari passaggi Nei vari consorzi Che c'è stato Ma credo che Addirittura Potrebbe esserci La possibilità Di avere Una nuova farmacia Ad Agropoli Perché mi pare Che ogni 3.300 abitanti Scatta il diritto Ad avere la farmacia E questa farmacia Poi viene fatta Perché il comune Ha il diritto Di prelazione Che poi Va a gestire O in forma consorsiale O in modo diretto Quindi L'argomento La farmacia comune È un argomento Che va affrontato Sicuramente E che è giusto Parlarne In questa sede Io sono meravigliato Anch'io Dalla circostanza Che la farmacia Possa avere E possa portare A questo comune Un reddito zero O addirittura Essere in verde E quindi È giusto Che questo argomento Venga affrontato Ma come avevo detto Al consigliere La porta prima Noi abbiamo Una commissione apposta Che è la commissione Bilancio Che può essere Allargata anche Dalla commissione Sanità E noi possiamo Discutere tranquillamente In questa commissione Affrontare tutti gli aspetti Critici Della situazione E quindi poi Venire con un'idea Ben chiara e precisa Anche in consiglio comunale Eventualmente Per portare La cittadinanza Tutta Quello che È Lo sviluppo Quello che è stato La farmacia comunale E quello che potranno Essere anche Le altre farmacie Se noi Aderiamo naturalmente A quella che è L'opensione Per poterla Aumentare La farmacia D'accordo Grazie Grazie consigliere Prego consigliere La porta Nella sintesi Era il risultato Che mi aspettavo Quello della bocciatura Dell'ennesima mozione Presentata dal sottoscritto Ma ne sono orgoglioso Signor sindaco Quando lei Mi ribadisce Che io le ricordo È rimasto solo il ricordo E con le sue affermazioni Rimarranno tali Perché il suo comportamento Di sfuggire Alla verità È la conferma Dell'uomo che è Del politico che è Della persona Della persona Che Si può anche offendere Ma lei Consigliere Consigliere la porta Nel momento Che mi dici Consigliere la porta Di richiamare Il passato Io Vi ricordo E se lei Come ritiene Di essere Deve dire Solo con un atto Di verità Quello che io Sto raccontando Perché io Non le sto Puntando un fucile Io gli sto dicendo Lei Insieme a me Mi ha fatto Una battaglia Mi chiamo a riprendere La registrazione E mi risponde Che io Puntualmente Ad ogni consiglio Comunale Gli devo ricordare È un rafforzativo Che io faccio Alla discussione Propositiva Per questa città Che lei oggi Amministra Ma puntualmente Crea Quel muro di Berlino Che io cerco Di rompere E ne sono contento Che la alza Lei il muro di Berlino Perché lei È la vittima Lei è la persona Onesta Lei è la persona Che sa fare politica Non ho nulla Da aggiungere a lei È il consigliere comunale Aspetto Consigliere Pesca La convocazione Con arti Se no Io farò I manifesti Sei per tre Di quella Che sarà La pubblicità Della Commissione Che se ci dobbiamo incontrare E fare il raccontino Senza la documentazione Allora Si prende il tempo che vuole Venga in commissione Dove io ne faccio parte Insieme al consigliere Pesce E ne discutiamo E ci confrontiamo Con la documentazione Le dico questo Perché poi In altri consigli Poi non mi dovrà attaccare Di nuovo Che io Andrò a dire L'ennesima bugia Grazie Buon lavoro Quindi procediamo Con la votazione Chi è favorevole Alla posizione Del consigliere La porta Favorevoli Allora Abbiamo Pesce Serra Bufano La porta Chi è contrario Quindi nessun assenuto Ok Andiamo avanti Con Il prossimo punto All'ordine del giorno Mozione del consigliere Massimo la porta Per coinvolgere i cittadini Casa comune Presidente E siamo Al tredicesimo punto Dell'ordine del giorno Con un'interrogazione Sempre rivolta A voi consiglieri comunali E vi prendo sempre E vi prendo sempre le belle parole Che l'assessore Lambasona Illustrava Nel portare a conoscenza Del problema Dell'ambulanza Dei problemi Dei problemi che ci sono Con l'asile Salerno Dei rapporti E degli arrivi Che poi Si verificano Con gli enti Sovraccomunali Di persone che sono Deputate Al controllo Dell'azienda Che vanno Ad amministrare Allora l'idea mia È quella sempre Di spiegarmi Perché i cittadini L'ultima competizione elettorale Ne abbiamo avuto prova Disersano le urne Perché la politica Continua a chiudersi Tra le mure amiche E non riesce Ad aprire La mia mozione Che è rivolta sempre Al vostro giudizio Al vostro voto Consigliere comunale È quella di creare Un incontro programmato Con tutte le forze politiche Di questa città Insieme a quelle figure Che sono fondamentali Perché poi Assistere il discorso Di portare idee Progetti In enti Sovraccomunali Senza poi investire Le posizioni organizzative Ecco L'idea mia È quella che sottopongo a voi È quella che Periodicamente Con un calendario In cui si affrontano Delle tematiche E che poi È la finalità Dell'articolo 2 Del nostro statuto Il comma 3 Quello di Partecipare Di Rendere Più possibile La vita politica Amministrativa Di questa città Ai nostri cittadini Al mondo produttivo Alle associazioni Allora Questa è l'idea Della casa comune Quella di partecipare I grandi temi Dove Non ci sta Opposizione E maggioranza Dove non c'è Nessuna preclusione Se non il bene Di questa città E allora Il mio invito È sempre lo stesso Cerchiamo Di sfondare Questo muro Di chiusura Che Io per prima Lo ribadirò Sempre E l'esperienza E l'esperienza Poi è tale Che ti fa capire Dove sono gli errori Perché gli errori Si commettono Ma la cosa grande Di chi fa politica Di ammetterli E di proporre Poi soluzioni A quegli errori Allora Apriamoci alla città Sui grandi temi Non portiamoci Che quando si fanno Delle scelte Che sono giuste Che l'amministrazione Partecipa a noi Minoranza E tutti insieme Diciamo Questa è l'idea Quell'intervento Che faceva prima Sul comandante Dei vigili La riprendo Perché non è possibile Che un consigliere comunale Non venga salutato Dal nuovo comandante Della città di Agroplica Non ci conosce O meglio Sicuramente ci conosce Perché ormai Ne facciamo pubblicità Di quale è stata La nostra posizione Sull'ex comandante Cauceglia Però Io ho detto sempre Dal ragazzo Del servizio civile Che vedevo prima Qui presente Alla figura Piccale Massimo Che è il nostro Nuovo comandante E' un altro Grande errore Signor sindaco Lei commette E anche questo E' stato sempre Una nostra osservazione Dice come mai Non si riesce Con Adamo Coppola Sindaco A conoscere Le persone Che arrivano Nel comune Abbiamo un ufficio E non conosciamo Policignio Ecco Vi dico un nome E' un geometra Che viene qui Assunto E giustamente Ci stava Un intervento Del consigliere Pesce Ma risulta Che fa 12 ore A rutino Ecco Questa è quella Quella collaborazione Che io continuo Ad aprire Verso la sua Amministrazione Ma guardo un po' Lei riceve Soltanto Quelle cattivele Che vuole Che io Manifesti Però va bene Così Allora Penso che il concetto E' chiaro L'idea è quella Di creare un calendario Di appuntamento Sui grandi pelli Tagliare gli alberi La stessa Iniziativa Di Trentova Dell'Arena Non possiamo Dividerci Perché La politica Deve dare Ai giovani Innanzitutto Un segnale Diverso Quel segnale Di riavvicinamento Perché Quello che noi In alcuni momenti Ci scusiamo Noi tutti Di che ci facciamo Prendere Dalla rabbia Non diamo Un buon segnale Ai cittadini In particolar modo Ai nostri giovani Che sicuramente Nella prossima Competizione elettorale Aumenterà sempre di più La percentuale Di assentismo Allora L'invito è solo questo Poi Ti tenete opportuno Fare quello che La vostra scelta Grazie Grazie Vuole parlare prima O dopo il segno No no Le faccio scegliere a lei Consigliere Serra Si aspettava prima La risposta del sindaco Oppure Come vuole lei Dottoressa Quindi Faccio parlare il sindaco Ok Prego sindaco Beh io penso che Sull'argomento Ciascuno di noi Appunto È rappresentante Di portatore Di portatore Di interessi Diciamo Di quelli Che sono stati I propri elettori E Come dire Per quanto riguarda Questa proposta Diciamo Ci sono già tante Modalità Affinché La popolazione Il popolo Possa partecipare Attraverso voi Istanze da fare A voi Consiglieri comunali Istanze che vengono Rivolte personalmente Sottoscritto Io Quotidianamente Ricevo Persone Persone private Singoli Cittadini Associazioni Che mi vengono A rapportare I propri I propri obiettivi I propri scopi E mi vengono A chiedere Eventualmente Partecipazione E Ritengo Che La mozione Lo stesso Vada respinta Quindi Rivolgo a voi L'invito A Votare conto Prego Consigliere Serra Il Consiglio Comunale È molto seguito È molto seguito L'ultimo Consiglio Comunale Ci sono stati Quasi 3.000 Telespettatori Che hanno seguito Attraverso la Previsione Questo vuol dire Che Gli argomenti Che anche L'opposizione Porta a conoscenza Sono argomenti Di interesse La gente Vuole condividere Vuole partecipare Vuole conoscere La solitudine Peggiore Di un amministratore È quello Di non spiegare Che cosa Vuole fare E come Lo vuole fare Perché Si assume Tutta la responsabilità Nel ruolo Nel bene O nel male Io credo Che la richiesta Di Massimo La Porta Sia quella In fondo Di condividere Quanto meno Su argomenti Importanti E quindi Condividere Anche la responsabilità Che grava Sulle spalle Di un amministratore Vedete Io voglio Chiarire Ancora una volta Che noi consiglieri comunali Veniamo qui A titolo Totalmente Gratuito Quindi togliamo Tempo Alle nostre famiglie Alle nostre attività Perché la partecipazione Alla società È importante E fondamentale Ora Signor Sindaco Tutte le forme Che possono essere utili Ad allargare La partecipazione E la conoscenza Sono importanti Perché quando poi È il momento Di difendere il politico Il politico Non viene difeso E viene lasciato solo Addirittura Allontanato E si intende La politica Come qualcosa Che gravi Negativamente Ma Se noi vogliamo Invece La partecipazione Del cittadino È giusto Che anche noi Ci apriamo A distanze Senza dare Un no Predefinito Perché questo È sbagliato E mi voglio riallacciare Se me lo consentite All'argomento precedente Quello della farmacia comunale Ora In quale famiglia Si farebbe qualcosa Se questo porta solamente Un costo E non porta un beneficio Allora va fatto Se non vogliamo dare Il termine inchiesta Quanto meno Va fatto un approfondimento Per capire Se è qualcosa Che porta un bene Alla città Un utile Alla città O se altrimenti Questo utile Potrebbe essere ottenuto Differentemente Questo mi pare ragionevole Allora Se noi Non creiamo Sempre Queste battaglie A favore Contro Si Creiamo soltanto Questo tifo Da stadio Invece Io credo Che la cittadinanza Non è stupida Capisce Comprende E probabilmente Accompagna Anche Le nostre attività Grazie Per avermi ascoltata Comunque Io voterò In maniera favorevole Prego Consigliere Pesce Prima della mia Dichiarazione Di voto Ovviamente È favorevole Chiedo al Presidente del Consiglio Se c'è la possibilità La scriviamo insieme Magari in commissione Per invertire L'ordine Dei lavori E anteporre Le emozioni Che sono Sottoposte al voto E sulle quali Tutti possono intervenire Tutti Nessuno escluso Postecipando Le interrogazioni Se possiamo Studiare In sede Di Eh Punto Sì Bisogna Perché Sul regolamento Porta prima Le interrogazioni A pensarci Converrebbe più Porre All'attenzione iniziale Gli argomenti Che si discutono Non quelli dove può intervenire Soltanto un consigliere Che fa L'interrogazione Ci pensiamo Era giusto E poi Dato che Nel mio programma Nel programma Delle mie liste C'era proprio La volontà Di coinvolgere I cittadini Nella casa di vetro Come si dicevamo Noi Non posso Che fare mia La mozione Del consigliere La porta Esprimo voto Favorevole Perché Credo Che possono essere Anche momenti Di distensione Sempre Tra maggioranza E minoranza Queste Queste occasioni Per parlare Di cose concrete Carte alla mano Valutando Le predisposizioni Che ci sono Anche con Gli operatori Oltre Con i cittadini Quindi Secondo me Faremo anche Una bella figura Nei confronti Dei cittadini Guarda Questi stanno ragionando Di questa cosa Interpellano anche noi Che siamo interessati Come la pensate Svestendo i panni Di minoranza E maggioranza Ovviamente Certo Noi riconosciamo Che la maggioranza Ha i numeri Per amministrare Non è che ci vogliamo Porre come Co-amministratori Ma vogliamo solo Confrontarci Penso che questa Era anche l'idea Di Massimo La mozione È assolutamente Da prendere in considerazione Io invito Gli amici di maggioranza A votarla Lo so che non sono Io il titolato A farlo Ma Non vedo perché Non votare una mozione È di apertura Alla cittadinanza Grazie Grazie Ci sono altri interventi? No Quindi procedo Con la votazione Chi è favorevole? Pesce Serra Santo Sosso Bufano La porta Chi è contrario? Tutti gli altri Non si astiene nessuno Va bene Qui Passiamo Al prossimo punto All'ordine del giorno Punto numero 14 PNRR Realizzazione e strutture Di potenziamento Dell'assistenza territoriale Cot E Cdc Presa ad atta Approvazione Dell'atto di costruzione E diritto di superficie Per il Comune di Agropoli Per la concessione Di un'area Distinta in catastro Al foglio 28 Particella numero 1033 Del Comune di Agropoli Per il potenziamento Dell'assistenza territoriale Di cui Al PNRR Qui abbiamo Relazione L'assessore Cianciola Buongiorno a tutti Grazie Presidente Sott. del Sindaco I colleghi assessori Tutti i consiglieri I cittadini presenti in sala E quelli che ci seguono da casa Ho sentito parlare Finora Di apertura Di istensione Mi è piaciuta molto L'espressione Che saluta dal consigliere La Porta Dice Cerchiamo di sfondare Questo muro di chiusura Io penso che questo Sia uno degli argomenti Che Il consiglio comunale Deve prendere a cuore E attraverso il quale Si riesce Per l'appunto A sfondare Quel muro Quel muro di qui sopra Perché parliamo di sanità E La sanità Ad Agropoli È Molto Molto sentita Poi per le problematiche Soprattutto Dell'ospedale Però Cosa ben Ben diversa È L'argomento Che trattiamo oggi Perché parliamo Delle case di comunità Noi Stiamo sfruttando Un Finanziamento PNRR Dell'azienda Dell'Aso Salerno Non è un Finanziamento Dell'ente Che sono stati messi in atto All'indomani del covid Cioè All'indomani Di una pandemia Che ha messo in ginocchio Il nostro sistema sanitario Tanto è vero Che abbiamo visto File e file di auto Di ambulanze Fuori gli ospedali Quindi come prima risposta Il PNRR Ha previsto Per l'appunto L'attivazione Di queste Di queste case Di comunità Che sono ben altro Come dicevo E penso che sia doveroso Non tanto per gli addetti Ai lavori Cioè per La dottoressa Mambasola La dottoressa Serra Forse nemmeno per molti Consiglieri comunali O amici assessori Ma soprattutto per i cittadini Non Non Avere Fare dei piccoli Dei piccoli chiarimenti Non ha nulla a che vedere Con la struttura ospedaliera È una struttura Quella della casa di comunità Che Ha un solo compito Quello di fare Filtro Sul territorio Cioè o per meglio dire Essere da filtro Tra il territorio E Per l'appunto L'ospedale Cioè evitare Che pazienti cronici Soprattutto pazienti anziani Che hanno ricaduto Nell'acqua del tempo Per Le tante patologie Che loro hanno Possano Consentirmi in termine Ingorgare I pesiti ospedalieri Ho Percepito Anche delle Delle difficoltà Molti Mi hanno detto Dottore ma Abbiamo Una struttura ospedaliera Che non è Occupata Appieno Potremmo Sfruttare Anche La struttura Alla struttura ospedaliera Ribadisco Parliamo Di altro Parliamo Di una struttura Che ha il compito Come dicevo Recentemente Di fare filtro E pertanto Nulla a che vedere Con L'ospedale Stesso Si è iniziato a parlare Di case con le comunità D'agropoli Non Durante La nostra L'amministrazione Venuto ai passi Bensì Ci sono state Delle pecche Delle pecche Chiedo scusa Già Da fine marzo Il 30 marzo Di quest'anno Vi è una corrispondenza Del sindaco precedente Con l'ASR Dove veniva Per l'appunto Individuato Un sito Idonio Per La realizzazione Di questa struttura Di potenziamento Dell'assistenza Territoriale Noi Nel momento in cui Ci siamo Insediati Abbiamo In giunta Deliberato Questa presa d'atto E l'approvazione Dell'atto di costituzione E il diritto di superficie Tra i comuni D'agropoli E l'ASR Di Salerno Affinché Potesse essere Concessa Un'area Dove Poi Poter costruire Questa casa di comunità Il 25 agosto Di quest'anno L'ASR Di Salerno Ha emanato Una deliberazione Del direttore Generale Dove Per quanto riguarda Ribadiva Qual è il sito Che è stato Individuato Per la costruzione Della Al catasso Al foglio Numero 28 Particella 1033 Da quel momento in poi Diciamo che Mancava soltanto Un atto finale L'atto finale Era l'atto di convenzione Con l'ASR E pertanto Siamo arrivati Alla proposta Di deliberazione Del consiglio comunale Dove Noi abbiamo Già inserito Nel piano Di alienazione Del patrimonio comunale 2022-2024 Il terreno Suddetto Bisogna approvare Soltanto Lo schema Di convenzione Per la costituzione Del diritto Di superficie Tra l'ASR Di Salerno Ed il comune Di Agropoli Giorno 17 Ottobre E' stato Stipulato L'atto di convenzione Subcondicio Mi spiego meglio Vi era la necessità Di fare Il tutto In tempi Estremamente rapidi In quanto L'ASR Aveva La necessità Assoluta Di inviare Tutta la documentazione In regione Pertanto Da un lato Vi era la Necessità Di contemperare La salvaguardia Del Consiglio Comunale Ai sensi Dell'articolo 42,2 Del Tuel Però dall'altro Viene il rischio Di perdere Il finanziamento Detto questo I nostri uffici Hanno previsto Una condizione Sospensiva Che rende Efficace L'atto di convenzione Che è stato Stipulato Il 1710 Solo a segno Dell'approvazione Da parte Del Consiglio Medesimo Io Ritengo Che La Casa Di Comunità Sia Un valore Aggiunto Da un punto Di vista Sanitario Nell'ambito Territoriale Avremo Anche Una delle 13 Centrali Operative Operative Territoriali Delle 13 COT Che sono previste In provincia di Salerno Quindi L'intero territorio Avrà a disposizione Un Una freccia in più Nel proprio arco Per far sì Che Vi sia Anche Una forma Di rilancio Della Della nostra Sanità Sperando sempre E Di questo Sia L'assessore Lambasona Che il sindaco L'hanno dato Condizzo Già precedentemente Ci possa essere Un rilancio Immediato Anche per quanto Riguarda L'ospedale Quindi Invito Tutti i consiglieri Comunali A votare A favore Della Libra Grazie Prego consigliere La porta Grazie Presidente Assessore Giangelo Come Lei Precedentemente Ha detto Quel muro Non certo L'ho Alzato io L'ultima L'ultimo consiglio Comunale È la mia proposta Fare Una commissione Un gruppo Un tavolo Politico Amministrativo Dove vi era La partecipazione Proprio dei vertici Dell'ASNA Perché Serve quel tavolo Oggi Me ne dà prova Di una relazione Di quello Che mi illustra A me E tutti i consiglieri E i cittadini Nulla osta Perché è così È un finanziamento Del piano nazionale Di silenze Rilancio Gestito Dalla regione Campania Per tramite Le aziende Sanitarie Grande problema È un altro Quando La pianificazione Che è in capo A questa città A questo Consiglio Comunale Su un errore Su un suo Ma del Precedente Sindaco Che nel mese di marzo In un modo Frettoloso Ha deciso Di individuare Con gli uffici Un'area Dove noi Come amministrazioni Passate Abbiamo puntato molto Ci è costata Cara Quell'area Assessore Cianciola Non so se lei sa La cifra Che noi L'abbiamo pagata Quella superficie Perfetto Quella cifra Che è stato Un ennesimo Sforzo Finanziario Fatto Con le tasche Di tutti noi Cittadini di Agropoli Serviva Per dare Respiro All'infrastruttura Sportiva Che significa Respiro Come ben noto A seguito di osservazioni Fatti dalla federazione Calcio Dal CONI Per attività sportive Professionistiche Serve L'uscita secondaria Questa uscita secondaria È stata per noi Fondamentale Anche quando Agropoli Il calcio Ha giocato In serie D Ma al di là di questo Quell'area Aveva anche una destinazione Ed ecco Poi ritorno Sempre al sindaco Dove si è immaginato Anche di fare Un progetto Di finanza Se ricordo bene Signor sindaco Per realizzare In quell'area Sempre una struttura A supporto Delle attività sportive Che non sono Solo il calcio Ma è anche l'atletica Ebbene Una scelta accelerata Dall'allore Sindaco Coppola La rifà L'amministrazione Sindaco Mutare Passi Perché è una scelta Accelerata Perché lei Giustamente Ha illustrato Con chiarezza La casa di comunità Le ricordo Soltanto che Il piano regionale Ospedaliero Prevede Anche la Casa di comunità Però nell'ospedale 10 posti letto Però al di là di questo Non sto qui adesso A far polemiche I 10-20 posti letto Parliamo di territorio Il territorio oggi è presente Nella struttura ospedaliera Perché lei sa bene Che il nostro distretto È all'interno Dell'ospedale Di Agropoli Una quota parte Di quella struttura Viene utilizzata Da territorio Che è la stessa Finalità Di questo territorio Di questo progetto E allora io mi dico Quando Con superficialità Con velocità Si fanno degli errori C'è qualcuno che Mi richiama l'attenzione Presidente della commissione Urbanistica No Sanità Sanità Bruno Il giorno 30 agosto All'insediamento Delle cariche E di noi tutti La mia persona Che era già venuta A conoscenza Di quella delibere Che rappresentava bene L'assessore Ciancela Porta a conoscenza Della scelta Scellerata Che era stata compiuta E di rivedere Una nuova obbligazione Sono passati circa due mesi Poi giustamente Ci dobbiamo sentire Dall'ASL Che dobbiamo andare in dire Di fretta Perché perdiamo il finanziamento Questo è un ritornello Che conosciamo Che ha detto ai lavori Lo conoscono bene Qui si deve fare Una variante al piano Pertanto i tempi Non sono domani Una variante al piano Lo recita anche la delibera E come Sempre segno di Collaborazione Assessore Ciancela L'essenza dell'articolo 22 Del esegolamento Del funzionamento Del consiglio comunale Sottoscritto Aveva predisposto Un emendamento Mi sono arreso Mi sono arreso Perché l'ho fatto L'ho scritto L'ho riscritto Ma come è impostata La delibera L'unica soluzione È dire Annullate la delibera Perché non ci sono Le condizioni Se vogliamo scegliere Un sito diverso Quel sito Che sono d'accordo Con lei Questo territorio Può avere In un'altra parte Della città Proprio per essere D'accordo Di un intero Territorio Però Se io devo Accettare Un luogo Non idoneo Un luogo Dove Andiamo a precludere Lo sviluppo Dell'invistruttura Sportiva Della città Di Acropoli E ci andiamo A calare Questo Questo cubo Questo manufatto Che non serve a nullo Se non A creare poi I disagi Perché Assessore Cianciola Mi segua Il direttore Generale Che è arrivato Volevo avere La soddisfazione Di confrontarmi Con lui E dirgli Lei che arriva Dall'esperienza Delle infrastrutture Sanitarie Mi può dire Come non si può Realizzare Nel parcheggio Dell'ospedale Di Agroga Adiacente Alla ramba D'ingresso Del distretto Non della zona Pronto soccorso Una struttura Di 800 metri quadrati 20 per 40 La stessa stecca Che oggi È in utilizzo Al distretto Di Acropoli Appa la fitta Non si perdevano Nemmeno i parcheggi Se non qualche Parcheggio Per i pilastri Che vanno a sorgere Dalle fondazioni È l'impegno Dell'amministrazione Di quell'area Dove abbiamo un combatto Dove possiamo fare La variante Di realizzare A supporto Della struttura Ospedaliera E della struttura Casa di comunità E centro operativo Territoriale Parcheggitori Allora Questo è il burro Che lei deve capire Che non alzo io Perché se io Do il contributo Chi vi parla Ha costruito l'ospedale Qualcosa Mi capisco E vi dico Che stiamo facendo Una fesseria Mettere questa infrastruttura Soltanto perché Dobbiamo prendere I 4 milioni 200 milioni Basta Con questa storiella Non ci serve ancora Continuare a sbagliare Perché se noi dobbiamo No Soltanto Essere sazi Caro assessore Ciancio Dell'infrastruttura Che deve essere ubicata Dove ci creano altri danni Che in tanti anni Con sacrificio Le passate amministrazioni Sono riuscite A raggiungere Facciamo l'ennesimo errore E allora Chi come me E altri Rappresentano Il passato Danno un contributo Ubicazione sbagliata Confrontiamoci C'è il tempo L'invito che le faccio C'è il tempo Perché se noi Diciamo all'ASL In questa delibera ASL Noi siamo pronti Come comune Come struttura tecnica Che deve fare Tutti gli adempimenti Che saranno Molto più veloci All'interno Della struttura Ospedaliera Dove ci sta La superficie Per realizzare questo Abbiamo risolto Due grandi problemi Uno Che diamo Continuità A quel rapporto Territorio Territorio Che sarebbe Distretto E casa della salute E non andiamo A inquinare Quell'area Dell'inviando struttura Guariglia Sportiva Che per tanti anni C'è stata Una lotta Per realizzare Quella seconda uscita Vi invito Sempre E i consiglieri Colleghi Di riflettere Di non farsi prendere Soltanto Dall'invito Dell'ASL Che per opportunità Per scelte Che non sono Condivisibili Perché la pianificazione Ecco In materia sanitaria Deve essere partecipata Al territorio Se vogliamo Non continuare A fare altri danni E invece La prova provata Di quella famosa mozione Che io vi ho portato A giudizio E che mi avete bocciato E' questa La prova provata E' oggi State per scegliere Un sito Non idoneo State per commettere Un errore Madornale Perché andiamo A precludere Lo sviluppo Della infrastruttura sportiva Il mio voto Se non ci sarà Un emendamento Che a vostra scelta Infatti io Non l'ho presentato E' negativo Io voto contro Deve rimanere Agli annali Che Massimo La Porta E' il suo gruppo Che mi seguirà Voteremo Contra questa scelta Accelerata Grazie Ci sono altri interventi Prego Consigliere Pesce Io Mi associo A quanto detto Dal consigliere Nel merito Anche Della possibilità Di verificare Come avevamo detto Nell'Unione Capigruppo Altre disponibilità Per Da considerare Per l'edificazione Della scelta Quella che A cui ha fatto Riferimento La porta Nell'ospedaliero Potrebbe essere proposta Senza correre Senza incorrere Purtroppo In errori Perché Quell'area sportiva Nata Con l'acquisto Quindi Come area sportiva Di ausilio Anche all'uscita Che non c'è Noi dobbiamo pure Sperare di arrivare In serie superiori Giocherà una squadra Di serie superiori E' un'area sportiva Certo Nessuno vuole Perdere il finanziamento Nessuno vuole perdere La casa di comunità Questo è Credo che Sia a cuore A tutti Poi è gestita Dal distretto Mi sembra Non dall'ospedale Mi sembra È una struttura distruttuale Territorio Quindi Benvenga La struttura Ma questa corsa Non la capisco Io Lei ha fatto riferimento Anche all'articolo 42 Prendo atto Che Ha verificato Che sono competenze Di consiglio comunale E' per l'urgenza La posta Come Ingiunta Ma Quella che andiamo A votare oggi E' una ratifica Di una delibera Di giunta O una delibera Di consiglio E questo non ho ben capito Perché Come proposta Di tutta proposta Di liberazione Il consiglio comunale Ma Segue una delibera Di giunta Quindi è una ratifica Di delibera Di giunta Sulla quale Nulla mette Nulla toglie Il consiglio In un argomento Che è consigliare Quindi E' una delibera Di consigli Però Leggo Si è preso già atto In via preliminare Di quando Congiunta Comunale 242 19282 Si è preso già atto In via preliminare Di quando Riportato In oggetto Nella proposta Di deliberazione La presa D'atto Non è libera Di giunta Facciamo a meno Chiarezza Sugli atti Io mi chiedo A questo tipo Specificare Sì Ritornerà La piena All'area Oggetto Della presente Concessione Tempo In quanto Non avevamo La possibilità No c'è lo schema Ma c'è lo schema Lo schema Non è uno schema Definito Se è stato cambiato Lo dobbiamo leggere Ci volete dare il tempo Di leggere Per votarlo E' un appunto Non entro nel medio Voglio dire Cioè Io ho lavorato Su questo schema Ieri Perché questo Mi è stato fornito All'ufficio Di segreteria Lei mi dice Che c'è altro Io non ne ho condesso Sono anche disposto A votare tutto Mi è finito Tutto Ma Esistono delle regole Come dicevamo Doveva essere messa Agli altri Prima della delibera Come faccio E' previsto Che vengano depositati Cinque giorni prima Si poteva fare Poi un differimento Di tre giorni Il Consiglio Comunale Dando l'opportunità Di conoscere Gli altri Che facciamo Cioè Il segretario Può intervenire Sul punto Allora Il Consiglio È chiamato A pronunciarsi Sulla volontà Di cedere In diritto Di superficie Non è che deve Approvare Tutti i particolari Dello schema d'atto Tanto è vero Che è sufficiente L'approvazione Dello schema d'atto Proprio perché Può essere poi Come dire Possono essere I dettagli Successivamente Ma se lo schema d'atto È stato cambiato Di che stiamo Parlando Se è diverso Da quello Che è legato Alla delibera È indicata All'aria Nella delibera È indicato Solo un diritto Di superficie Non è integrato Non è individuato Alcun fabbricato Oggi Porto solo gli atti Catastali C'è un manufatto C'è un manufatto Su questo terreno Vogliamo valutare È stato detto qui Non è che lo sto dicendo Poi abbiamo Abbiamo l'ingegnere Ingegnere Marciano Che è un esperto Ingegnere Presidente della Commissione Urbanistica Ci puoi chiarire Lei penso che gli è chiaro No, io voglio chiarire Perdonami Ma io voglio solo capire Che cosa votiamo Votiamo lo schema Votiamo quello che è stato già Cambiato E firmato Allora noi abbiamo fatto E quindi non ho capito Quale è il problema Non merito Non ho capito Il problema che pongono Il problema è questo In effetti Allora Su questo loco di terreno Esiste un manufatto In un posto di costruzione Si C'è una fondazione E pilastro Quindi ovviamente Non è che si può parlare Di vendita di terreno Ma si deve parlare Di qualcosa di diverso In effetti Non è questo il concetto Insomma In quanto ci sta Dice un manufatto Oppure preventivamente Bisogna parlare Di un'eventuale demolizione Di questo manufatto Per restituire Al terreno Quella che è la tua Originale funzione Quindi si presenta All'ufficio Da passare Un documento Scusate La proposta di deliberazione È di inserire Su detto bene Quale bene Il terreno O il manufatto soprano All'interno Del piano biennale 2022 E' le alienazioni Dei beni patrimoniali Comune di Agropoli Competenza assoluta Consiglio comunale Quindi dobbiamo capire bene Cosa è allegato Prendere atto Ed approvare L'atto di costituzione Il diritto di superficie Che lei ha appena detto Che è cambiato Rispetto a quello Che è allegato Non è possibile Noi dobbiamo sapere Che vogliamo Stiamo parlando Di alienazioni Allora rispondo dopo O rispondo ora No, stiamo parlando Di alienazioni Beh, agli atti In segreteria Nei cinque giorni Non c'è Quindi potevamo Differire Il consiglio comunale Di tre giorni Non c'erano i termini Perché non c'erano i termini Perché l'ASD Ci ha imposto Di consegnare La documentazione Entro a fine settimana prossima E non è discorso Scusami Ma era il discorso Ma se avete Firmato Allora Se E' sub condicio E' sub E' sub E' sub condicio All'approvazione Da parte Del consiglio Comunale Ho capito Ma questa Allora Il riferimento Che si fa Nella Nell'atto di costituzione E Va Visto che i consiglieri Non hanno potuto Leggere Perché è incompiuto No Con nota di protocollo Non c'era nota di protocollo L'ASD Salern Ha chiesto Al comune di queste E' una bozza Che ha fatto solo l'ASD E noi la recepiamo In toto Senza Aggiungere nulla Di nostro Tant'è che Non emerge Nemmeno Che c'è il manufatto Ok Noi vogliamo Occhi chiusi Una cosa E non sappiamo Cosa votiamo Ma il metodo È questo L'ASD Perde tanto tempo In altre cose Può perdere anche Una settimana Ma dobbiamo capire Cosa votiamo O non dobbiamo Essere messi in condizione Qual è la nota La nota è la 20 mila È quella del 4 ottobre Non da nessun termine Per depositare gli atti Possiamo Di cosa Parliamo Consigliere Pesce Io penso Una cosa Che Un po' di chiarezza Dobbiamo fare In me Io capisco Tutte le due Perplessità Possiamo leggere Cosa votiamo Ma stiamo scherzando Ma vogliamo Stravolgere il diritto Amministrativo La bozza di deliberazione Che è stata fatta Anzi Non è stata fatta La bozza Dell'atto di costituzione Di diritto di superficie Risale Lo ripeto L'ennesima volta Al 17 Di ottobre Quello realmente stipulato Quello realmente stipulato Lo possiamo leggere Possiamo vedere il termine Per esaminare i dati Non vogliamo Limpiando la seduta Anche di ore Perché non abbiamo Non abbiamo Per nostro diritto Dobbiamo votare Se fosse riconosciuto Noi abbiamo Un termine Allora C'è lo schema Legato C'è lo schema Legato I termini Per far sì Che la nostra documentazione Assolutamente Lo schema è vuoto Non c'è la nota Zero Non c'è il numero Non la conosco la nota Non mi è stata termita la nota Il consiglio Non deve votare Tutti i dettagli Nello schema di atto Noi stiamo soltanto Valtando Nell'inizio da c'è lo schema di atto Riportato nel corpo della delibera C'è prendere atto E approvare l'atto di costituzione Dove è? Lo schema di atto No C'è spinto A approvare l'atto di costituzione Allora L'ha cambiato la delibera Si intende come schema di atto E non se lo intende lei Io intendo in italiano E in diritto Prendere atto A approvare l'atto di costituzione Lo possiamo leggere quest'atto Così invece Lo possiamo leggere Ma non è in modo questo di fare Ma no Secondo me stiamo parlando di Lana Caprini Non abbiamo letto Secondo me Scusa Stiamo parlando solamente di Lana Caprini Noi abbiamo No assolutamente sì Lo schema dell'atto è quello Il sito di individuazione È quello C'è riferimento all'immobile di cui parlava l'ingegnere Marciano su questo schema di atto C'è sulla deliberazione dell'aslo È indicato Quello che vogliamo noi Noi ci prendiamo la responsabilità di cedere Un bene comunale per 99 anni Noi consiglieri che vogliamo Possiamo leggere l'atto Che cosa c'è scritto L'abbiamo fatto Sub condicio all'approvazione del consiglio comunale Ma non è possibile Non è Non è Ma non è Dobbiamo leggerlo È per materia consigliare Articolo 42 del 2 Dobbiamo leggere le case che andiamo a votare Allora C'è altro da aggiungere? No Mi deve far leggere l'atto E mi deve dare il tempo per studiarlo Perché da consiglio comunale Non ci sono stati i tempi Non ci sono stati i tempi E questo Ma stiamo scherzando Assolutamente no Lei non ha avuto una cosa E non l'abbiamo letto Ma stiamo scherzando Se ha concluso Non ho concluso Non ho concluso La deliberazione dice Prendere atto Ed approvare L'atto di costituzione È diritto di superficie Cosa che non è perché c'è un manufatto Non è solo terreno Quindi è un falso Stiamo votando un falso Ok Stiamo dicendo È solo terreno E c'è un manufatto È un falso Io non intendo rispondere Avanti alla procura di Repubblica Per falso Vabbè Qui o cambiamo la deliberazione E ci scriviamo cosa c'è sul terreno E lo valutiamo Oppure È un falso In atto pubblico Con un voto consigliare C'è un manufatto Va considerato Va considerato Va considerato Vabbè Questo poi lo vedremo Io ero risposto a votare Sì Ma non è in modo questo Non si può Non si può Non si può Veramente avevi detto Che si vota no A prescindere Appena ti sei alzato Vabbè Consigliere La concessione di un'area Distinta Al cadastro Poi ho indotto 1.033 Per il potenziamento E ci siamo Prendere atto Ed approvare L'atto di costituzione Se lei mi dice Che è l'atto di costituzione Posso continuare Per favore Silenzio Abbagnale Vabbè Allora Già stato filmato Non dobbiamo prendere atto Di che votiamo No Per favore Ma stiamo scherzando Comite Abbagnale Per favore Nella nota Allegata Nella nota Allegata Alla deliberazione Di giunta L'atto di costituzione Però io vorrei finire Perché siamo anche stanchi L'atto di costituzione È allegato E lo deve verbalizzare Quello che sto dicendo Quello È completamente In bianco Non c'è riferimento Alla struttura Non c'è riferimento Alla nota ASL Non c'è riferimento A niente Basta trasformare La scelta Schema di atto Schema di atto Non è lo schema di atto Sto votando Allora Non lo schema di atto Ma lo vorrei dire Trasformiamo la proposta Trasformiamo la proposta Ma la proposta Ma la proposta Posso leggere Come quest'atto Deve essere Non deve essere Non deve essere depositato Prima del voto In consiglio comunale L'atto che si vota Deve essere o no Facciamo scherzare Se ci calmiamo Non ci calmiamo Perché deve essere depositato Va bene E dove è risposto Non mindere Lei dicevo Diamo una bozza di atto Quando c'è scritto Prendere atto E approvare l'atto Vabbè Ma chi vuole far passare I guai Vabbè E poi stavola consigliare Ma per piacere Prego Ci sta un attimo L'assessore Ciancio Ma poi ci sta Stando Sos E poi la posta Scusami Consigliere la posta Però c'era già L'ordine prenotato Allora un attimo Ciancio Lei non è consigliere La che libera L'ho letta Io la leggiamo Che chiaramente Allora C'è scritto atto Io Ingegnere Sica Ingegnere Sica Venga al tavolo Della presidenza Così ci dà Delle velocitazioni Se la presa d'atto Con calma Ma che calma Lei non può indicare Non deve indicare Per favore Perché se lei Non ritiene Che i consiglieri Comunali debbano Leggere Gli atti Vanno a votare Lei non va bene Il suo lavoro Ve lo dico qui Allora Per favore Allora Ingegnere Sica Prego ingegnere Non faccia il consigliere Non faccia il segretario generale E provveda Consigliere Pesce E basta Stai urlando Stai urlando Stai urlando Da un'ora Stai urlando Stai urlando Non glielo consento Ma che non glielo consento Consigliere Pesce E basta Non ci sono le carte di segreteria E vogliamo Consigliere Pesce Basta Per conto Silenzio Silenzio per favore Allora io mi sono permesso Per cui ho firmato la delibera Come consiglio E allora Leggiamo la delibera con caldo La delibera dice Che la superficie All'interno Lotto messo a distruzione Per la costruzione Di superficie A fare l'asera A un'estensione totale 3490 metri quadri Dice prima però Su cui Insiste Un vampicato In costruzione Con fondazione E pilastri Già realizzate Per una superficie Circa 280 metri quadri Quando dopo Dice La narrativa È parte integrante Significa che Non è così Perché nell'atto di costruzione Non c'è Allora Io sto dicendo Che Cioè Consigliere Voi avete detto Che non veniva menzionato Il fabbricato In costruzione È stato menzionato Il fabbricato Possiamo leggere L'atto di costruzione Che votiamo Voglio capire questa cosa L'atto di costruzione Ce l'ha il segretario Non io Io ho firmato Allora Per favore No no Consigliere Pesce Però Lei però Non deve fare così Allora Lei ha fatto il suo intervento Adesso vi parleranno Gli altri Poi Vi dirà Vi dirà L'assessore delegato O qualcun altro Se sarà possibile Esagonire il suo desiderio O no Però adesso Dì la possibilità Di parlare anche Agli altri E soprattutto Non interrompiamo Vale per tutti Ecco consigliere La Porta Grazie Non avevo finito E dico solo una cosa Che se non mi date Alla determinato Consigliere Pesce E certo Ognuno è libero Certamente Consigliere Certamente Però Vogliamo lasciare La parola Anche agli altri Per cortesia Grazie In data Dare un diritto Comune ha affrontato Io ne sono contento Io ne sono contento Dice Pugini Dice Pugini Allora Pubblica Pubblica Ancora Pubblica Quella dell'ASM Gli è stato detto E hanno detto Che doveva essere Un terreno del comune E non incidere Sulla loro proprietà Poi Fermo rimanendo Fermo rimanendo Questa amministrazione Ha tentato Fino alla fine E ha collaborato Con io Anche l'architetto Germinale E non siamo riusciti A trovare Una nuova area Disponibile subito D'accordo? Allora Io ne ho avuto Allora Io ho fatto Il comandante dei vigili Per certificare Che non c'è Agli altri Consigliere Pesce Ne ho avuto E parlare Di altri consiglieri Ora Ora Sempre questa amministrazione Ha deciso E non io Di Confermare Quell'area A sto tempo messa Ora Petrizzo E' stato fatto l'atto Anche con Petrizzo Quando? L'abbiamo fatto Circa dieci giorni fa Io non lo ritrovo Trascritto Eh Io l'ho fatto E Il signor Petrizzo Io ho firmato Non è nelle condizioni Noi in questo momento Stiamo facendo Stiamo facendo Se non c'era L'atto con Petrizzo Io non avevo firmato Questa delibera Caro Massimo Allora Chi ha stipulato l'atto? Chi ha stipulato l'atto? L'atto con Petrizzo L'ho firmato io Senti Lo so già Che vuoi rispondere Sto parlando Segretario Lei ha fatto Un vendennale Di visura storica Sul bene Me lo può accertare Lo mettiamo agli atti Nella sua visura Presso gli uffici Dell'Agenzia del territorio Ne ha fatto Sì Dove sono? Le posso vedere? Non risulta nessun altro Le possiamo vedere? Perché non ce l'avete messa A disposizione Tutta cosa Dove sono? Sì Sì Che cosa vuoi dire? Allora Io credo Che stiamo dicendo Sbagliato Il consigliere la porta Però vada alla conclusione Perché altrimenti Non vi riavole Siccome lo schema d'atto E tutte le misure E tutto il resto Non sono Come se Immediatamente disponibili È sufficiente Siccome non è nella competenza Del consiglio Approvare Alcun atto completo Basta modificare La proposta di delibera In approvazione Di schema d'atto E come dire Solleviamo tutti i consigli E' stata la possibilità A leggere le gambe Ma lei chiede Allora Consigliere Pesce Lei non può consigliare Quello che non può Consigliere Pesce Lei Consigliere Pesce Ma sta scherzando Ma lei non è parte politica Lei è parte tecnica Ma stiamo scherzando Ma stiamo scherzando Ma stiamo scherzando Ma stiamo Che non è Sbagliato A leggere le gambe Da seguitare Consigliere Pesce Per favore Dice i consiglieri Se devono Non devono votare La fe Consigliere Ma stiamo scherzando No Perché non è possibile Non è possibile Non siamo al bar Dove stiamo parlando Tutti quanti noi Caro Raffaele E allora Siamo Devi rispettare I temi degli altri Adesso conclude Il consigliere La porta Per favore Sta concludendo Il consigliere La porta E poi dopo Parla il sindaco Prego Consigliere Segreta Prego Consigliere La porta Allora Allora Io formulo Delle domande Perché se devo votare Devo sapere Se è bene È in capo Alla città di Agropoli Sì È stato regolarmente acquisito Dal signor Petri Mi può far vedere Adesso non ce l'abbiamo Adesso non ce l'abbiamo Che signore Ma ci troviamo a Milano O ci troviamo a tre metri Può andare a presto Non ce l'abbiamo a prendere La seduzione Perché non ci sono le carte Su cui votare Segretario Signore Secondo me Così la devo fare allontanare Per favore Allora Allora Presidente O da 5 minuti In cui ci facciamo Un'antimino Mascherita Accetto Accetto La Sindaco Secondo me È opportuno Fare 5 minuti Dove Dobbiamo votare Un attimo Quindi Chi è favorevole Alla proposta Del consigliere La Porta Di una sospensione Di 5 minuti Chi è favorevole Tutti Ok Allora Ci vediamo Alle 14 E 50 Va bene Pietro Pao Presente Carmacota Giuseppe Presente Crispino Francesco Bruno Rosario Comite Nicola Presente Abbagnala Maurizio Presente Pesce Raffaele Libiasi Franco Sant'Angelo Giancarlo Pizza Michele Presente Russo Gennaro Pesca Mario Santo Suosso Gerardo La Porta Massimo Presente Buffano Bruno Presente Serra Elvira Presente Ok la seduta Valida Voleva un attimo Intervenire Prima Sindaco C'era Prenotato Sando Suosso Prego Consigliere Sando Suosso Allora Una cosa Molto molto Semplice Ho ascoltato Molto bene Con attenzione Tutto quello Che è successo Sulla casa Di comunità Però mi pare Che Che cos'è la casa Di comunità Nessuno L'ha spiegata No Un attimo Come è Che cosa Che cosa si fa In questa casa Di comunità A che serve Cosa Cosa Invece Per prevista Aria Ambulatori Specialistici Aria Nel deserto Poi Per fare Questa casa Di comunità Mi pare Che ci stiamo Dimenticando Dell'ospedale E' un'altra cosa Lo so Che è un'altra cosa Lottiamo Per la casa Di comunità E lottiamo Anche per l'ospedale Allora Prego Consigliere la porta Ho appena fatto fare Una visura Catastale Giorni 20 ore 14 e 50 Il bene non è volturato Secretario generale Ma perché l'atto Con il signor Petrizio E' stato fatto Pochi giorni Io Io lo voglio dire Perché noi stiamo Il trasferimento Avviene con l'atto Non avviene con la cultura E l'atto L'atto è pienamente efficace C'è l'atto Adesso vi stanno facendo Comunque stanno facendo Le fotocopie Dell'atto Ho avuto ancora Un'ulteriore conferma Di quello che io avevo letto Il giorno 15 Ma due giorni prima E' stato fatto l'atto Con Petrizio Secretario comunale Io sto dando un contributo Sì Non tanto a lei Perché lei è Dotto di tutto Ma i colleghi consiglieri Perché È un momento Che possiamo votare Collega Consigliere la porta Solo per fare chiarezza Siamo d'accordo Che un atto È pienamente efficace A prescindere da quando E come sarà fatta La fortuna La sua sempre lecita responsabilità Perché lei me lo insegna Perché mi ha dichiarato Che ha fatto il vendennale E allora Io sono tranquillo Perché poi lo rimettiamo agli atti Quando avremo modo Di prendere il suo lavoro Che arriverà Ci saranno anche là Le visure fatte Riverà la copia La fotocopia Dell'atto di Sia di trasferimento Da Petrizio al comune E sia di costituzione Del diritto di superficie Dal comune Sia le visure Le visure Non ci sono Non le ha fatte Sono state fatte Sono presso L'ufficio tecnico Non sono presso L'ufficio tecnico Abbiamo un ingegnere Sì L'ingegnere E lui E lui è Ok Va bene Va bene Quindi Deve aggiungere altro Consigliere Sono stati messi in delibera Che ci sono tutte Ok Quindi adesso Vuole prendere la parola Il sindaco Brevissime parole Consigliere E parlate che l'argomento Appunto è importantissimo Per la comunità Di Agropoli Vischiate di perdere Il finanziamento E una cosa Mi sembra che questa sia Opinione convinta Da parte di tutti quanti noi Non accettabile Voglio ricordare A tutti noi Che comunque L'investimento È vero Che è gestito Dal PNR De regionali Quindi trasmessi Attraverso le ASOL Però l'opera Che verrà realizzata Attraverso Questo investimento Rimarrà poi Di proprietà Dell'ente comunale Al termine Al termine Al termine Dei 99 anni Allora deve specificare Tra 100 anni Tra 100 anni Ok Nel Il diritto di superficie Si dà per le strutture Edilizia economica Popolare Sono edotto E sono ben chiare Ok Ok Prego Silvano Per favore Continua Nel prendere atto Che tutti gli attempimenti Necessari affinché il comune Divenisse Fosse proprietario Del terreno Su cui Che noi adesso Andremo a concedere Con il diritto di superficie Per 99 anni Di piena E legittima proprietà Dell'ente Chiedo a questo Consiglio comunale Di modificare La proposta A voi presentata Al punto 3 Nel senso che Adesso sto per Indirizzarvi Di prendere atto E approvare Lo schema Dell'atto di costituzione E diritto di superficie Aggiungere La parola Allo schema Che è Andeposto Alla parola L'atto Quindi credo che questo Venga messo Ai voti Così come trasmesso Nei termini Così come trasmesso Nei termini Ai consiglieri comunali Sulla proposta Devo voler intervenire Massimo La proposta evitata Dal sindaco Che noi accogliamo Favorevolmente Se giustamente C'è l'apertura Ecco Queste sono le aperture La sua proposta Che ritengo giusta La dobbiamo evitare Che qualora Nei termini tecnici Del finanziamento E delle attività Che sono Da svolgere Ciò significa Dobbiamo fare Una variante al piano Deve essere fatto Il progetto Il comune Si riserva Di indicare Altre aree Lo dobbiamo aggiungere Come vendiamo Sempre Se giustamente Se giustamente Noi non saremo In grado Di trovare Altre aree E' chiaro Che rimarrà Se dovesse essere Poi accettata La variazione Da parte della regione Tra le aree Il consigliere La porta Vuole parlare Il consigliere Le pesce Sempre sulla proposta Allora Un atto Mi chiedo Per non perdere Il finanziamento Di utilità sociale Chiariamo Però può servire Come monito Anche questa Discussione È accesa Che le carte I cinque giorni Prima devono esserci Nel caso di specie Tu hai detto Che è stato filmato Il 16 Ok Qua siamo persone Aperte e mature Nel caso in cui Ci veniva comunicato Via PEC Dall'impiegato Che effettivamente Anche Solette Nell'invitare Questa discussione Non si faceva Ma oggi solo Dopo aver studiato Questo schema Che trovo Assolutamente Perfezionabile A tutela del comune Perché non è esaustivo Per quello Che ci siamo detti prima Invece Noi andiamo a votare Facciamo una finzione Diciamo che votiamo Uno schema Quando c'è già Ed è stato verbalizzato Che esiste Un atto Già fermato Quindi Io sono con te Caro sindaco Che cerchi di rimediare Scrivendo Lo schema d'atto Perché chi ha La delibera Forse è stata una mancanza Sicuramente Non c'è malapena Tutti vogliamo il bene Tutti Tutti E che si facciano le cose Abbiamo deciso di farlo In quella zona È sbagliato farla Se non c'è una possibilità Come diceva Massimo Purtroppo Lo dobbiamo fare là Ma vediamo la possibilità Di fare in modo Un'altra condizione Magari Stesso oggi Partiamo con l'altro Stesso oggi Domani mattina C'è andato Potete andare pure Con il presidente Della commissione Così ci fa sapere Andate insieme È vero Ma possiamo dare Una condizione Temporale Minima Iniziando La pratica Su quel bene E individuandone Un'altra Possibilità Così non andiamo A inviciare La zona sportiva E facciamo una bella cosa Per tutti e due I piani Cioè questo è E no Però c'è un problema Adesso Io mi rivolgo Mi rivolgo C'è il problema Della stima Che dicevi tu Del bene Che è costruito Parzialmente costruito Come diceva Maurizio Quindi Però comunque c'è Ma lo fanno c'è Su questo L'ultima cosa L'ultima cosa Hai fabbricati No no Dico nell'atto Non c'è però Nell'atto Che non conosco Conosco solo lo schema Non c'è allegato Non c'è allegato C'è allegato lo schema? Allora Abbiamo una visura cadastrale Dove viene riportato Nella A catastro dei fabbricati In F3 Questa la leghiamo La delibera Insieme Ve le concedo Ecco qua E li mettiamo Dietro la delibera E tutto Abbiamoci Consigliere Pesce Eh Franco Allora Chiariamo le cose Come facciamo Mi chiedo a me stesso Prima di capire No Nel momento in cui L'atto c'è Come facciamo E l'atto differisce Dallo schema Come facciamo A votare Che cosa votiamo Se c'è già l'atto Ma non lo voglio Non lo schiena L'atto Se l'atto Poi differisce Dipende da che cosa Differisce Consigliere Posso dire una cosa Posso dire una cosa Da segretario Dall'Ente Dipende da in che cosa Differisce Se sono differenze Di dettaglio Non c'è E non lo sappiamo Perché non lo conosciamo Francesco Non lo conosciamo L'atto E tanto sempre Conosce lo Stato Ma noi possiamo votare Una cosa che non conosciamo Stato Ma no Mettetevi nei panni Pure l'opposizione Che vuole votare Per il bene del paese Ma non ha gli atti Non c'è L'atto Non c'è Voto con una bozza E invece c'è già l'atto Io Reati Non ne voglio commentare Consigliere Allora C'è il sindaco Consigliere Pistola Volevo fare una precisazione Che adesso il consiglio Appunto approva lo schema Qualora lo schema Dovesse L'atto definitivo Dovesse riferire Nella sua interezza Dal Non c'è già l'atto Come c'è già l'atto Posso intervenire un attimo Allora Noi praticamente Per stare Sereni Tranquilli Tutto il consiglio Allora Dobbiamo avere La certezza Che quel sito È di proprietà Del comune Il segretario Scusate Fermate I terminati È giustamente Il segretario comunale Ci ha detto Che c'è l'atto Che quel sito È nostro L'ingegnere Si che ha specificato Con certezza Che all'interno Della delibera Viene si troverà Anche il manopatto Quindi noi Andiamo a fare questo Il problema Che pone però Il consigliere Pesce È questo Noi oggi andiamo Ad approvare Uno schema Di convenzioni Ma se la convenzione Oggi abbiamo fatto È sottoposta A condizione Dospensiva No Il consiglio comunale Oggi diciamo Che già c'è stata Quella convenzione Sottoposta A condizione Dospensiva E la votiamo No vabbè Ma penso che Da una puntata Conoscenza di tutti quanti C'è un'altra Una coca Ebbene Il consigliere Pesce Il più condire il meno Consigliere Pesce Il più condire il meno Perfetto Così siamo 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 La solita Tutti A me Sì Va bene Allora Prego Assessore Cianciola Chiudiamo Perché veramente Forse siamo un po' Tutti quanti stanchi Allora Datti Adesso Facciamo parlare L'assessore Cianciola Per favore Io penso Che Forse L'unica mancanza Sia Sia stata Quella di non Aver Fatto recapitare A tutti i consiglieri O A una quota parte Di essi L'atto di convenzione Altro Altro non c'è Tutti gli atti Sono stati Veramente Fatti In maniera Pertinente Sia per quanto riguarda La posizione del terreno Sia per quanto riguarda Anche l'atto di convenzione Stesso Che non è Per nulla di forme Rispetto Allo schema Che noi abbiamo allegato Nella delibera Di giunta comunale Quindi Ritengo Anche Che sia Giusto Avere Dare la possibilità Di trovare Un'ubicazione Diversa Un sito Diverso Ci impegneremo Come amministrazione A trovare Consigliere la porta Sto dicendo Sto dicendo Quello che ci siamo Detti Pocanza Cioè ci impegneremo Con la regione Direttamente A trovare Un sito diverso Sia ben chiaro Che nel momento in cui Ciò Tecnico È un manufatto Un manufatto Un manufatto Come F3 Quindi L'attrastamento Non c'è In fase Può esserci Solo Solo Ed esclusivamente Alla fine Quello è solo Quello è solo Un manufatto Detto questo Detto questo Ritengo che Sia Un'opera Fondamentale Per la sanità Territoriale E invito Veramente Tutti quanti I consiglieri Anche voi A votarla A favore In modo tale Che la nostra sanità Possa essere rilanciata E mi associo Anche a quello Che ha detto Il consigliere Santosorso Certamente Tutti quanti Insieme Lotteremo Per far sì Che lo spedio Di Agropoli Possa Ultimamente Essere Migliorato E potenziato Grazie Allora Se In deliberazione Del consiglio Comunale È scritto Terreno Su cui Insiste Un fabbricato In costruzione Sicuramente Non è colpa Di consigli Migliorato Se chiedono Lumi Sul fabbricato E se Lo stesso Presidente Della commissione Urbanistica Dice Effettivamente C'è un manufatto No Quindi Non è Errori Non ne abbiamo Fatti In deliberazione Noi ci accendiamo Non c'entra C'è scritto Fabbricato Allora Scusate Posso finire Che non sia Allora La situazione Reale Il catastro Non mi fa Pede Sulla situazione Reale Lo sappiamo No Lo sappiamo Facciamo questo Lavoro Lo riconosciamo Noi dobbiamo Quando c'è un atto Di compra vendita O nel caso Di cessione Di diritti Superfici Si deve E' nucleare La situazione La situazione Reale Del bene Cosa che non è In questo atto Di costituzione Che oggi In questo momento Ho voluto sfogliare Perché non mi è stato Dato Nei cinque giorni Precedenti Ora La delibera Parla di fabbricato Non c'è Evidenza di fabbricato Nell'atto di costituzione Ribadisco Ma forse Ripeto sempre La stessa cosa Che Non possiamo votare Una delibera Che dice Di prendere atto Di approvare Lo schema Di atto Quando invece C'è un atto Firmato Anche da altri Parti Che nel caso Specifico E' il tecnico Funzionario Dell'Aslo Non possiamo votare Facendo finta Che non ci sia Questo atto Che soltanto In questo momento Ci avete Sottoposto Dopo Quello che abbiamo Dovuto fare Per averlo E che spero Che non può Non accada più Perché io non mi posso Prendere per pazzo E chiedere l'intervento Gli ufficiali Di PG Per avere le carte Su cui votiamo Ma la bontà Di tutto L'argomento Certo Atto di convenzione Con l'Aslo Sto parlando Dell'atto di convenzione Con l'Aslo Che non riporta In nessun modo Il fabbricato Che c'è scritto Nella verità Però Il problema Ne pongo io Per legge Noi Per legge Noi dobbiamo avere Le carte Che ratifichiamo Prima del consiglio E gli sono venuti incontro Ho detto La prima fase Ho detto subito Convochiamola Alle 4 oggi Di pomeriggio Sospendiamo Leggiamoci le carte Più Buona predisposizione Di questo Perché c'è No Si deve votare E io ho chiesto L'intervento Gli ufficiali Il PG Perché non è possibile Votare il falso Noi avremmo votato Il falso E non è possibile La bontà Votare lo schema Dell'atto Che non portava Alcuna E' uguale Lei mi assicura Che è identico Ce lo dobbiamo studiare Lei prima ha detto Che erano state Apportate delle modifiche All'atto L'ha detto Che ha firmato Il 17 Ed erano state Apportate Pietro Pilerci E alla presenza Dell'ingegneri Il schema dell'atto Che votiamo Non è corredato Dalla documentazione E mi richiamo Anche al contratto Di compravendita Presupposto Al contratto Di compravendita Presupposto Vabbè Se vuoi Vogliamo tutti insieme L'atto di rendita Presupposto E' di quest'anno Di pochi mesi fa Deppi segretare Lei mi insegna Due giorni fa Mi insegna Ancora di più Che ci possono Scusate Adesso Voglio finire Voglio finire Se facciamo così Non finiamo mai Non era rivolto a te Dobbiamo Io voglio risolverlo Il problema Senza incappare Sta a parlare Però sta a parlare Un attimo Mi voglio dire E' realo Perché andiamo a firmare La vota è falsa Chiariamo le cose Ok Vogliamo ascoltare Un attimo La proposta Però volevo Solo dire una cosa L'atto è talmente recente Che può essere Comunque impugnato Da terzi Che hanno diritto E allora voi fate il vostro lavoro Io faccio il mio E Mario Pesca fa il suo Stiamo dando dei consigli Nell'anno Ci possono essere? No? Allora La nota di trascrizione La possiamo avere? L'atto lo possiamo avere? Possiamo leggere? Non me l'hanno dato? Non ce l'ho? Io qui Non ce l'ho Vabbè Possiamo acquisirgli Questi altri O no? Ma La fede No io Voglio capire una cosa Mi possiamo venire Questi altri La nota di trascrizione Non c'è ancora Sono stato fatto due giorni fa Cioè tutti ci sono 20 giorni 30 giorni Quindi l'atto che pubblicizza la vendita Erga Hommones Nei confronti di tutti Non lo abbiamo ancora? No No L'atto c'è Ma Io non lo so Guardate Condizionate Allora Condizioniamo diversamente Questo Consigliere Non voglio parlare più Di bozza di atto Perché c'è un atto Condizionamolo diversamente Allora Come Allora Possiamo Allora Soltanto Però dobbiamo rispettare Almeno i turni Nell'atto Allora Assunzio Stiamo cercando Di risolvere il problema Consigliere Pesce Allora Se il segretario generale Nella sua funzione Consigliere Pesce Consigliere Pesce Se il segretario generale Nella sua funzione Si assume Le responsabilità Come se le ha assunte Già nel momento Che mi rappresentava Di aver fatto Le visure vendennale E l'architetto germinare Mi dice che non è così Però va bene A me mi interessa Che se le assuma lei Non le ha fatte Ok bene Ciò significa Non ci sta il vendennale Lei è ancora convinto Di tutto quello Che suggerisce Perché il nostro supporto È la sua persona Importante Che noi Acquisiamo Raffaele Raffaele Acquisiamo Ai sensi dell'articolo 49 La dichiarazione Del segretario generale Poi stiamo facendo Con l'ingegnere Marciano Un'altra riflessione C'è un altro errore Ecco la collaborazione Prego Ingegnere Marciano Praticamente Che cosa succede Vi è recitato Questo allegato A Nell'allegato A Ci è riportato Il fabbricato Grappato al terreno Eccolo qua Il fabbricato Grappato al terreno Questo è il fabbricato Questo è il fabbricato Questo è il fabbricato Che tutto intieme Tutto unito Cioè praticamente Il fabbricato È parte integrale O integrante Di quello che è Il resto Della Pertanella Però Sì Però purtroppo Non l'ha richiamato Non l'ha richiamato Però Allora ma un manufatto Allora Allora Voglio fare Voglio fare Voglio fare Voglio fare Ma urbanisticamente Giuridicamente Voglio fare Voglio fare Una Voglio fare Posso fare Posso fare Il discorso giuridico Allora Su questa convinzione Che adesso Noi andiamo Che è stata fatta Dal segretario comunale No E Posso Se Eh Voglio Allora E voglio fare Stanziti gli altri Per te Consigliere Pesca Però Qua mi sembra Veramente Un attacco Troppo frontale Allora Se noi andiamo Direttamente Alla proposta Faccio votare E andiamo avanti Allora Il discorso Qual è Il discorso È questo Nell'atto Che è stato Predisposto Dal segretario comunale Bastava indicare Giustamente Soltanto Il terreno Perché Tutto ciò Che è sul terreno È di proprietà Del proprietà Del terreno Per cui Il fatto Che poi è stato Riportato Qua sopra L'immobile È un fatto Importante Ma Che era necessario Quindi Hanno fatto Benissimo A farlo Però Però La gestione Riguarda L'immobile Perché C'è Il terreno C'è Tutto ciò Che c'è Anche Sull'immobile Stesso È pacifico Questo Questo è Un fatto Giurito Ma è così Se io dicendo Per 99 anni Quello è il terreno Tutto ciò Che c'è sul terreno C'è l'eccezione Da immobile A immobile Si trasferisce Al concessionario Per 99 anni Ma è fatto benissimo Ma è chiaro E' chiarissimo E quello sto dicendo Così Quello sto dicendo Voglio tranquillizzare Anche un'altra cosa Se il segretario comunale Ci ha richiamato L'atto pubblico Per quanto riguarda La visura 20 e nale Noi sappiamo Perfettamente Che Il notario Nel momento in cui Va a fare Una gestione Di un immobile Già di per sé Lui stesso Va a constatare Che quell'immobile Che viene ceduto Ha avuto No I tutti i notari Nel momento in cui Fanno L'atto pubblico E' chiaro Che già di per sé Attestano Che quel terreno Che viene Compramentato E' di proprietà Del venditore Anche i sensi Da lui Questo è il concetto Allora Giustamente Noi oggi Abbiamo portato E ha votato Il consiglio di pesce Ha dato questo contributo Noi andiamo a provare Quello che è già stato L'atto pubblico Che era stato sottoposto A condizione sospensiva Possiamo fare tranquillamente Adesso La votazione Con quello che sono Quello che diceva Il consigliere Il consigliere pure La porta All'integrazione E la delibera Ma stiamo più sereni E tranquilli Che quello che votiamo E' questo E' questo L'atto qua Che già abbiamo fatto Ok Quindi Sindaco Se fai la proposta Dell'emendamento Allora Al punto 3 Poi Il consigliere La porta Mi è evitate Nella stesura Di prendere atto E approvare Lo schema Dell'atto Di costituzione E diritto Di superficie La convinzione È già fatta Si può votare Si può votare Questo non è Assolutamente Sì Perché è quello Che è stato Trasmesso Nel Allora Potremmo fare Allora 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 Il sindaco Sta proponendo Il suo emendamento Possiamo dire una cosa Lo schema Allegato Allora Possiamo fare Questo E' Integra Per favore Non ho capito Non rinunciate Deve essere riportato Negli altri Andiamo avanti Con la proposta Prego Sindaco E per favore Nessuno interrompa più Il sindaco Solo Mi ha chiesto Solo Il consiglio La porta Di cui il sindaco Ha chiesto Raffaele 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 Ai sensi Dell'articolo 49 Del testo unico Sia il segretario Generale Che i tecnici Che intervengono Come parere Per me Nel momento Che c'è il loro parere A me va bene Ok Perché a me Interessa Il parere Del segretario generale E dell'ufficio Tecnico Ingegnere Sica O l'architetto Gerdinato Il parere Nel momento Che ci sta Favorevole E legittimo Per me Va bene La delibera Mentre La sostanza E il contenuto Che non deve essere Solo quel sito Ma altre aree Tra cui Allora Dipendere atto Il punto 3 Dipendere atto E approvare Lo schema Dell'atto di costituzione Ditto di servizio Tra i comuni Di Agropoli Lasso Salerno Per la concessione Dell'area Distinta in cadastra Foglio 28 Particella Mila Del comune di Agropoli Così come Trasmesso In subordine Così come Aspetta Così come Trasmesso Nei termini Di legge Virgola Per il potenziamento Dell'assistenza Territurale Di cui Al PN È legato La presenza In subordine Di individuare Di individuare Altre aree Di proprietà comunale Giustamente O della stessa Assel Salerno Salerno Vi dico Che Diciamo Mettiamo Mettiamo Allora Stiamo Alla follia Se loro si convincono Che c'è scritto Nel bar Allora Se l'asle Teneva delle aree Di proprietà L'ho realizzato Sulle aree di proprietà Io sto dando Un'indicazione Diciamo Allora Certo Queste qua Sono Sono cose Che si fanno Sul suo Di comunale Non sul suo Deve Non è caso In questo Arco Comune Hanno venuto Da una Così mi ha detto A me Che il funzionario Ci ho parlato Anch'io Ho avuto D'assicurazione Allora Forse si è aggiornato Perché alla domanda Forse Ha ristudiato L'argomento Che ha capito Che stavano Dopo che Avete scelto Quest'area Allora Quindi dopo La parola Deliberazione In subordine Di individuare Ove possibile Altre E nei termini Previsti Per il finanziamento Altre aree Di proprietà Del comune Del comune O E o Di altri Enti Tra cui Lasero Lasero Stessa Lasero Stessa Il sindaco Il sindaco Il sindaco Propone Il seguente Emendamento Di modificare La proposta Così come Fatta In Prendere atto E approvare Lo schema Dell'atto Di costituzione Di superficie Eccetera Eccetera Così come Trasmesso I consiglieri Comunali Nei termini Regolamentari In subordine In subordine Di individuare Individuare Altre aree Nei termini Previsti Ove Possibile Ove Possibile Altre aree Termini Previste Dai finanziamenti Di proprietà Di proprietà Comunale O di altri Vienti Di compresa Vasta Ma Scusate Ma perché Ma perché Ma perché Non ci riportiamo Come già Trasmessa L'atto Scusate Scusate Ma con molta Tranquillità Nel momento In cui Prendiamo Atto E non facciamo Più storiche Soltanto adesso C'è stato Dato l'atto E che Assessore dice Che non è Diforme Dallo schermo Votiamo L'atto Non scriviamo Cose che possono Inputere In situazioni Ma se Scriviamo Lo scriviamo O meno Consigli Tu mi inviti A nozze Quando mi dici Questo Però dobbiamo Dare atto E c'è Pervenuto In questo momento Il problema In questo Non è Non è Non è Non è Non c'è Già l'atto Che è nato Allora Ti facciamo Le vendamento Vi facciamo Le vendamento Allora Il sindaco S'è disposto Il sindaco Anche su proposta Del consigliere Pesce Ementa Ementa La proposta Come di seguito Quindi aggiunge Aggiunge Pesce Come pesce La proposta Del consigliere Pesce E la proposta Ementa La proposta Nel seguente Aggiungere Alla proposta Di approvare Di prendere atto Di approvare L'atto Di costituzione Di superficie Virgola Così Come Così Come Reso Conoscibile Sciibile In Data Odierna A tutti I consigli In subordine Di Individuare Se possibile Individuare Se possibile Altre Are Se possibile Nei Termini Del Finanziamento Altre Are Comunali E O Di altri Enti Inclusa La Stessa As Va bene Votiamo Votiamo Per L'emendamento Chi è favorevole L'emendamento Unanime Adesso Adesso Votiamo La delibera Così come Emendata Chi è favorevole Unanime Unanime Qua dobbiamo votare Però L'immediata Eseguibilità Chi è favorevole Conforme Conforme Benissimo Siamo riusciti A Non abbiamo finito C'è un altro Bu Sì c'è un altro Voglio però dire due Voglio prendere atto Prendo atto Dello spirito collaborativo Dimostrato dai consigli Di minoranza Perché Effettivamente Questa è un'opera Che tutti quanti Riteniamo Utile E necessaria Per la nostra Collettività Grazie Grazie Sindaco Andiamo avanti Con l'ultimo punto All'ordine del giorno Variazione Di bilancio Di previsione Armonizzato 2022-2024 Adostata in via D'urgenza Da una giunta Comunale Con deliberazione Numero 292 Del 16 922 Ratifica E qui Che l'azione Sindaco Grazie Presidente Allora In data 16 Settembre 2022 Con delibero Numero 292 L'aggiunta Comunale Su mia proposta Ha approvato Questa variazione Di bilancio In via D'urgenza In quanto Ha dovuto Recepire Finanzare In uscita Innanzitutto Sono due Le variazioni Che ha oggetto Questa Delibera La prima In uscita Un finanziamento Da parte Del ministero Dei servizi Sociali Di un contributo Assegnato A comuni Agropoli Di euro 30.343 Per l'assistenza All'autonomia Alla comunicazione Degli alunni Con disabilità E la seconda Più consistente Di euro 420.658 Su richiesta Dei responsabili Dell'area Assetto E l'utilizzazione Del territorio Il quale Ci comunicava Che la regione Campania A seguito Del finanziamento Concesso Per i lavori Di restauro Di qualificazione E recupero E sanamento Conservativo Del castello Del comune Agropoli Di euro 4 milioni 473 365 1.165 1.165 Ci aveva chiesto Un confinanziamento Da parte Del lente stesso Di questa cifra Di euro 420.658 2.19 Qui Questa variazione L'abbiamo poi Apportata Nel bilancio Prodennale Nell'annualità 2023 E dove abbiamo Trovate le risorse Necessarie Affinché Poi Lo stesso responsabile Dell'area Tecnica Potesse trasmettere Dalla giunta Regionale La variazione E il confinanziamento Che ci aveva richiesto In modo che poi L'ITEL Di deliberazione Definitiva Del decreto Di finanziamento E' andato avanti Ed è L'architetto Cimera Micodeca Se mi sbaglio La definitiva Trasmissione Del decreto Di approvazione E' pervenuta A questi uffici Una decina di giorni fa La settimana scorsa Quindi A seguito di questo Adesso gli uffici Potranno Iniziare Tutti gli atti Necessari Per l'esperimento Dei lavori Aspettando Se ne chiede L'approvazione Prego Consiglio Sottratte Altre poste Di quanto riguarda La spesa In conto capitale Meglio Nello specifico Le dico subito Sono state Sottratte Dell'area Gestione Ufficio Urbanistica Circa 210.000 È stato Diminuito Il fondo Passività Potenziale Per 100.000 E per Arrivare Alla cifra Di Altri 210.000 Per Le opere Di difesa Del suolo Opere Difesa Solo Non riesco a capire Perché abbiamo Un'entrata No no Nella parte Spesa Nella parte Spesa Solo Che È stato Diminuito Le risorse Destinate A questi Investimenti E da dove Le prendevamo Per Difesa Tuolo È una curiosità Giusto perché Non si Erano già state Previste Nel bilancio Così come Approvato Dal commissario Ossor Abbiamo Diminuito Le risorse Però Lei è un tecnico Sa bene Che quella Spesa È una spesa Che era Prevista Però Comunque Noi a giorni Appronteremo Poi Il bilancio No va bene Il bilancio Sarà Un ribasso E avremo Il controbilanciamento Sì Non c'era Sì Che sarà Poi premuta Di questi Uffici Contrattare Con la regione Il finanziamento Anche di questa Cifra Che per il momento Ci ha chiesto Come cofinanziamento E quindi Ci sono anche Buone possibilità Che la regione Ci incrementi Il finanziamento Concesso È importante Che la procedura Di appalto Venga fatta Con il massimo Ribasso Architetto Perché solo così Possiamo Non toccare Il bilancio 2023 Che farà già Un bilancio Di lacrime E sangue Visto poi Quello che si sta Verificando E allora Alcone E lo so Però metti Una percentuale In più Se fai Un'offerta Migliorativa Per il ribasso Perché così Recuperi il ribasso E lo andate Autorizzare Almeno Al ristoro Noi come gruppo Formuliamo Un parere Di votazione Ci asseriamo Grazie Prego È evitabile Perché si inclinano Anche i rapporti Facciamo una figura Che secondo me Non va bene Quindi Quando uno dice Una cosa Non lo fa Per far cadere L'errore Lo fa Per evitare L'errore Almeno io così Penso di fatto Ok Quindi Poi tutto finisce qua La discussione Ha dato dei frutti positivi Alla fine Però Sono il primo a dire Vanno evitare In un certo modo Le discussione O delle cose Dato che non è materia mia Ci sono atti Già Attribuibili Al commissario straordinario Sui quali Poggia il tutto Che Ha Emesso Una deliberazione Il 10 giugno Il 12 si votava Vabbè su questo Lasciamo stare Quindi Andava patta Si vede Con un termine Finale Per suo mandato Quello che non capisco Ha fatto un accendo La porta Che dove andiamo a prendere Alla fine Sono questi 420 mila euro Che servono Perché è cambiato Il tariffario Egenio civile No Così lo spiegavano Pure ai cittadini È cambiato Il tariffario Egenio civile E quindi Bisogna recuperare Questi 420 mila euro Poi ci sono 30 mila Lì in entrata Mi sembra Quello è un'altra cosa Noi andiamo a togliere 110 mila euro Al fondo Risorse decentrate Incentivi di progettazione Quindi Incentivi ai dipendenti Degli uffici tecnici Acquisto di servizi Prestazioni specialistiche Urbanistica 102 mila Passa euro Di che tipo Sono queste Prestazioni specialistiche Acquisto di servizi Premesso che ci vogliono Questi 420 mila euro Spero che la regione Geli via tra l'altro Fondo contenzioso E passività potenziale Di 100 mila Ma il contenzioso Si è ridotto Per poter togliere 100 mila euro Al contenzioso Sono Non è una Una critica È per capire Alcune cose Che Sulle Sulle quali Ho E poi Per quanto riguarda L'altra voce Di variazione Che sono interventi Che soggetti A rischio di esclusione sociale Benvenga Sicuramente Li andiamo a togliere Sono solo 10 mila euro Li andiamo a togliere 4 mila Gestione economica Finanziare Programmazione E proprio di peorato Ma 6 mila Che sembrano pochi Ma pochi Non solo In queste fasi Di calamità Li andiamo a togliere La difesa del suolo In questo momento Li possiamo togliere 6 mila euro Che sembrano pochi Dalla difesa del suolo Sono sul bilancio 2023 Sono sul bilancio 2023 Certo Comunque Queste sono Ovviamente Per aver fatto queste scelte Ci sono delle motivazioni Non è che sto dicendo Che siano infondate Non c'era dove poter Spero che il condensioso Diminuisca Ovviamente Grazie anche al consigliere Delegato E quindi La variazione Fondamentalmente È di 4 milioni È passo di 2 milioni La variazione Su quei lavori Perché È difficile capire Bene Le voci Di bilancio Perché io ho trovato Nelle voci relative Al castello Innanzitutto Gli allegati Sono depositati Presso l'ufficio Di segreteria Invito Pacificamente A fare in modo Che gli allegati Invece Siano Depositati E resi pubblici Per tutti Non in segreteria Cattacei Ma pubblicati Sul sito Sull'albopletorio Magari Possiamo fare Questo Visto che Come l'avete Che Va fatto Va fatto Lo dico ogni consiglio Comunale Pubblichiamo Tutti Ma Vi chiedevo Questo Mi aiutate a leggere I residui Che leggo Spese Interventi Di recupero Castello Su questi sindaco Mi puoi dare Insegnamenti Perché sono I residui Di spesa Che sono 132 mila euro E di entrata Che sono 81 mila euro Cioè Si rifanno A lavori Già fatti Sul castello Che sono rimaste Somme Non li capire Questi residui Non riesco a capire Allora Stiamo parlando Sì Valutabilizzazioni Bene Interesse storico Ci sono residui Previsioni di competenze Previsioni di cassa Sia Come spesa Che come entrata C'è la voce C'è la voce Appunto Questa voce 131 mila E 81 mila Quindi C'è un Uno scribe 50 mila euro Si rifanno A finanziamenti Già avuti Lavori già fatti Una cosa Per capire Anche le voci Di bilancio A chi Fa il consigliere Da poco tempo Perché ci sono Te li posso pure Sarete Sarete capire Sarete capire No questi qua Non è individuata L'opera Precisa Sono residui Di varie voci Del bilancio Degli anni precedenti E poi ci sta la voce C'è la parte Di competenza Dell'esercizio Quindi Quelli individuati Quelli individuati Quando viene approvato Sì perché Quello deve pareggiare Il bilancio Il bilancio deve pareggiare No no Assolutamente Sono state individuate Diciamo così Sono state Tolte Risorse Che Nella redazione Del bilancio Pluriennale 2022 2024 Nell'annualità 2023 Erano destinate Per altri interventi Le abbiamo Ripetite Togliendole Da quegli interventi Per poter finanziare Questo Però Nell'annualità 2023 Per lavori Che non ricordo Quale Un'altra cosa E finisco Il parere Dei revisori Dei conti Che Per la risoluzione Che voi citate Quella del ministero Di Salento Del 95 Quindi anteriore Al Tuel Non andrebbe Preso Non andrebbe Acquisito Prima Della deliberazione Cioè Questa è un'altra cosa Cioè È dibattuta La cosa È dibattuta Probabilmente Sarebbe Diceverlo Prima Il parere Dei revisori Farebbe Nient'altro Che stare più sicuri Sulle Con le deliberazioni Ma questa è una mia visione I revisori Sono Ocrono Consultivo Del Consiglio Comunale Quindi loro Devono dare parere Per quanto riguarda Gli atti Che poi Sono di competenza Del Consiglio Comunale Sicuramente Quindi Nelle mode E un'altra cosa Senza nulla Togliere Al qui presente Architetto Cerminara Perché stiamo parlando Dei lavori Sul castello No Prima l'abbiamo detto Speriamo Evattano Subito dopo Il Borgo Di Babbo Natale Si può ritenere La necessità Di nominare Una commissione Di tecnici Esperti Nelle varie Branche Del recupero Architettonico Ad accompagnare Il lavoro Del Ruff Che sicuramente Sarà fatto Egregiamente Io ho visto La disposizione Subito Ho visto Il progetto E ho acquisito I pareri Due pareri I proprio pareri La sovrintendenza Quindi È opinabile Può piacere Non può piacere Però c'è stato Un lavoro Quindi L'architetto Cerminara Effettivamente Si è messo a disposizione Mi chiedo Per un'opera Del genere Di recupero E di restauro Premesso Che I pareri Che dà la sovrintendenza E noi Settiamo qualcosa Che non lo ha dato Per Viale Carmine Rossi E lo ha dato Per il castello Di Rocca Quindi C'è ballerina Come predisposizione Non conviene Avere una commissione Di tecnici Una domanda Le faccio Che esula Dall'argomento Pensiamoci È un invito Anche un archeologo Con un aspetto Di restauro Senza nulla Togliere Il barisco All'esperienza Del professionista Che curerà Come responsabile Unico Del procedimento La cosa Non invito A pensarci Va bene Io Mi asterrò Perché I conti precedenti Ovviamente Non ho avuto Va bene Allora Procediamo Con la votazione Chi è favorevole Chi è contrario Chi si astiene Pesce Serra Santo Suosso La porta E si è allontanato Sì Votiamo L'immediata eseguibilità Chi è favorevole Vabbè Come sopra Chi è contrario Chi si astiene Sempre Pesce Serra Santo Suosso La porta Prima di concludere I lavori Penso di parlare A nome di tutti I consiglieri Assessori Per l'amministrazione Per un Caro abbraccio Con in bocca al lupo All'assessore Vice sindaco Vanna D'Arienzo E poi a livello personale La ringrazio Per tutto quello Che ha fatto Avendoci collaborato Per vari anni Volevo ringraziare Tutti i consiglieri Di maggioranza E di minoranza Che hanno permesso Di fare in maniera urgente Il consiglio comunale Grazie E alle ore 15 e 50 Dichiaro chiusa La settimana